Sono partiti! È partita! Finalmente! Ancora, lo stanno già messo in equilibrio, è un buon vantaggio, sta guadagnando, sta guadagnando! Colpo di scena! Ai 400 metri colpo di scena! Attenzione! Valle Filiarema con senza croce per entrare nel mito, nella leggenda, il gioco sarà incancellabile per sempre! Buonasera, buonasera e buon ferragosto, anzi buon pomeriggio, visto che andremo avanti fino a sera con questa diretta lunghissima, ma siamo nel primo pomeriggio in diretta da Porto Santo Stefano per trasmettere la 77esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentale. Abbiamo visto la sigla accattivante realizzata da Mirko Matteacci, a cui facciamo i complimenti perché è una sigla che a noi è piaciuta, spero che piaccia anche a voi a casa pubblico che vuole seguire il Palio Marinaro dell'Argentale in diretta da Porto Santo Stefano. Dicevo, una diretta lunghissima, siamo visibili in tutto il mondo grazie a una copertura mediatica straordinaria, satelliti, digitali terrestri, streaming, vari, tra poco poi li elencheremo così se volete informare anche amici che sono in ogni parte del mondo, possono seguirci in diretta. Questa è già una splendida immagine che ci sta proponendo la regia di Porto Santo Stefano, un luogo incantevole sulla costa d'Argento, per chi non lo sapesse, siamo nella Maremma, siamo in costa d'Argento, siamo a Porto Santo Stefano. Prima però di entrare nel vivo di questa diretta permettetemi di rivolgere un pensiero alle vittime. Sappiamo che l'Italia e Genova ieri è stata colpita da un gravissimo lutto, una tragedia assurda, incredibile, che ha inghiottito troppi esseri umani, troppe persone che ci hanno lasciato. Quindi l'Italia è il lutto, Genova è il lutto, noi ci uniamo a questo lutto, ma sappiamo che la vita va avanti e quindi cercheremo di rendere frizzante questo Palio per tanti motivi, anche in memoria di chi non c'è più e dei loro familiari che stanno vivendo davvero momenti difficili e di grande dolore. Quindi anche il Palio Marinaro dell'Argentario, anche la copertura mediatica, anche la Maremma, anche la costa d'Argento, anche Porto Santo Stefano, si unisce al dolore di chi ieri, 14 agosto 2018, ha perso la vita in quell'assurdo ponte che è crollato appunto a Genova. Detto questo, andiamo avanti, lo abbiamo detto anche per onorare la memoria di chi ieri ci ha lasciato. Oggi è Ferragosto, a Porto Santo Stefano il Ferragosto coincide con uno dei pali più attesi in assoluto nel panorama nazionale. A me viene voglia di dire, di definirlo, il palio più bello che esista perché è un palio straordinario, strepitoso, con quattro rioni che si contendono la vittoria. C'è uno stadio in mare, che è uno stadio naturale, lo stadio del Turchese, in queste acque limpide, straordinarie, dell'Argentario e davvero è un palio meraviglioso, che si corre su quattro mila metri, questo lo dico a beneficio di chi si ponesse per la prima volta all'ascolto, per chi scoprisse oggi, per la prima volta il Palio Marinaro dell'Argentario. Ma lo rammento anche per chi oramai è un habitué, perché da anni c'è questa copertura mediatica che ricorda è talmente capillare che è visibile in ogni parte del mondo, sia sul satellite, sul digitale terrestre, che in streaming e quindi è un appuntamento assolutamente imperdibile. Ogni anno ci sono record di ascolti, confidiamo anche oggi di farne così tanti come gli anni precedenti e magari anche migliorarsi, seppure migliorare dei numeri stratosferici è difficile. Proprio per parlare di questa copertura mediatica, dello sforzo di realizzare una diretta così lunga e complessa, qual è quella di un palio in mare lungo 4 mila metri, con un percorso di 400 metri, da ripetere 10 volte, iniziamo proprio con la direttrice o direttore della televisione, Greta Settimelli. Buonasera Greta. Buonasera a te Paolo, mi unisco intanto al messaggio che tu davi per le vittime di Genova, perché ce ne sono due arettini, due ragazzi, due giovanissimi fidanzati, quindi anche la comunità aretina in questo caso è il lutto, insomma è vicina a queste purtroppo tante vittime. Però come dicevi giustamente tu, ovviamente dobbiamo andare avanti, oggi è un giorno di festa per Porto Santo Stefano, io ti ringrazio per le parole belle che hai dedicato alla nostra struttura. Assolutamente vere, perché è qualcosa che vi siete conquistati nel corso degli anni. Questo fa molto piacere, però ricambio i complimenti, perché io ho visto il palio negli ultimi 2-3 anni da casa, grazie a te siamo riusciti quasi ad essere presenti, con il tuo commento e con il pathos che tu metti appunto nel portare a casa di tante persone questa bellissima manifestazione. Io ricordo, poi magari tu avrai modo di ricordare anche la copertura satellitaria, ma oggi siamo nell'era di internet e la nostra televisione è ormai una web tv a tutti gli effetti, quindi sul sito www.arezzotv.net voi trovate proprio la diretta streaming del nostro segnale oppure nel YouTube ufficiale di Arezzo TV o nella nostra pagina Facebook. Ormai non possiamo prescindere, Paolo, dai social network. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione che si è recentemente insediata e che ha di nuovo creduto nella nostra struttura. Buon palio, si dice così? Buon palio, sì sì sicuramente, anche perché buon palio è generico, è una parola neutra, quindi non si può dire che porta bene o male a qualcuno perché il palio è per tutti. Vogliamo ricordare velocemente anche tutti i canali, più che i canali, diciamo ogni mezzo, con quali mezzi è seguibile oggi il palio Margaro e l'Argentario in diretta da Porto Santo Stefano, 15 agosto 2018, lo ricordiamo perché è una manifestazione stupenda, meravigliosa, corredata da immagini straordinarie che faranno il giro del mondo, che faranno apprezzare l'Argentario, Porto Santo Stefano, nonché ovviamente la manifestazione che è il clou, ricordiamo la partenza prevista ai 19.15, quindi ancora mancano moltissime ore, ma noi siamo già qui. In diretta vogliamo dire con quali mezzi è possibile seguire in diretta questo evento oggi, 15 agosto 2018, perché magari chi ci sta ascoltando può fare un buon servizio agli amici, ai parenti, a chi è interessato per vari motivi e dirgli guardia ti puoi vedere in diretta il palio Margaro e l'Argentario in questo posto. Allora sul digitale terrestre, quindi la tv più classica diciamo, ci sono i due canali, che è quello di Arezzo TV, il 214 e quello di Dilucca 8 9, questi sono i numeri dei due LCN. Poi c'è la copertura appunto di cui avevamo prima del web, di nuovo ve la ridico, www.arezzotv.net, con un clic siete sulla nostra programmazione H24 e ovviamente lo streaming del sito, quello ufficiale del comune di Monte Argentario, che immaginiamo sia quello anche più seguito. Poi c'è la copertura satellitare, quindi per coloro che ci vedono diciamo oltreoceano, non lo so, vediamo dove arriviamo. Sì, sì, ma ci vedono in ogni parte del mondo, mi sono arrivati già diversi messaggi, ma confidando, vedi, vista l'esperienza degli anni scorsi, man mano che andremo avanti con la diretta, ci arriveranno messaggi da ogni parte del mondo che ci stanno seguendo. Ecco, io spero di non sbagliare i numeri, in questo caso sono l'839 e il 940 del buchet di Sky. Credo di aver detto un po' tutta la copertura che garantiamo a questa manifestazione. Bene, noi ringraziamo Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV, aspetta ancora un attimo, Siamo qui ancora in lunga, andiamo a tempo, perché le sedie sono tante, poi ovviamente ci raggiungeranno i rappresentanti di ogni rione quando cominceremo ad arrivare al ridosso dell'inizio del Palio, ma ovviamente anche alla sfilata che seguiremo con le immagini e col commento. Adesso sentiamo il pensiero di Vittorio Patanè, giornalista ma anche originario di Porto Santo Stefano, quindi in duplice veste, in quella di chi racconta il Palio ma anche di chi lo sente, di chi parte in causa. Vittorio Patanè. Intanto, buonasera a tutti, voglio unirmi anch'io al lutto per quanto è accaduto, 37 morti mi sembra, insomma, nel 2000, ecco, tre vittime toscane, nel 2018 è una cosa, potrei dire, paradossale che ci possano accadere situazioni di questo tipo. Però, ritornando a noi, io sono anche un po' di parte, io sono stato presidente onorario dalla Fortezza per circa tre anni, quindi voglio dire, per quanto possa essere distaccato, come dire, il mio cuore pulsa, no, per quei colori. Certo, comunque, da Santo Stefanese di origine, da chi ci ha vissuto, e devo dire che è sempre uno spettacolo il Palio Marinaro, ricordo questi momenti, i momenti proprio l'anteprima del Palio, con tutti i preparativi che in questo momento sicuramente i rioni stanno facendo, con i ragazzi che si stanno preparando per la sfilata, insomma, è un'aria che ritorna a respirare dopo tanto tempo e mi fa piacere. Anche se devo dire, mi aggiungo ai complimenti di Greta perché te li meriti, perché gli altri anni che vedevo il Palio per televisione, devo dire che riuscivo ad avere le stesse sensazioni, non dico come quelle di quando uno è presente, ma come se veramente fossi stato presente, grazie a quello che tu fai, a quello che tu dici per il Palio, a come lo presenti, a come ti poni e a quello che riesci a trasparire. Grazie Vittorio, volevo sottodire con queste immagini alle nostre spalle il Comune di Monte Argentario che adesso vedete insolitamente deserto, insolitamente perché fra qualche ora dopo il Palio ovviamente tutti i rioni saliranno sul terrazzo, ci saranno le premiazioni e sotto ci sarà l'apoteosi dei rioni vincitori. Quindi ogni rione, pilarella, fortezza, croce e valle sperano di riempire questo piazzale antistante il Comune di Monte Argentario tra qualche ora per festeggiare la vittoria ambitissima nella 77esima edizione del Palio di Mariano dell'Argentario. Noi siamo appunto, avete visto in che location davvero ottimale per raccontare il Palio, alle spalle il Comune di Monte Argentario, davanti a noi, oltre alle telecamere che ci stanno riprendendo, lo splendido mare che qua vedete, la regia attentissima subito ci porta, sullo stadio del Turchese. Arriviamo con queste splendide immagini del mare dell'Argentario, queste sono le immagini dall'alto, noi siamo lì sotto, quei gazebo, guardate, c'è chi si gode questo ferragosto, oggi peraltro una temperatura meravigliosa, dopo ideale, guardate che splendide immagini che arrivano dal mare, stupendo. Non ci ricorda ancora la visione dal drone. Sì, peraltro brava, ci ricorda Greta Settimelli che oramai è diventato un abitue, neanche lo lanciamo più con troppa enfasi, visto che è diventato un'abitudine avere il drone che ovviamente farà il proprio ingresso nel momento in cui inizierà la gara perché ci permetterà oltre che di avere immagini inedite, suggestive ed emozionanti, ma anche di vedere dall'alto lo sforzo dei vocatori, ci farà capire tante cose anche dallo sguardo, dall'espressione, qual è il loro stato d'animo, qual è il loro stato di forma, qual è il loro pensiero in quel momento. Insomma, il drone è assolutamente un valore aggiunto, direi la classica ciliegina sulla torta. È vero, è vero. Quindi grazie insomma a questi ragazzi di Drone Arezzo che sono con noi oggi. Benissimo, le ringraziamo e dopo li vedremo all'opera. Allora, arriviamo a Simona Pellegri che è la presidente di Argentario Vivo, tra poco vedremo delle immagini, ma prima giustamente Nedo Settimelli che è dietro mi ricorda che ha 30 anni che esiste Argentario Vivo, quindi un bel traguardo, un bel compleanno o magari anche un bellissimo nuovo punto di partenza dopo 30 anni. Ma spieghiamo, Simona Pellegri, visto che questa è una trasmissione che ovviamente è stravista all'Argentario, ma che ha picchi d'ascolto in ogni zona d'Italia e del mondo. E che cos'è Argentario Vivo? Vogliamo spiegarlo a chi non è dell'Argentario? A chi non è dell'Argentario ma soprattutto è anche bello portare l'Argentario a quei nostri paesani che sappiamo per tradizione si trovano all'estero, quindi i tanti marittimi... Molti sono imbarcati e sugli otte sono già sintonizzati sul satellite per seguire in diretta il paleo mareare dell'Argentario. Esatto, perché il legame con le tradizioni e con il giorno del paleo è sicuramente indimenticabile. Sono d'accordo, mi permette soltanto di aggiungere che in tanti altri posti è una frase fatta a Porto Santo Stefano, questo è un'autentica realtà. Si cala perfettamente nella realtà, esatto. Allora, Simona Pellegri, che cos'è Argentario Vivo? Allora, Argentario Vivo è nata esattamente 30 anni fa, a fine di settembre del 98, come associazione culturale. L'obiettivo, diciamo, il nostro argomento principale, cosa ci occupiamo soprattutto è la cura del corteo storico del paleo marinaro, quindi legati soprattutto alla tradizione del paleo e dei costumi del corteo storico, oltre anche a tante altre manifestazioni. Un altro appuntamento divenuto negli anni fondamentale, per esempio, è l'appuntamento con l'Epifania, con la Befana, quando consegniamo a tutti i bambini del paese, dei ospiti, ben 700 calze riempiti di dolci e di qualsiasi altro genere. Allora, la regia ci ha preparato le immagini realizzate la sera del 10 agosto. Esatto. Perché cosa succede la sera del 10 agosto a Port Santo Stefano, che è la sera delle stelle cadenti, la sera di San Lorenzo, ma a Port Santo Stefano c'è una rievocazione particolare la sera del 10 agosto. Che è la rievocazione del corteo storico, quindi usciamo quella sera con quest'anno circa 110 figuranti in costume. Ecco, intanto sono partite le immagini. Il suggestivo scenario è veramente emozionante vederli uscire dalla fortezza spagnola, quindi proprio... Vogliamo dire più o meno a che periodo storico fanno riferimento? A circa un 700, è il momento dei presidi spagnoli che qui erano i dominatori della zona. Qui siamo nella fortezza di Port Santo Stefano, no? Esatto, i figuranti scendono dalla fortezza al ritmo dei tamburini che precedono la sfilata e segue tutta la corte, corte e anche popolane, anche il popolo, rievocando quello che poteva essere l'immaginario, più o meno immaginario, passaggio tra le vie del paese e del governatore, che quindi quando si recava qui in visita nei presidi spagnoli, probabilmente usciva a salutare la cittadinanza con tutta la corte e con tutti gli abitanti di quel momento. Quindi diciamo è qualcosa che ha un valore importantissimo sotto l'aspetto storico, perché immagino che abbiate fatto una ricerca capillare di quello che effettivamente c'è, non è un'invenzione, diciamolo questo. Anche tutti i costumi, mi viene per esempio in mente quando abbiamo realizzato il costume del cardinale, che non è un costume scelto a caso, ma riprende esattamente una ricerca fatta sui dipinti dell'epoca, di quelli che erano, all'epoca c'era l'abbazia delle Tre Fontane, quindi proprio il costume è stato ricreato esattamente scegliendo di percorrere quei particolari. Hai ricordato l'abbazia delle Tre Fontane, perché ovviamente la storia poi si intreccia inevitabilmente anche con la fede, con la storia della Chiesa e attualmente Porto Santo Stefano fa parte della diocesi di Pitigliano Sovano Orbetello, ma fino a qualche decennio fa, cioè quindi in maniera proprio recente, faceva parte dell'abbazia delle Tre Fontane che faceva riferimento direttamente al Vaticano, e anche questo è un riferimento storico molto particolare, perché in pratica il Vescovo di qui era un delegato del Papa. Direttamente del Papa, ecco perché la figura del cardinale appunto era all'epoca un personaggio molto fondamentale, molto importante. Che era a stretto contatto proprio con il Papa, in pratica. A diretto contatto con il Papa. E qui intanto se puoi un po' commentare queste immagini che la regina ci sta proponendo. Esatto, qui abbiamo appunto visto sfilare all'inizio del corteo i tamburini, seguono poi un nutrito gruppo, diciamo in un crescendo di importanza, di ruolo sociale. Cominciamo con i bambini, con le giovani popolane, poi sempre più adulte, per arrivare poi ecco qui una coppia di dame e cavalieri. e arrivare a ruolo poi... Quest'anno erano 110. 110 è un numero davvero consistente, molto molto consistente. Qui vediamo la figlia del governatore della signora, quindi vediamo anche abiti per tutte le età. Diciamo abiti bellissimi, suggestivi, che ci fanno emozionare, ci calano perfettamente nel Settecento, abbiamo detto che siamo nel 1700. Diciamo anche che la Sede 10 agosto faceva caldo e sono abiti pesanti, quindi ciò comporta anche uno sforzo fisico, perché insomma con temperature elevate indossare questi abiti non è la cosa più semplice o quantomeno la cosa più gradevole che si possa fare. Diciamo che la scelta fatta negli ultimi anni di sfilare in notturna è sicuramente premiante, perché mentre prima sfilavamo nel giorno del palio, quindi il 15, uscendo più o meno dalla fortezza intorno alle 16.30, beh lì veramente era un sacrificio impegnativo. Mi sembra la scelta quindi sia stata oculata e giusta quella lì. Vedo che Vittorio Patanè annuiva mentre parlava di una bellissima. No, no, perché infatti ricordavo appunto la sfilata intorno alle 4-4.30 del palio. Voglio dire, c'è difficoltà a reperire persone? Allora, abbiamo sicuramente... Perché 110 sono un bel numero. Abbiamo sicuramente avuto molta difficoltà negli ultimi anni in cui sfilavamo di pomeriggio, perché mano a mano c'è stata appunto negli ultimi anni una organizzazione maggiore anche da parte dei rioni nel realizzare proprio le loro singole sfilate rionali che portava a noi un po' di... cioè... la difficoltà di reperire personaggi. Con l'ambientazione notturna, quindi non è solo un'agevolazione dal punto di vista... Del clima. Del clima, ma effettivamente è molto più semplice. Cioè chi non è costretto a fare una scelta in pratica. Esatto. Tra partecipare al corteo storico e partecipare al corteo invece dei rioni che partirà intorno alle 17. E ricordiamo anche... Documenteremo anche quello. Che ci sono tanti forestieri, tante persone che comunque ogni anno vengono in vacanza all'Argentario che ci chiamano e ci ricordano... Ricordatevi di noi perché partecipano anche tante persone che vengono da fuori. Anno dopo anno si sono... E questa può essere anche la dimostrazione di come il palio in qualche modo deve essere preparato tutto l'anno. È sentito. Ma poi c'è un lavoro veramente dietro incredibile durante tutto l'anno. La preparazione... Da 16 di agosto in poi parte la preparazione del palio successivo. Esatto. La preparazione dei nostri costumi dura 12 mesi l'anno perché ora siamo nel momento in cui vanno smontati, risistemati. Già vedete sono costumi ricchi di pizzi, merletti, sete, broccati, tessuti delicati che vengono anche ogni volta smontati, lavati, sistemati perché un pizzo basta un pezzettino e va risistemato. Quindi c'è un gruppo di signore che puntualmente ogni settimana in tutti i 12 mesi dell'anno si dedicano alla cura e alla manutenzione di questi costumi. Abbiamo sentito l'altra sera, era il 13 agosto, quando c'è stata la presentazione degli equipaggi il sindaco del Comune di Monte Argentario, Franco Borghini, ricordare come quest'anno la regione toscana abbia introdotto il palio marena dell'argentario come manifestazione importante, regionale, a punto di vista storico. Credo che il vostro evento abbia dato un contributo sostanziale importante, peraltro siete state anche in regione toscana a presentare il palio. Quando è stato presentato il palio alla regione, anche una nostra notizia rappresentanza, più o meno erano una ventina di figuranti, hanno partecipato a quel momento riscuotendo l'apprezzamento anche in regione, proprio per la cura, la particolarità dei nostri costumi. Noi ci siamo trovati anche in passato a partecipare a dei raduni storici con altre città del nostro periodo, i nostri, non per vantarci però, emergono per la differenza, cioè mentre i costumi delle altre manifestazioni storiche toscane o comunque delle nostre regioni vicine appartengono più o meno tutti al periodo medievale. I nostri sono diversi. Peraltro oggi, mentre qua vediamo splendide immagini dei rappresentanti del palio, questa è una splendida madrina della Pilarella, riconoscibile dal colore bianco, rosso e blu. E questi, ecco, altre madrine. Sì, sono gli altri rioni, la madrina della Pilarella, fortezza e valle. La madrina della Pilarella sfilava da sola in quanto era la madrina del rione vincente dell'anno precedente. Il capitano della Pilarella attendeva il corteo storico e gli altri rioni nel piazzale del comune. Questo che hai detto ultimamente, nell'ultima fase, parte del tuo discorso è particolarmente significativo perché come ogni evento, ogni manifestazione che ha un peso dal punto di vista storico, della tradizione, ha delle collocazioni ben precise e non casuali e tu le hai elencate molto bene. Cioè, la madrina che sta da sola non è una casualità, ma perché sta lì a testimonare che è il rione che ha vinto. Rappresenta il rione che ha vinto l'anno precedente. Esatto. Peraltro oggi sarà presente al Palio Eugenio Gianni, che è il presidente del Consiglio regionale, ospite dell'amministrazione comunale di Monte Argentario, proprio a testimoniare l'attenzione che la regione toscana riserva al Palio Marinaro dell'Argentario. Allora, se non ci sono altri commenti su questo aspetto, io darei la linea alla pubblicità e poi ci torniamo in diretta qua da Porto Santo Stefano per questa settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Diretta lunghissima appena iniziata. Abbiamo tantissime ore davanti per stare insieme a voi, per divertirci, per conoscere, per apprezzare, per gustarci quello che è l'Argentario, quello che è Porto Santo Stefano, quello che è il Palio Marinaro dell'Argentario. pubblicità, tra poco torniamo in diretta qua, insieme a voi. Allora, siamo di nuovo in diretta da Porto Santo Stefano, 15 agosto 2018, settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Abbiamo iniziato questa diretta che è ancora nella prima fase, una diretta lunghissima che ci porterà fino alle 19.15 al Via, al momento clou, quindi del Palio Marinaro dell'Argentario, poi proseguiremo in diretta fino alle 20.40. Abbiamo iniziato questa diretta ricordando, commemorando le vittime dell'assurdo incidente di ieri su quel ponte maledetto di Genova e c'è stata appena fornita la notizia a Ponte Morandi, c'è appena stata fornita la notizia che prima, quindi intorno alle 19 o 18.30, prima dell'ingresso dei guzzi in acqua tutti i vogatori si fermeranno con i remi in area e per un minuto di raccoglimento per onorare le vittime di ciò che è successo ieri a Genova. Greta Settimelli, credo sia un bel getto da parte del Palio Marinaro dell'Argentario. È bello sapere questo, noi ovviamente lo testimonieremo e appunto vedere quelle immagini veramente, non lo so, sembra impossibile che succeda in un paese civile, però purtroppo è successo e quindi credo che sia un omaggio bello e doveroso. Sono d'accordo con Greta Settimelli, Vittorio Patanè rientra un po' nell'ottica di queste manifestazioni come il Palio che sono momenti di gioia, di vera autentica festa popolare, ma sono momenti anche in cui si ricorda chi non c'è più, perché c'è l'attaccamento ai valori, in questo caso appunto vengono commemorate le persone innocenti che ieri sono cadute da quel ponte maledetto e non ci sono più. Questo rientra un po' nell'ottica però che il Palio è anche qualcosa di cuore, che offre sensibilità di grande spessore umano, infatti non a caso spesso viene ricordato chi ci ha lasciato nel corso dell'anno che però è stato attaccato al Palio, che è attaccato a Porto Santo Stefano, che è attaccato all'Argentario. Il Palio è tradizione popolare e la tradizione popolare porta in sé quelli che sono gli aspetti della vita e quindi la nascita, la morte, quello che accade. Io dico, ritornando a quello che è accaduto ieri, che è un bellissimo gesto da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto quello che verrà fatto da chi parteciperà al Palio. Però in Italia siamo bravi sempre il giorno dopo delle grandi tragedie. Dobbiamo trasformare, siamo bravi nel cercare di ricostruire, siamo bravi nell'intervenire, siamo bravi nel essere i primi ad arrivare a portare soccorso, lo sappiamo fare anche molto bene. Dobbiamo cominciare a essere bravi anche a prevenire queste cose, perché sennò è impossibile. Veramente non si può pensare nel 2018 a tragedie di questo tipo. Io ieri sentivo che c'era anche un ex giocatore di calcio della Sardegna. L'ex portiere del Cagliari. L'ex portiere del Cagliari, che ora sembra è un miracolato. È impossibile pensare che tu sei lì, che passi con la macchina tranquillo, con un mezzo di trasporto tranquillo e poi precipiti così da un momento all'altro. Insomma, non è assolutamente quello di un paese civile. Il Palio giustamente fa questo. Il Palio ricorda ricorda sempre tutti, perché è una questione di cuore, è una questione di valori, è una questione di storia delle tradizioni ed è, in questo caso, è anche storia del Palio e della gente santostefanese. Simona, Simona Pellegri, volevi aggiungere una cosa. C'è un legame un po' particolare che esiste. Genova, come il nostro paese, è una città di mare. Bravo, ha fatto bene questo accostamento. Tanti nostri paesani abitano a Genova perché imbarcati, perché comunque legati da questo filo conduttore che ci lega, che è il nostro mare, che oggi è il protagonista di questa giornata. Hai fatto bene a ricordare questo aspetto, città di mare Genova, città di mare Porto Santo Stefano. Io chiedo alla regia uno sforzo tecnico, un ulteriore sforzo tecnico. Se può fare una zoomata sul polso della mano sinistra di Simona Pellegri, perché c'è un braccialetto che può sembrare un vezzo, ma non è un vezzo. Ma in questi giorni non è un vezzo. Ha un significato particolare. Ma un significato, è quello che lo stanno rinquadrando. Perfetto, alla regia, guardate che bel primo piano, sul polso della mano sinistra di Simona Pellegri, che è la presidentessa di Argentario Vivo. Che cos'è questo braccialetto dei colori verde, giallo e rosso? Al di là della manifestazione Palio, poi ognuno di noi ha il proprio singolo legame. In questo caso, Vittorio, è la fortezza. Questo rione che l'anno scorso ci ha fatto tremare, avevamo queste grandissime speranze che avvenisse quel miracolo mai accaduto. Due coppe d'oro consecutive. Vabbè, ora ripartiamo. Vediamo se riparte con quest'anno un nuovo ciclo di vittorie. Sì, perché è il dopo Gabriele Solari, che è stato l'emblema di questi ultimi anni. Diciamo, forse di tutta la storia del Palio, credo che sia quello che ha vinto più di tutti in assoluto. Ha fatto la storia e vediamo se ripartiamo con una nuova epopea. Su come qua viene vissuto appunto il tifo, io lo vedo anche ovviamente poi facendo il paragone con la nostra città, quella di Arezzo. Ecco, qui è proprio un'espressione libera. Io vi faccio i complimenti, perché voglio dire, la Presidente di Argentaglio Vivo, che comunque dichiara la fedeltà ai suoi colori, io trovo che sia una cosa veramente... Coerente. Sì, esatto. Coerente. Perché poi alla fine ovviamente ognuno avrà il suo rione, no? E quindi nasconderlo diventa... No, no. Ha fatto bene Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV, a sottolineare questo aspetto, perché per tutto l'anno avviene, ma particolarmente concentrato nell'ultime due settimane, sono praticamente quasi tutti uomini e donne di Porto Santo Stefano che hanno un segno identificativo, cioè ci tengono a dire, a portare un segno dei colori che li identificano con quelli del proprio rione, è vero? E Simona Pellegri appunto non sfugge alla regola. Ho un bel braccialetto che peraltro ti dona benissimo. Ma noi ricordiamo che anche capitani dell'ente palio, i sindaci, cioè nessuno ha mai rinnegato anche nel momento del palio la fedeltà al proprio rione. Una cosa della vostra terra, che io insomma mi terrei cara, perché effettivamente è molto bella, anche da vedere dall'esterno, quindi complimenti. Ma infatti questo è un aspetto, vogliamo trasmetterlo a chi non è di Porto Santo Stefano, anche chi ha un ruolo istituzionale, sia in comune ma anche nell'ente palio, svolge perfettamente il proprio ruolo istituzionale, questo da tradizione sempre, però dicendo il mio rione è quello, cioè io sono istituzionalmente super parte, imparziale, però faccio il tipo per il mio rione. Diciamo anche perché conoscendoci tutti a Porto Santo Stefano viene difficile nascondere il fatto che ti fii per un rione o per un altro, però è vero questo, quello che state dicendo tutti, che c'è tante volte in altri posti c'è questa sorta di ipocrisia, per esempio quella di magari il sindaco, io sono super parte, invece gli ultimi sindaci hanno dimostrato e hanno detto chiaramente... No, erano super parte, però io faccio... No, 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 ma che c'entra? Però sapendo che avevano comunque una connotazione ben precisa. Non ricordo un sindaco degli ultimi anni che abbia mai rinnegato l'appartenenza proprio a Porto Santo Stefano. Assolutamente no. Simone Pellegrini, torniamo con l'associazione di cui tu sei presidente, Argentario Vivo, ha le immagini che tra poco la regia ci proporrà sempre della sera del 10 agosto. No, non solo le immagini, è la lettura del bando che però è stata fatta sempre quella sera. Allora, che cos'è questa lettura del bando? Prima di sentirla spiegaci un po'. Quando avviene, dove è collocata all'interno appunto della sfilata storica della serata e che cosa significa? Che cos'è la lettura del bando? La lettura del bando è la fase conclusiva della manifestazione del 10 agosto. è il momento in cui il corteo storico arriva nel piazzale antistante del comune dove ad attendere gli altri rioni, i rappresentanti degli altri rioni, c'è il capitano del rione che ha vinto l'anno precedente, in questo caso era il rione Pilarella, si arriva con gli altri rioni che per loro voce c'è il banditore, un nostro ufficiale con il costume spagnolo che legge appunto il bando di sfida rivolto dai tre rioni sfidanti al capitano del rione vincitore dell'anno precedente il quale logicamente accetterà la sfida, quindi accetterà di presentarsi nel campo di regata il pomeriggio del 15 agosto. E chi è che è effetto alla lettura del bando? E appunto è un nostro rappresentante in costume per portavoce dei tre rioni sfidanti. Vogliamo vederlo insieme? Certo. Poi lo commentiamo? Vediamolo. A tutti i cittadini di questo nobile rione e dal capitano, io banditore, porto la sfida per la disputa del settantasettesico palio marinaro dell'Argentario. Al ricordo della gente di mare dell'Argentario che nel 1500 a porto di un tartarone, armato di solo i dieci reni, riuscì ad avere ragione dell'invasore saraceno, rifugiandosi nelle acque miglia di porto Santo Stefano, dopo una lunga e furiosa regata che aveva come posti in palio la senza vita dei marinai. Noi, capitani degli univalde, croce e fortezza, per rendere onore alla storia della gente di mare, sfidiamo il vostro rione e pilarella a presentarsi il giorno 15 nel mese di agosto, dell'anno 2018 alle ore 19, innanzi al Palazzo Comunale di Monte Argentario, con un proprio vivaggio, composto da un timoniere e dai quattro voglatori più valorosi. La sfida avrà luogo sospetto di mare al distante al Palazzo Comunale, denominato Staglio di Turchese, su un percorso di 4.000 metri e con 9 virate. Vi sarà un solo vincitore, al quale sarà consegnato lo stendardo del settantasettesico Palio Marinaro dell'Argentario. Il presente bando viene eletto su questa pubblica piazza e lo stesso, munito di sigilli dei rioni sfidanti, viene consegnato nelle mani del capitano del rione pilarella che, ricevendolo al nome del rione che rappresenta, raccoglie la sfida a D10 del mese di agosto nell'anno del Signore 2018. Bene, un belloso applauso, un abbraccio. In nome del rione pilarella accetto volentieri la vostra sigla. Bene, siamo tornati in diretta, ovviamente siamo qua nel cuore di Port Santo Stefano, stanno iniziando a passare tanti rionali che ci salutano, ovviamente questo ci fa piacere perché ci immerge nel clima che sta crescendo piano piano, gradualmente in attesa dell'ora il 19.15 quando ci sarà il via. Però noi ovviamente stavamo seguendo, come voi da casa, la lettura del bando e chiedo a Simona Pellegri, Presidente dell'Argentario Vivo, le sue valutazioni, le sue considerazioni, risentendo a distanza di qualche giorno la lettura del bando in televisione. Una bella soddisfazione perché insomma mi sembra che anche quest'anno sia stato un bel corteo, molto partecipato e colgo l'occasione per ringraziare veramente a nome di tutta l'associazione le persone, quel gruppo di signore molto affiatate che veramente ci mettono l'anima tutto l'anno per far sì che questo sia possibile perché veramente è, ripeto, un lavoro intenso e lungo. Bene, un complimento a Simona Pellegri perché ci ha spiegato benissimo che cos'è Argentario Vivo, ci ha spiegato benissimo in maniera straordinariamente lucida e chiara il senso della sfidata, qui li vediamo altre immagini che sono veramente suggestive, ci piace vederle, davvero rendono bene l'idea di uno spirito che ci riporta indietro nel tempo, no? Vero? È un momento sicuramente emozionante, vederli uscire e sfilare lungo le del paese alla luce delle citronelle, di come si riesce a ricreare un'ambientazione molto, è bello, è suggestivo. Volevo fare una domanda a Simona, senti, cosa manca ancora per far sì che si possa dire del palio che vive 365 giorni all'anno? Cioè che cosa può fare anche Argentario Vivo o chiedere magari Argentario Vivo anche a questa nuova amministrazione comunale per fare in modo che il palio venga vissuto tutto l'anno, non solamente il giorno del palio? Magari con una manifestazione per il carnevale? Probabilmente ecco, proprio magari creare una serie di manifestazioni, noi non a caso ora stiamo studiando qualcosa per l'autunno, quindi cercare di destazionalizzare un pochino, non concentrandoci solamente sul periodo estivo e ricreare, magari ma chissà, partendo proprio da quest'anno con il nostro trentesimo anniversario della fondazione e provare a creare un evento che porti un po' il palio su tutti i 12 mesi dell'anno. Ricordiamo comunque che l'ente palio è impegnato anche tante altre manifestazioni, si va dal carnevale al palio di primavera, quindi insomma è già quello, negli ultimi anni è stato un crescendo di impegno nell'arco di tutto l'anno. Simona Pellegri, Presidente di Argentario Vivo, tra poco dobbiamo dare la linea di nuovo alla pubblicità e quindi finisce il primo step di questa nostra lunghissima diretta, però prima di salutarci con Simona Pellegri, Presidente di Argentario Vivo, le chiedo se c'è qualche altro aspetto che non abbiamo analizzato, che vuole dire qualche altro spunto che vuole offrire ai nostri telespettatori in questa giornata, che è la giornata di grande festa di Port Santo Stefani, 15 agosto, è una giornata dedicata al palio marinale dell'Argentario, edizione numero 77, quindi una tradizione solida, forte, sentita dalla popolazione in maniera reale, autentica, dove Argentario Vivo svolge un ruolo importante, l'abbiamo appena documentato con le immagini della nostra regia, ce l'ha spiegato bene Simona Pellegri, c'è qualche altro aspetto che ritieni giusto, opportuno, sottolineare in questo momento, in questa occasione. Ma senti, così a bruciapelo mi viene in mente di ringraziare voi, te Paolo per il calore che metti ogni anno e comunque tutta la trasmissione, perché veramente forse non vi rendete conto di quanto è importante portare il palio e tutto questo clima anche a casa di chi non può uscire, di chi si trova fuori, veramente ha un significato sociale molto profondo. Grazie, grazie a Simona Pellegri, Presidente di Argentario Vivo, e Greta Settimelli, non so se vuole, prima della pubblicità, e quindi ci congediamo con le due signore che ci hanno introdotto in questa prima fase di questa diretta da Porto Santo Stefano sul palio marinale dell'Argentario, Simona Pellegri, Presidente di Argentario Vivo, Greta Settimelli, Direttore di Arezzo TV. Direttore, che cosa dire prima di dare spazio alla pubblicità? Due cose molto brevi, la prima è tecnica, mi sono dimenticata prima nel raccontare la copertura mediatica che c'è anche il sito del lente palio che è la diretta streaming, quindi se qualcuno lo volesse seguire appunto da lente palio è assolutamente possibile. La seconda, chiederei alla regia, avevo fatto una richiesta di inquadrare uno degli operatori che è sotto il sole, e raccolgo il ringraziamento che ci ha fatto Simona, e lo rivolgo ovviamente, rivolgo questo ringraziamento alla struttura tecnica, davvero c'è uno sforzo importante, come diceva Paolo, proprio tecnico, ma anche umano ovviamente, dietro ad una diretta di questo tipo, quindi lo faccio adesso, perché poi magari alla fine ci saluteremo velocemente, poi lo sarò dal sindaco per le interviste finali, ringrazio veramente tutta la nostra struttura per questo sforzo importante, ecco lui e Raffaele. Gli facciamo un applauso a Raffaele, che è il rappresentante di tutti i tecnici oggi impegnati, perché ricordiamo questo, cioè riprendere una manifestazione in mare non è la cosa più semplice che esiste. No, assolutamente. Quindi grazie, buona diretta, buon tutto. Grazie a Greta Settivelli, direttrice di Arezzo TV, grazie a Simona Pellegri, Presidente di Argentario Vivo, Vittorio Patanella rimane con noi, noi diamo la linea alla regia per la pubblicità, tra poco tornamo in diretta e poi vi proporremo subito le fasi della sera del 13 agosto quando sono stati presentati gli equipaggi dei quattro rioni, ma tutto questo tra poco dopo la pubblicità. Non cambiate canale, anzi, se volete fare un favore ai vostri amici, segnalateli che c'è questa diretta straordinaria da Porto Santo Stefano per la settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Tra poco di nuovo in diretta con voi. Siamo tornati a Porto Santo Stefano, siamo nuovamente in diretta per la settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Cominciano ad aumentare il numero di messaggi, abbiamo messo anche una foto su Facebook per dire, per ricordare che siamo in diretta e pensate un po', abbiamo prima parlato sia con Greta Settivelli, direttore di Arezzo TV, che con Simona Pellegri di Argentario Vivo, della tragedia che ha colpito Genova e Simona Pellegri ha ricordato come appunto Genova città di mare, proprio come Porto Santo Stefano. Greta Settivelli ha ricordato come ci siano purtroppo anche vittime toscane nella tragedia, in mani di Eri, tre vittime toscane. Penso poi ci scrive Paola Lubrano su Facebook che dice, vi sto seguendo in diretta da Genova perché io sono nato a Porto Santo Stefano, ma sono residente da 50 anni a Porto Santo Stefano, fiera a Pirralellaia. Quasi a voler dare conferma a ciò che ha detto prima sia Simona Pellegri che Greta Settivelli. Greta Settivelli hanno detto bene perché c'è questo connubio fra la Liguria e la Toscana, in particolar modo Monte Argentario. Non per citarmi, ma insomma la mia famiglia, la famiglia di mia moglie ha tante persone, ha dei parenti ad Imperia e non è l'unica di Porto Santo Stefano, quindi è verissimo. E quindi proprio per questo siamo ancora più vicini a questa tragedia e alle famiglie che sono state coinvolte da questa cosa, lo ripetiamo senza problemi, assurda. Poi sempre Paola ci scrivono da Livorno, ci stanno seguendo da Livorno e fanno un grosso saluto a Giuseppe Loffredo, mitico vocatore della Pirarella, lei e sua nipote, insomma arrivano tanti messaggi. E poi ancora, li leggo così velocemente alcuni, Domenico Picchianti, Cillo, storico giocatore dell'Argentario, un occhio allenatore, dice buon Ferragosto e buon Palio, un saluto da Tavolara ad Olbia, un saluto coglie l'occasione del mezzo televisivo, Domenico Picchianti qui conosciuto a tutti come Cillo che ci sta seguendo dalla Sardegna e da Tavolara. Lo salutiamo volentieri. Certo, per salutare il suo figlio Cristiano che è il portabandiera della Croce ed è sfilata con sua figlia Alessia che porta la Coppa d'Oro e è sfilata sempre per la Croce. E questa è la bellezza della diretta. Ma Cillo però è del Valle, dice viva il Valle, viva il Valle. Però dicevo, proprio questa è la bellezza della diretta televisiva e non solo. Quella che la gente, soprattutto i marinai che in questo momento sono impegnati fuori, possono in qualche modo sentirsi presenti. Stefano Schiano dice, vi seguiamo come ogni anno da molte miglia di distanza. Ciao Bomber! Siamo in mare, come dicevamo, ci stanno seguendo sul satellite. Un saluto a Vittorio e a tutti gli amanti del Palio da parte di Stefano Schiano che dice ci farebbe piacere se facessi te Paolo, sicuramente lo faccio, un saluto a tutti i marittimi, ogni anno sono lontani al proprio paese e che grazie al vostro calore ci date il piacere, il diritto di godere del Palio come si deve. E noi ovviamente ce la mettiamo tutta, ce la stiamo mettendo tutta, ce la metteremo ancora di più man mano che ci avviciniamo all'avvio del Palio e crescerà l'adrenalina. Tra poco vedremo le immagini registrate la sera del 13 agosto sulla presentazione degli equipaggi, che è un po' l'evento che c'è a meno di 48 ore dal via e che dà un po' il termometro della situazione. Ovviamente quello è un momento in cui tutti i rioni si sfidano, a parole cercano di irritare gli avversari, cercano di stuzzicare gli avversari, cercano di mostrare la propria sicurezza, talvolta è un gioco un po' diciamo come i giocatori di poker, si cerca di bleffare, ma io credo che raramente come quest'anno, forse mai, i quattro rioni hanno realmente tutti e quattro la possibilità di vincere, perché i tempi registrati in mare non sono indicativi, una sera è andato meglio uno, una sera quell'altro, cioè non c'è un rione che nei tempi abbia dettato leggi, c'è un grandissimo equilibrio. Hai ragione Paolo, nell'epoca come già tu la prima l'hai definita del dopo Solari, quest'anno ci ritroviamo di fronte a un palio che assolutamente è incerto, i tempi sono stati ottimi e sono stati fatti in maniera ottima da parte di tutti e quattro le equipaggi, quindi veramente credo che assilteremo a uno dei pali più incerti degli ultimi anni. E allora andiamo a vederci insieme cosa hanno detto gli equipaggi, i rappresentanti, i capitani, i presidenti dei quattro rioni durante la presentazione degli equipaggi avvenuta nel piazzale dei rioni la sera del 13 agosto. Vediamolo insieme. Benvenuti alla presentazione degli equipaggi della settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Siamo a meno di 48 ore dal via di un palio attesissimo, incerto, forse come non mai, prima di passare alla presentazione degli equipaggi, il saluto del capitano del Palio Gianni Galatolo. Ciao, buonasera a tutti. Adesso siamo quasi pronti per presentarvi gli equipaggi di quest'anno. Come ha già detto Paolo, quest'anno sarà un palio sicuramente eccezionale, l'ho già detto, e non c'è un vincitore certo, è molto incerto e questo fa altro che onorare ancora di più il nostro palio marinaro. Quindi vi invito ad applaudire i ragazzi, i vocatori che faranno questo palio e adesso Paolo inizierà a presentarveli. Grazie. Grazie al capitano del Palio Gianni Galatolo. Allora, iniziamo con la presentazione degli equipaggi, iniziando dal Rione Valle. Rione Valle che fa il proprio ingresso con il capitano Maurizio Alocci, con il Presidente Francesco Loffredo, con il primo reme Thomas Palmerini, con il secondo reme Gianmarco Russo, con il terzo reme Riccardo Rosi, con il quarto reme Andrea Cerulli, con il primo reme Claudio Schiano. Allora, questo è il Rione Valle, il capitano Maurizio Alocci, il Presidente Francesco Loffredo, l'equipaggio è composto da Thomas Palmerini, Gianmarco Russo, Riccardo Rosi e Andrea Cerulli, il primo reme Claudio Schiano, questo è il Rione Valle. Iniziamo sentendo il loro pensiero, le loro obiettive, iniziando dal capitano Maurizio Alocci, dobbiamo ricordarlo, siete il Rione che non vince da un bel po' d'anni. L'ultimo successo è datato 2009, ma credo che dal 2009 ad oggi mai, come quest'anno, ve la lottate, perché c'è un grandissimo equilibrio, almeno così sembra. Cosa ci dice Maurizio Alocci? Buonasera a tutti, niente, vi dico che quest'anno sarà un'altra musica, e qui la chiudo. Sarà un'altra musica, si facciano sentire i ballaioli! Francesco Loffredo, il Presidente! Presidente, avete voglia di vincere? Sembra, sembra, io uso il condizionale perché poi ovviamente ci sarà la prova in mare allo Stadio del Turchese, domall'altro, il 15 agosto, ma sembra che siete molto, molto competitivi, è così? Buonasera, noi non è che abbiamo voglia di vincere, noi abbiamo voglia di stra-vincere! Sentiamo il primo reme, Thomas Palmerini! No, noi ci stiamo allenando al massimo le nostre possibilità, anche se abbiamo iniziato un po' tardi, speriamo di fare una bella gara, dai! Lui è Thomas Palmerini! Poi Gianmarco Russo, secondo reme, Gianmarco Russo! Lasciamo che si scorrino tra di loro! Poi, terzo reme, Riccardo Rosi! No, è quello che si è visto in allenamento! Vi sembra quello che si è visto in allenamento? Lascia ben sperare per il Valle, Andrea Cerulli! L'anno scorso eravate giovanissimi, all'esordio avete fatto molto, molto bene! Quest'anno un anno in più di esperienza, cosa cambia, Andrea Cerulli? Tutto regolare! Sintetico, tutto regolare! Conclude il timoniare, Claudio Schiano! No, torniamo un attimo seri, soprattutto non siamo noi quelli che devono dimostrare qualcosa, e quindi niente! Allora, questo è il Rione Valle, ricordiamo il capitano Maurizio Alocci, il presidente Francesco Loffredo, il primo reme Thomas Palmerini, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Riccardo Rosi, il quarto reme Andrea Cerulli, Timoniere e Claudio Schiano! Questo è il Rione Valle! Questo è l'equipaggio della settantasettesima edizione del Palio Marinario dell'Argentario del Rione Valle! E si scatenano i tifosi del Valle, della scuola del tifo del Valle! E' il momento di presentare il Rione Croce! Rione Croce con il capitano Claudio Dubbiosi! Eccolo che arriva, Claudio Dubbiosi, capitano del Rione Croce! La presidente, Antonella Galatolo! Mettetevi lì, vai ragazzi! Il primo reme, Mirko Cimini! Il secondo reme della Croce, Massimiliano Terramoccia! Il terzo reme, Domenico Ferraro! Il quarto reme, Alessandro Landini! Il timoniere, Corrado Fanciulli! Veterano del Palio, 23 edizioni a cui ha preso parte Corrado Fanciulli, timoniere! Questa la croce, sentiamo il capitano Claudio Dubbiosi! Buonasera a tutti! E niente, noi ci siamo preparati al meglio e pensiamo di poter disputare un grande palio! La presidente, Antonella Galatolo! Mi associo a quello che ha detto il mio capitano, vi stupiremo con effetti speciali! Addirittura stupire con effetti speciali! Allora, sentiamo quali sono gli umori dell'equipaggio con l'equipaggio della Croce! Con il primo reme, Mirko Cimini! No, io sono d'accordo col capitano e faremo un bel palio! Da Mirko Cimini al secondo reme, Massimiliano Terramoccia! No comment! Il terzo reme è Domenico Ferraro! Faremo il meglio di noi, daremo tutto! Daremo tutto, dice Domenico Ferraro! Cosa dice il quarto reme? Alessandro Landini! Otto! Pali disputati di cui due vinti! Alessandro Landini! Buonasera a tutti! E che dire, siamo arrivati finalmente al 15! Diciamo, mancano due giorni! È stato un anno duro e lungo, però insomma, il preparatore Ivan Torcone ci ha preparato, direi, veramente al meglio! E quindi siamo lì, per dire la nostra, verso, diciamo, la vittoria! Poi, di certo, ci sono gli altri che, in base ai tempi che hanno fatto, siamo in gara tutti quanti! Però, insomma, speriamo che almeno qualche secondo prima arriviamo noi! Bene, molto chiaro, molto chiaro, Alessandro Landini! Arriviamo al timoniare, Corrado Fanciulli, il veterano detto del palio! Aspettate, passo con il filo! Allora, 23 pali disputati! Di questi 23, se ne ha 25 l'avvocatore! Torni al timone con questo equipaggio! Che equipaggio è? Dall'alto della tua esperienza, Corrado Fanciulli, cosa puoi dire? È un grande equipaggio e sicuramente faremo bene! Allora, questa è la croce con, abbiamo visto, abbiamo ascoltato, il capitano Claudio Dubbiosi, la presidenta Antonella Galatolo e poi l'equipaggio composto da Mirko Cimini, Massimiliano Terramoccia, Domenico Ferraro, Alessandro Landini e dal timoneare Corrado Fanciulli! Questa è la croce che gareggerà la settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario, si può accomodare anche il rione croce, è il momento di andare a presentare la fortezza! La fortezza che si presenta con il proprio capitano, Angelo Fanciulli! Il presidente, Flavio Vonger, il primo reme, Andrea Benedetti, il secondo reme, Mario Rossi, il terzo reme, Alessandro Benedetti, il quarto reme, Tommaso Picchianti, il timoniere, Alessio Ferraro! Ecco, sta arrivando Tommaso Picchianti e dietro di lui Alessio Ferraro! Così è schierata la fortezza al gran completo! Iniziamo dal capitano, Angelo Fanciulli, che provo a provocare! Non so più i tempi in cui dicevi si vince, si vince, si vince! Mi sembra, mi sembra o no! Te ora mi stuzzichi, però purtroppo è così! Non dirò più si vince, si vince, si vince, ma è arrivato il momento di stravincere! Abbiamo un sassolino della scarpa, a mod di sindaco, da togliersi e vedremo di toglierselo sto sassolino! È vero che non è che è cambiato tanto, noi abbiamo tre quinti dell'equipaggio, sempre quelli dell'anno scorso, quindi grandi elementi, abbiamo rinnovato con Alessandro, grande elemento, giovane, del palietto, non ci abbiamo bisogno di grandi, come si dice, teste di palio che fanno le differenze, a noi ci bastano questi nuovi giovani che daranno l'anima e ci riscatteremo alla grande, anche se voci, diciamo, delle teste di palio che decidono già all'arrivo i primi, i secondi, i terzi, i quarti, beh, a noi ci danno per ultimi e vedremo! No, danno primi testa a testa, croce e valle, e poi noi e la pirarella, voci di corridoio, teste di palio, che io le chiamo così, però vedremo, riscatteremo sicuramente! Angelo Facciulli, diciamo un po' provocatoriamente, lui ha detto teste di palio, quelli che già stilano le classifiche che non vi vedono in posizione lusinghiera. Sono i giornalisti, sentono? Sono i giornalisti di turno, loro sanno tutto, sanno le postazioni, sanno i tempi, quello bocca dritto, quello bocca storto, quello fa cagare, scusate, però è così, poi alla fine risulta tutto il contrario. Allora, allora, dal capitano Angelo Fanciulli al presidente del rione Fortezza, Flavio Wonger! Buonasera, io volevo controbattere a Maurizio, dicendogli che la musica cambia, ma i musicanti sono sempre quelli. Allora, i musicanti sono sempre quelli, ha detto il presidente Flavio Wonger, il primo reme della Fortezza, Andrea Benedetti! Buonasera, noi siamo persone di poche parole, comunque i discorsi li faremo vedere 15 in corsia, il secondo reme, Mario Rossi! Buonasera a tutti, che dire, noi ci siamo allenati bene quest'anno, a differenza degli altri anni, siamo potuti uscire più spesso insieme perché eravamo tutti di Santo Stefano, abbiamo spostato Andrea a Capovoga e abbiamo scoperto che fare il Capovoga per qualcuno è pure più semplice e quindi quest'anno secondo me sarà un bel palio, sarà probabilmente equilibrato, però noi ci siamo e siamo un bell'armo. Il terzo reme di questo bell'armo, come lo ha definito Mario Rossi, il terzo reme è Alessandro Benedetti! Buonasera, che dire, noi diciamo che abbiamo solo un pensiero in testa, quello di vincere il palio, semplice è questo. Chiarissimo, chiarissimo Alessandro Benedetti, un solo pensiero in testa, vincere il palio, sentiamo cosa ne pensa il quarto reme della fortezza, Tommaso Picchianti! Ma io pure non sa che dire, gli altri dicono che vincono loro a mani basse e boh, non so, poi si vedrà. E allora chiudiamo la presentazione della fortezza con il timoniere Alessio Ferraro al suo secondo palio, l'anno scorso era all'esordio del 2009 esordito, torna come timoniere al palio Alessio Ferraro. Niente, buonasera a tutti e niente che dire, vediamo l'ora di scendere in basca e dimostrare quello che siamo. Siamo un bellissimo equipaggio, i ragazzi sono fantastici, ci siamo allenati tanto e ottenere equipaggio è una seconda famiglia. Grazie a tutti. Allora, questa è la fortezza 2018, il capitano Angelo Fanciulli, il presidente Flavio Vonger e poi l'equipaggio composto da Andrea Benedetti, Mario Rossi, Alessandro Benedetti, Tommaso Picchianti e dal timoniere Alessio Ferraro. Questa è la fortezza che correrà la settantasettesima edizione del palio Marinaro dell'Argentario. È il momento di andare a presentare il rione campione in carica per aver vinto l'edizione 2019. Pezzato, l'egemonia della fortezza che veniva da cinque successi consecutivi, accarezzava l'idea della seconda Coppa d'Oro, ma l'anno scorso grandissimo palio della Pilarella che immagino voglia ripetersi. Andiamo però a presentare la Pilarella con il capitano Pietro Solari, il segretario Claudio Busonero, e poi iniziamo con l'equipaggio, il primo reme, Dino Pari. Sono scatenati i supporters della Pilarella, hanno accolto i loro portacolori con un grande boato, un grande boato sicuramente ci sarà per un'altra grande figura del palio come Fabrizio Costanzo. Fabrizio Costanzo, secondo reme della Pilarella, terzo reme, Leonardo Perillo, quarto reme della Pilarella, Claudio Giovani. Eccolo che arriva, Claudio Giovani, quarto reme della Pilarella, il timoniere è Alessio Bausani. Arriva anche Alessio Bausani. Questa è la Pilarella, ho detto, equipaggio campione in carica, c'è il saluto veloce di Pietro Solari che non sta tanto bene, ma il saluto al pubblico del palio, ai supporters della Pilarella va fatto. Allora, buonasera a tutti. L'anno scorso abbiamo fatto il colpo gobo, quest'anno ci siamo allenati ancora più forte, quindi vediamo quello che viene fuori. Grazie al capitano della Pilarella, Pietro Solari, Claudio Busonero! Vogliamo sentire, sono curioso di sentire cosa dice Claudio, sono molto curioso. Claudio Busonero! No, una cosa molto semplice, noi fino alle 19 e un quarto di domenica saremo i campioni, scusa, del 15 saremo i campioni in carica, quindi noi continueremo a festeggiare per altre 48 ore e poi ci sarà il colpo di fucile. Grazie, Claudio Busonero, segretario della Pilarella, andiamo a conoscere i componenti dell'equipaggio della Pilarella. Iniziamo da Dino Pari, due pali disputati, una vittoria! Buonasera! Ma io sento che a chiacchiere fanno partire tanti di quei tre, i misteri uno, i stivocatori, ma vediamo il 15 come va a finire, dai! Allora, da Dino Pari al secondo reme, Fabrizio Costanzo, ho detto una delle figure importanti del palio, sette pali disputati di cui quattro vinti, Fabrizio Costanzo! Buonasera a tutti, ti ringrazio Paolo per la tua introduzione, che forse è anche più grande di quello che alla fine ho fatto, perché insomma, ti ringrazio. Dopo aver vinto l'anno scorso, la vittoria l'anno scorso è stata molto dura, quarto capitello, il mare, la fortezza che era quasi imbattibile, quindi siamo partiti a allenarci presto, consapevoli di essere campioni in carica, consapevoli di avere il rettore addosso, l'occhio puntato addosso, ma noi ce ne siamo fregati, siamo usciti in qualsiasi condizione di mare, abbiamo sparato i tempi quando c'era la corrente contro, quando le condizioni non erano ottimali, e tutti chiacchierano. E ragazzi, il palio è 15, quello che conta è 15, quindi noi ci saremo, voi. Grazie Fabrizio Costanzo, il terzo reme della pilarella, Leonardo Perillo. Paolo, qui finora hanno vinto gli altri, i risultati li hanno fatti gli altri, però poi il 15 d'agosto, cioè sull'Albodoro scrivono il risultato del 15 d'agosto, non il percorso che porta il 15 d'agosto, e quindi vedremo, noi ci siamo. Emerge anche la saggezza, nonché qualche pillola, insomma, di stoccatina da parte dell'equipaggio della pilarella, il quarto reme è Claudio Giovani. Ciao, buonasera a tutti. Beh, io non ho molto da dire. L'anno scorso anche ci davano terzi o quarti, la fortezza vincente, noi ci siamo allenati duramente e quindi il 15 vedremo chi porta lo standard a casa. Grazie a Claudio Giovani, il timoniere della pilarella è Alessio Bausani, nove pali disputati di cui tre vinti. Alessio Bausani. Buonasera a tutti. Niente, mi sembra che insomma fra tutti quanti abbiamo detto un po' tutto, quindi tutti ci danno ultimi, quindi arriviamo al 15 d'agosto che tutti ci danno ultimi. Io spero sia di buon auspicio e di scendere ultimi anche il prossimo anno, quindi insomma tutto qui, tutto qui. Buona gara a tutti. Grazie anche ad Alessio Bausani. Allora, questa è la pilarella, equipaggio campione in carica, che disputerà il 15 agosto 2018, ovvero tra meno di 48 ore, la 77esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario, qua nella splendida cornice dello Stadio del Turchese. La pilarella con il capitano Pietro Solari, il segretario Claudio Busonero e poi l'equipaggio composto da Dino Pari, Fabrizio Costanzo, Leonardo Perillo, Claudio Giovani, dal timoniere Alessio Bausani. Questa è la pilarella. Allora, è il momento del sindaco, il sindaco del comune di Montargentario, Franco Borghini. Buonasera. Io sarò di poche parole, come sono stati di poche parole anche i membri dell'equipaggio. Auguro ovviamente a tutti una buona fortuna, ricordo soltanto che quest'anno per la prima volta il Palio Marinaro di Montargentario è stato riconosciuto come manifestazione storica da parte della regione toscana. Questo ci onora e speriamo che provochi anche il passaggio successivo di avere forti finanziamenti da parte dell'ente regionale. Mi auguro che ci sia una tranquillità assoluta nella competizione durante lo svolgimento della manifestazione ed auguro a tutti veramente una buona, buona fortuna. Grazie. Grazie al sindaco Franco Borghini. Io vorrei fare anche un applauso alla delegata dell'ente Palio Alessandra Chiocca che inviterei a venire qua, al segretario Amerigo Loffredo e al direttore tecnico Cesare Emanuelli. Eccoli qua, questi sono praticamente i responsabili del Palio Marinaro dell'Argentario. Facciamo loro un applauso. Sono giorni convulsi, pieni di impegni perché a Porto Santo Stefano il Palio si vive 365 giorni all'anno ma ovviamente nei giorni che precedono la manifestazione gli appuntamenti, gli impegni si susseguono a ritmo verticinoso. Alessandra, so che non vuole parlare ma le chiedo, le strappo un saluto al pubblico. Alessandra Chiocca. Gli ho già salutati in occasione del Palietto. Vedere tutte queste persone che partecipano ai nostri eventi e agli eventi colorati al Palio è una grande soddisfazione e ripaga di tutto quello che è il lavoro che facciamo tutti quanti. Grazie anche a voi di partecipare ai nostri eventi. Grazie veramente. Grazie, grazie Alessandra Chiocca e Cesare, direttore tecnico dell'Entepalio. Cesare Emanuelli. Buonasera a tutti. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a fare questa cosa perché è stata una cosa grande nel senso che io sono entrato in corsa quindi non avevo neanche l'esperienza giusta da mettere in campo quindi ringrazio Rioni e mi hanno aiutato anche in questa cosa. Il cantiere navale che ha riparato molte magagne che hanno avuto i nostri guzzi insieme a Anastasia Antonio che ci ha fatto una riparazione volante veramente fatta bene quindi grazie a tutte queste persone e buon palio a tutti. Grazie a Cesare Emanuelli direttore tecnico del Palio Mariano e l'Argentario il segretario del Palio è Amerigo Loffredo. Sì, un saluto a tutti un grazie per essere intervenuti e vi aspettiamo numerosi ancora di più il 15 d'agosto qui su questa piazza. Allora io chiedo a tutti i componenti degli equipaggi al sindaco Franco Borghini di alzarsi per la foto di gruppo con i grandi protagonisti della 77esima edizione del Palio Mariano e l'Argentario facciamo loro un applauso prolungato e viva il Palio, vincca il Palio, grazie! Buona serata a tutti! Allora siamo tornati in diretta siamo tornati in diretta in questo momento diciamo mentre abbiamo visto la presentazione degli equipaggi la sera del 13 agosto quasi un po' riempito il nostro studio, il nostro salotto adesso cercheremo di riportare un po' d'ordine velocemente vuole fare un saluto Matteo Scano che è tifoso del Rione Fortezza vero? Velocemente in saluto Buonasera a tutti sono un tifoso della Fortezza come tutti quanti voi sapere mi auguro che vinca il Palio Mariano proprio il mio Rione anche se diciamo effettivamente sono quattro armi diciamo alla stessa portata forza Fortezza e via un saluto Alisia Benissimo grazie Matteo Scano poi avete già intravisto forse Enzo Russo fotografo che sta tenendo una mostra presso l'hotel di Carapiccola questa è la brochure non so se si vede è Palio è una mostra che ripercorre un po' nei tuoi scatti le fasi salienti di queste settantasettesime edizioni di Palio Mariano dell'Argentario ovviamente non tutte settantasette perché tu sei più giovane però diciamo buona parte 35 35 anni di Palio no ma ha chiesto Massimo Sandrelli proprietario direttore di Carapiccola di illustrare con poca immagine quello che è il Palio per farlo vedere i graditi ospiti dell'albergo e di amici che sono saliti per visitare la mostra una mostra che ripercorre dal passaggio del corteo storico all'arrivo di qualsiasi guzzo che arriva prima io sono fuori gioco perché non vivo a Porto Santo Stefano per cui non ho nessun colore che mi può distinguere di un rione o di un altro ma sono per il Palio benissimo grazie e complimenti per la mostra che sta tenendo Enzo Russo presso l'hotel di Carapiccola noi ringraziamo anche l'hotel La Caletta che ha permesso ai nostri tecnici che stanno facendo un lavoro straordinario e eccezionale di passare con i cavi per arrivare appunto alle telecamere posizionate nelle boe a mare quindi grazie anche all'hotel La Caletta di Porto Santo Stefano per il momento ci congediamo pubblicità e poi nuova sigla perché siamo nel vivo del Palio Mariano e l'Argentano ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il momento clou ancora mancano delle ore ma vedete piano piano abbiamo iniziato nel primo pomeriggio adesso siamo più vicini al Via del Palio quindi rimanete incollati davanti a teleschermi informate i vostri amici che tra poco entreremo nel vivo ci raggiungeranno i rappresentanti di tutti i rioni avremo il sindaco ed altri rappresentanti via via che qui saranno vicini a noi tutto questo tra poco dopo la pubblicità e dopo l'inizio della nuova sigla che ci introdurrà nella parte cruciale della settantasettesima edizione del Palio Marinaro e l'Argentano ci ritroviamo tra poco in diretta da Port Santo Stefano restate con noi allora siamo in diretta da Port Santo Stefano dove sta piovendo sta piovendo avevamo iniziato con il sole adesso sta piovendo ovviamente facciamo gli scongiuri speriamo che sia qualcosa di passeggero e che poi si tutto ritorni quello che dovrebbe essere la normalità il 15 agosto il giorno di ferragosto guardate che nuvole nere e minacciose sta già piovendo io leggo velocemente intanto i tanti messaggi che ci stanno arrivando Irene Magalotti ci scrive dice è bello averti in diretta con noi rivolta a me grazie Irene vorrei salutare mio marito Simone e tutto l'equipaggio del Musa che in questo momento si trovano in Sardegna grazie e forza fortezza Irene Lizzulli è negli Stati Uniti ci sta seguendo dagli Stati Uniti insomma poi ci ha raggiunto Luciano Pignatelli rappresentante della Croce alla mia destra se vuoi salutare il pubblico Luciano Pignatelli con la concarda bianco-rosso della Croce sempre un saluto a tutti i contrattaioli a tutti coloro che seguiranno il palio anche se in questo momento il tempo non è eccellente per questa manifestazione Carlo alla mia sinistra Carlo Costanzo del Valle oramai figura storica figura storica non può mancare mai sempre ottimista sempre ottimista ma è tanti anni che non vincete l'abbiamo visto prima nella presentazione dal 2009 dal 2009 però il Valle freme all'ingresso di Porto Santo Stefano c'è uno striscione emblematico bello pieno di significato di valore famiglia per le doca ci tenete ci contate quest'anno ci sperate per tenermi sì quest'anno diciamo che potrebbe essere l'anno buono ma vedendo queste condizioni di mare non è che sia tanto favorevole diciamo a noi che siamo un equipaggio leggerino comunque vedremo vedremo le speranze sono tante e sicuramente e sicuramente saremo lì naturalmente per vincere il palio Vittorio Patanè che resterà con noi fino al termine della diretta condizioni ora pazzesche sta piovendo molto il mare che si è improvvisamente agitato minaccia una bufera da un momento in alto io infatti dopo il tuo intervento darò linea alla pubblicità e torneremo in diretta quando ci sono le condizioni perché ora non ci sono le condizioni è vero sta veramente piovendo forte e anche il mare si è messo abbastanza brutto allora linea alla regia per la pubblicità torniamo in diretta quando sarà possibile collegarci perché adesso sta diluviando tra poco speriamo tra poco buonasera allora siamo tornati in diretta dall'intervento questa il scenario dell'argomentario ovviamente perché sta diluviando sta e quindi abbiamo dovuto abbandonare speriamo soltanto in maniera provvisoria la postazione in piazzale di Rioni siamo saliti all'interno del palazzo comunale ringraziamo l'amministrazione comunale di Montargentario che ci ha dato questa opportunità siamo in una location in uno studio improvvisato ringrazio anche i tecnici che stanno facendo i salti mortali per permettere questa diretta inedita perché questo acquazzone non era affatto previsto però insomma speriamo di poter tornare sullo stadio del Turchese siamo adesso in compagnia degli ospiti che ci hanno raggiunto iniziamo da Luciano Pignatelli rappresentante della Croce buonasera a tutti rinnovo da questo studio di fortuna e i miei auguri per il palio a tutti i contrattaioli e tutti i cittadini che seguiranno questa manifestazione sia in diretta su discogli sui balconi in streaming o in tv grazie Luciano Pignatelli rappresentante della Croce hai detto quest'anno siamo ottimisti vero? sì siamo ottimisti abbiamo fatto un anno di lavoro abbiamo avuto riscontri econometrici diciamo buoni e le nostre sensazioni sono molto positive e sicuramente faremo una buonissima gara e siamo molto fiduciosi di arrivare primi all'arrivo quest'anno Carlo Costanzo del Valle del forzata figura da tantissimi anni dal 2020 vince il Valle ma mai come quest'anno sembrate competitivi anche se c'è un enorme equilibrio Carlo Costanzo eh sì dopo che diciamo Solari per quest'anno ha peso il re Marchiodo tutto si si rende in equilibrio sì la Croce è convinta giustamente Rione Croce si è convinta di vince noi anche siamo convinti di vince i tempi per ora danno ragione a noi non certo alla Croce loro ci credono e noi però siamo lì a dar battaglia non è che siamo lì a fare le onore di efficienza al Rione Croce anzi daremo battaglia fino alla fine ma da come hai parlato sembra che sia un discorso Croce-Valle o no 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 c'è la pillarella la fortezza che possono dire la sua anzi oltretutto sono i primi e i secondi lo scorso anno ma la fortezza magari secondo me sì qualcosa di buono ha fatto ma non all'altezza nostra e della Croce la pillarella la pillarella guarda se il mare è calmo non penso che non arrivi nemmeno ultima penso che neanche arrivi in terra secondo me da quanti tempi hanno fatto scandalosi allora ovviamente ancora non ci ha raggiunto Paolo Bracci della pillarella che ti risponderà per le rime quando arriverà sicuramente ti risponderà per le rime sentiamo Paolo Baffigi della fortezza ciao carissimi e un buon palio a tutti ci provo io a rispondere a Carletto Carletto insomma è molto entusiasta per il fatto che abbia fatto 12 e 0-2 ti ricordo Carlo che sono stati i tempi che noi sotto 12 andavamo tutte le volte che ci provavamo quindi mai 11 e 58 te lo ricordi bene quando erano i tempi d'ora che sei venuto ma in gara l'ha fatto quello non mai in allenamento no anche in allenamento te lo posso garantire io che facevo il tesoriere e no no a quei tempi l'amico Solari mi ricattava sempre stasera si va a mangiare tutti una pizza naturalmente dico se scendi sotto 12 e mi toccava sempre pagare la pizza te lo dico io che quel tempo lì l'abbiamo fatto tante volte e nessuno è rimasto a casa ma chi ha vinto poi sempre? la fortezza perché? eh no ma il palio era comunque era molto più tirato di questo oggi con questo tempo ti ricordo comunque l'ultimo l'ultimo cenno tecnico per chi ci ascolta è che comunque questo tempo appiana molto le condizioni di tutti gli equipaggi perché sta calmando comunque sai c'è caso che faccia un pochino di bavetta fuori qualcosa che disturbi e la tecnica si va appiattendo noi vogliamo bavetta calma come l'olio deve essere calma come l'olio bracci bracci stasera devi andare a casa non muro muro a sartelli Paolo bracci intanto è arrivato ma sentiamo prima il parere di Vittorio Patanè mi sembra che il clima si stia scaldando Vittorio Patanè no no ma è vero è bello perché vedo che il clima comincia a entrare giustamente in quello che come si dice il clima del palio io devo essere sincero gli ultimi anni quando ho visto il palio l'ho visto dalla dalla televisione e ho visto sempre un innarello particolarmente ottimista che poi però alla fine abbassava abbassava ora io io sono io sono di parte perché io sono sono della fortezza quindi voglio dire è fuori e fuori d'ogni dubbio però mi auguro che abbia ragione il mio amico Paolo in modo che anche quest'anno magari ritorniamo a vedere Carlo che dall'entusiasmo passa direttamente all'appassirsi aggiungo solo una cosa Carletto è già preoccupato che forse si fa il 16 il palio quello è preoccupante perché il 16 c'è la tradizione favorevole se il palio non si dovesse disputare la più a meno che non ridone altre perturbazioni in condizioni a beneficio di quanti si ponesse in questione all'ascolto e si stanno domandando cosa sta succedendo sta succedendo che siamo in diretta da Porto Santo Stefano per la 77esima edizione del palio marinare dell'argentario ma un porti ci ha costretto a interrompere la diretta esterna e quindi siamo alloggiati in una location di fortuna all'interno del comune di Monta Argentario ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questa location ma confidiamo tra poco di tornare nella nostra postazione quindi Dico ci ha raggiunto abbiamo già sentito Luciano Pignatelli della Croce Carlo Costanzo del Valle Paolo Baffigi della Fortezza e Vittorio Patanè ci ha raggiunto Paolo Bracci della Pilarella a cui faccio il riassunto di ciò che è stato detto e che hanno appena ascoltato i nostri telespettatori da casa allora praticamente Carlo Costanzo ha fatto un discorso che sembrava che fosse il palio che si dovrà correre tra poco un discorso a due tra valle e croce allora su una mia precisa domanda se era un discorso a due ha detto ma in effetti però anche la Fortezza qualcosa di buono l'ha fatto non sicuramente la Pilarella che non è che arriverà ultima non arriverà nemmeno in fondo parole testuali virgolettate di Carlo Costanzo buonasera a tutti innanzitutto grazie ma quello che dice Carlo lo prendo sempre con molto beneficio l'inventario d'altra parte essendo Vallaiolo non può pensare che noi già l'anno scorso con diciamo un tempino ottimale noi eravamo sempre rimasti indietro il favorito era la Fortezza che era l'equipaggio a tutti gli effetti da battere ed è stato battuto forse contro ogni pronostico e previsione perché comunque l'equipaggio della Fortezza è un equipaggio veramente forte noi abbiamo battuto veramente i migliori e questo ci fa ancora più onore ci fa godere ancora di più del palio del 2017 il nostro 24esimo palio è stato un palio secondo me bellissimo perché comunque ha rifatto assaporare il gusto diciamo della gara non solo la questione sportiva e tecnica ma proprio tutto il pathos che c'è al gara come il palio marino dell'argentario ma io sono entrato e parlavate di bavetta io quando sento la parola bavetta è perfetto per me è la parola mia la bavetta quindi nella bavetta di vento in quella di onda noi abbiamo un equipaggio di grande esperienza secondo me a questo punto anche riduce da questa vittoria dell'anno scorso credo che con le condizioni che in questo momento sono ottimali ma abbiamo visto che qui cambia il tempo e bisogna guardare veramente le previsioni tra un'oretta in cui probabilmente il cielo si rischiarerà non avremo forse queste nuvole qualche cosina più forse di mare qualcosa di onda in più ma le condizioni ottimali per vedere un bel palio una bella gara secondo me questo sarà un bel palio in cui quattro rioni se la contenderanno chiaramente io vengo da una generazione di Pitarellai che anche negli anni più bui pensavamo sempre di vincere a maggior ragione quest'anno allora l'analisi fatta da Paolo Bracci credo un orgoglio giustificato come lo scorso anno abbia vinto la Pitarella un grande palio lo ha detto abbiamo sconfitto i più forti perché quella era il rione della fortezza i 5 volte di fiera con Gabriele Solari che ha fatto la storia del palio oramai è leggenda chissà se tornerà quest'anno un anno sabbatico per lui ma la Pitarella l'anno scorso ha vinto contro i pentacampioni per cui mi viene un po' da domandare però a Paolo Bracci perché quell'equipaggio non è stato diciamo riconfermato in toto perché c'è qualche cambiamento un equipaggio che vince nel calcio si dice ma anche negli altri sport di squadra squadra che vince non si cambia voi non siete lo stesso equipaggio dell'anno scorso stranamente aggiungo io o non stranamente Paolo Bracci della Pilarella stranamente forse sì se lo guardiamo come uno sport di squadra come palio lo è nell'equipaggio però è anche vero che ci sono delle dinamiche un po' particolari ci possono essere annate anche come dire psicologicamente più favorevoli altre meno favorevili annate in cui alla fine dei conti riusciamo a dare il meglio con un certo tipo di equipaggio con un certo tipo di equilibrio con una vogata rispetto a un'altra io ho visto anni anche in cui abbiamo fatto e vinto pali con equipaggi diversi dall'anno all'altro ma non solo la Pilarella ha fatto la Croce l'ha fatto il Valle quindi non è detto che squadra che vince non possa essere cambiata si cambia sempre per il meglio chiaramente Paolo e quindi cambieremo anche noi abbiamo cambiato e cambieremo nel futuro sempre per il meglio allora Carlo Costanza del Valle ovviamente diciamo per ora dialettica poi vedremo cosa succederà allo stadio del Turchese tra poco quando gli equipaggi scenderanno in acqua per ora è una lotta dialettica tra Valle e Pilarella con Carlo Costanza che vuole replicare a Paolo Bracci no il problema è un russo che era capovoca e quest'anno è passata a Rione Valle anche se da noi non fa il capovoca ma fa il secondo remer poi rispetto alla Pilarella quest'anno ha cambiato capovoca poi si sono trovati che il primo d'agosto non tornando i tempi in un modo clamoroso apposta io dico che la Pilarella quest'anno non può assolutamente vincere il paglio perché altrimenti si è scombusto da tutto il discorso che uno viene a vedere gli allenamenti e questi vanno dei tempi scandalosi poi vincono il paglio all'Avoli che c'è Mago Zullino che va sotto li pinta li fa vince questo è il problema se il primo d'agosto potrebbero aver bleffato potrebbero aver bleffato nel senso che loro hanno dei tempi migliori ma non ve li hanno fatti scoprire ma niente a fare riunioni su riunioni televisioni gigantografie hanno cambiato il capovoca ce l'hanno messo un altro perché non tornava niente sono andati in vasca non tornano uguale perciò è impossibile però il paglio come dici te si può anche ribattare non tutto come ha fatto l'anno scorso la fortezza che arrivava alla seconda e non prima però che la croce doveva vincere l'anno scorso non ha vinto che ha vinto la pilarella con un doppio regalo di croce e fortezza però non sempre la pilarella ora può avere sti giolli clamorosi non li pavere clamorosamente perché allora vuol dire che il nuovo di paglio non ci si capisce nulla questo è il problema allora Carlo Costanzo rivendica il fatto che ovviamente chi prende chi prende i tempi e sono tanti a Porto Santo Stefano indicano indicano o indicherebbero uso incondizionale che la pilarella non va per la maggiore sento ancora Paolo Bracci ma poi chiaramente chiamo in causa sia Pignatelli che Paolo Baffici Paolo Bracci chiedo scusa chiedo scusa perché sto rubando spazio a Luciano e a Paolo ma sono arrivato tardi quindi poi se parlo al Valle come faccio a non controbattere io mi sembra normale no mi sembra normale l'ha già detto Carlo l'anno scorso Russo era capovoco quest'anno al terzo per ritornare al discorso al secondo scusate sei al secondo quindi gira per ritornare al discorso che si faceva prima non è detto che per gli equilibri interni per un tipo di vogata ma anche per un assetto del guzzo vero anche ottimisticamente vantaggioso per arrivare a una gara al meglio possibile per vincere non è detto che ci sono dei cambi anche all'interno non mi scandalizza che la pilarella abbia spostato Dino al primo al terzo perillo perché probabilmente funziona meglio anzi funziona sicuramente meglio dopo un anno meglio riparare per tempo Carlo meglio riparare per tempo no ma al di là di tutto poi sapete benissimo come ha detto Paolo giustamente ci possono anche trovare i sistemi per come dire noi siamo siamo vecchi di palio abbiamo visto quante volte i cronometri hanno detto delle cose e poi era tutt'altro allora la la discussione animata curiosa interessante proprio in clima palio lo spirito è quello giusto ha smesso di piovere a Porto Santo Stefano questa è la grande notizia che ci rincuora a tutti allora non mandiamo in onda il bando la lettura del bando del corteo storico abbiamo visto prima così ci date il tempo per scendere dal palazzo comunale di Montargentale e tornare in postazione campo di battaglia e andiamo sul campo di battaglia come dice Carlo Costanzo tra poco in diretta a tutti i cittadini di questo nobile rione e dal capitano io banditore porto la sfida per la disputa del settantasettesico palio marinario dell'Argentario al ricordo della gente di mare dell'Argentario che nel 1500 a Porto di un tartarone armato di suoi dieci reni riuscì ad avere ragione dell'invasore saraceno rifugiandosi nelle acque amiche di Porto Santo Stefano dopo una lunga e furiosa regata che aveva come posti in palio la stessa vita dei marinari noi capitani dei rioni valde croce e fortezza per rendere onore alla storia della gente di mare sfidiamo il vostro rione pilarella a presentarsi il giorno 15 nel mese di agosto dell'anno 2018 alle ore 19 innanzi al palazzo comunale di Monte Argentario con un proprio vipaggio composto da un timoniere e dai quattro vocatori di Valorosi la sfida avrà luogo sospetto di mare al distante al palazzo comunale denominato stadio di Turchese su un percorso di 4.000 metri e con 9 virate vi sarà un solo vincitore al quale sarà consegnato lo stendardo del settantasettesimo palio marinaro dell'argentario il presente bando viene letto su questa pubblica piazza e lo stesso munito di sigilli dei rioni sfidanti viene consegnato nelle mani del capitano del rione pilarella che ricevendo dal nome del rione che rappresenta raccoglie la sfida a di 10 del mese di agosto nell'anno del signore 2018 il nome del rione pilarella accetto volentieri la vostra sigla siamo nuovamente in diretta siamo tornati nella location tradizionale in piazzale dei rioni all'aperto ha quasi smesso di fiovere a porto santo stefano un ferragosto alternativo sicuramente alternativo siamo ancora in condizioni non ottimali visto che la pioggia ha creato un problema al monitor quindi non abbiamo il ritorno di immagine in studio ma restiamo in diretta con voi peraltro ci stanno arrivando messaggi da ogni parte del mondo abbiamo detto prima dagli states ci ha scritto Irene Lizzulli dagli Stati Uniti ma ci saluta anche Massimiliano Palombo detto piovino che si trova in Grecia a Poros lui dice un saluto a tutti i santo stefanesi e dice forza fortezza dice piovino forza fortezza e non va bene assolutamente non va bene per Paolo Baffici va bene piovino e con tutti quanti ti preoccupare oggi veniva in mente la fortezza scateniamoci con tutti i saluti Mario Ballini detto il gatto comandante dalla Sardegna Porto Rotondo il suo fratello Valerio in Grecia a Cefalonia Mirko De Piro non lo so dove mio fratello mi sembra che sia a Palermo poi ancora ci saranno ma Galeani l'amico Galeani di leva al comandantismo Barcavela strepitoso non so dove ma in giro per il mondo prima ci ha salutato Cillo ci ha salutato Cillo allora altri saluti Medeo Berogna da Napoli beh dillo dai il microfono a Paolo che sono molto veloce di tanti posti dove ci stanno seguendo ma ci stanno seguendo in ogni parte del mondo diciamo Medeo Berogna è il figlio da Vallaiolo e Pirarellaio da Napoli che mi hanno chiamato poco prima di pranzo inutile dirlo probabilmente l'avete già detto ripeto una cosa che è un grazie infinito alla televisione che dà la possibilità a chi non è a Santo Stefano in questo momento di godere del palio di essere comunque a casa in queste due ore di diretta e si sente vicino anche se è molto lontano qualcuno è veramente molto lontano dal Brasile all'Australia e ci chiamano e ci dicono che sono con noi anche se i chilometri di distanza ci separano tantissimo non tanto tantissimo è vero da tantissimi chilometri di distanza in ogni parte del pianeta ma anche da qui vicino ci stanno arrivando tanti messaggi da Orbetello dove tutti i bar sono sintonizzati sui canali satellitari del digitale e del digitale terrestre dove va in onda del palio salutiamo il bar del corso con Marco Fanciulli che lui è crociaiolo Marco Fanciulli della croce sta facendo il tifo ci stanno seguendo dal bar Baciani ma anche dal caffeino di Orbetello dove c'è Lollo che salutiamo Lorenzo Lollo che ci sta seguendo anche dall'Isola del Giglio dal bar Ferraro Fiorentini Doc Barra Rosa Tempe dell'Isola del Giglio lo stabilimento valneare la medusa di Principina dell'amico Battistini qua sua moglie del figlio e naturalmente poi tutti quelli che fanno la ruota sul traghetto diciamo che vanno Giglio Santo Stefano anche quelli Damiano Schiano che dall'America sicuramente ci guarderà sarà veramente una cosa spettacolare e poi il bar di Colombina che sono tutti viola ovviamente c'è scritto anche Stefano Schiano da fortezza certo ma specialmente e poi il bar del Porto dove siamo noi il bar di Pannaro dove noi siamo sempre li saluta Giulio grande Giulio Carlo è sempre scatenato ma oggi lo è particolarmente che segnale è ma il segnale che segnale ho visto Paolo Bracci è così bagnato molto preoccupato no invece ha fatto già ha fatto già il bagno ha fatto già il bagno ha già festeggiato perché sa che vince ma la seconda volta ha fatto il bagno le coppe le coppe vanno prese dopo non ricorda mica perché siccome l'anno scorso hanno già tirato fuori le magliette di dieci anni fa che le avevano tutte bucherellate che saranno preparate ora quest'anno ce l'hanno già pronte saranno ancora anni per vedere la vittura caro mio bel Mastracca allora Luciano Pignatelli sei rimasto in silenzio finora anzi mi sei sembrato quasi distratto da ciò che diceva Carlo Costanzo Paolo Bracci come 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 sentite voi sfogatevi ora sfogatevi ora che la mia croce quando si renderanno in acqua e quando si farà sul serio vi farà vedere sarà lì pronta per dimostrare ciò che ho detto in precedenza però mi volevo rifare a quello che diceva Paolo Bracci Paolo della Pirarelli e anche Costanzo non è che gli ultimi anni non siamo più esperti di padio non riusciamo a capire chi vince e come ho detto anche l'anno scorso e qualche anno precedente prima la maggior parte degli equipaggi faceva le prove più di una volta e c'aveva dei riscontri reali negli ultimi anni questo accade poco e raramente e anche non si fanno più neanche 4.000 metri si fanno 2.000 e 1.600 quindi oggettivamente ognuno penso che possa avere il polso della situazione riferita al proprio rione immaginiamo quello degli altri quando io ho detto la croce vince è giusto che lo dica perché so crociaiolo come lo dirà Paolo Paolo della Pirarella e gli altri si però un colto è durlo perché fa parte del gioco un colto è perché se ne è convinti ho degli elementi per cui so che noi abbiamo fatto bene abbiamo fatto in diverse circostanze in diverse condizioni del medio poi io mi rifò a tutti è quello che si è sempre detto il 15 è il 15 può capitare di tutto il contrario di tutto però ognuno di noi sa il valore del proprio rione proprio perché negli ultimi anni non c'è più la bagarre che c'era prima prima succedeva che uno faceva 2.000 metri subito dopo partiva all'altro se faceva medio l'altro riprovava provavi 3 o 4 volte il percorso questo oggettivamente non credo che mi possano sconfessare chi sta accanto qui non si verifica più ormai le tecniche di allenamento sono cambiate sono più lunghe nel tempo perché si comincia dall'autunno primo inverno per cui il raffronto con gli altri è sempre più difficile prima Ninarello diceva la Pirarella non gli tornavano i tempi forse è vero qualche volta che si è mostrata qui davanti non ha rispeccato quello che forse tutti ci aspettavamo ma siamo sicuri che è così siamo sicuri che non fossero prove per trovare degli assetti diversi come poi si è verificato che hanno spostato il primo il capovoca al terzo al terzo rene quindi diciamo così andiamo anche un po' a naso e se sbagliamo e a naso che cosa pensa Luciano Pignatelli che vince la croce come farai e il rione più insidioso ma io senti dico la verità i tempi reali della Piranella non li so qualcuno mi ha detto hanno fatto qualche volta alcune cose hanno fatto i tempi un po' più alti degli altri ma non così eccessivamente quindi quando ci sono 3, 4 anche 6 secondi il 15 cioè se c'è 20 secondi tutte le volte non c'è scampo il 15 non vincere mai ma quando la croce ha fatto 12,4 12,5 e il vale ha fatto 12,1 su 2000 metri il 15 si può cavovolgere siccome la fortezza e la la Piranella non hanno fatto tempi veramente pessimi quindi diciamo che oggi tutto può anche succedere anche se io ripeto dai nostri risconti noi siamo eccezionalmente contenti di quello che abbiamo fatto allora Luciano Pignatelli un po' ti smentisce Carlo ma ma lui di quello che gli pare noi siamo tutte le sere qui i tempi li abbiamo visti se loro poi questi inveni a Orbetello hanno volato nello stagno non per loro non nello stagno in laguna in laguna noi in laguna non ci veniamo e loro faranno i tempi io ho detto in tutte le condizioni parlo all'argentario non è in laguna Orbetello o un porto devo venire qui nello stadio del Turchese guardate adesso il mare si è anche calmato che segno è perché te prima avevi detto il mare mosso ci può mettere un po' in difficoltà le condizioni devono essere buone così leggermente mosse in questo modo qui e il valle si gioca al suo palio poi vediamo se gli altri ci staranno davanti o dietro allora Vittorio Patanè fai un po' che idea ti sei fatto mi sembra che ci sia un ottimismo non di facciata ma reale un po' in tutti i rioni anzi quello un po' più cauto mi sembra Paolo Baffigi dalla fortezza ma perché non ha parlato che in semplice motivo che non ha parlato per il semplice motivo che non ha parlato ma ora parlerà Vittorio Patanè conoscendo Paolo è perché come dice sta zitto perché sa di essere forte comunque al di là di tutto Radio Palio dice che tutte e quattro i rioni quest'anno hanno fatto alternativamente degli ottimi tempi quindi secondo me l'abbiamo detto anche prima e sono convinto anche adesso che sarà un palio particolarmente incerto dove tutti e quattro non solo possono dire la loro ma sono convinto faranno anche degli ottimi degli ottimi tempi poi ecco a me l'unica cosa che veramente però Paolo ce l'ha ampiamente detto è il fatto della Pirarella che ha fatto questi cambi però giustamente Carlo l'ha detto sì Carlo anche l'ha confermato Paolo Bracci Paolo Bracci l'ha confermato però effettivamente è anche vero quello uno tante volte cambia anche per migliorare perché se no non si capisce perché la Juve prenda Cristiano Ronaldo e dia via Higuain me lo auguro tra virgolette anche per loro allora Paolo Baffici ho detto cercando di interpretare il tuo pensiero il più cauto mi sembra Paolo Baffici della fortezza e giustamente gli altri in maniera scherzosa hanno detto beh perché non ha parlato finora allora com'è quella situazione perché ricapitolando Luciano Pignatelli ha detto non lo dico per facciata sostanzialmente faccio un po' il diciamo il riassunto veloce ha detto non lo dico per facciata ma noi siamo quelli più forti vinciamo Carlo Costanza ha detto con queste condizioni del mare quasi calmo leggermente mosso esattamente come è in questo istante noi siamo quelli più competitivi noi del valle Paolo Bracci ha detto attenzione voi vi state fissando su alcuni tempi che avete ripreso ma i tempi non sono indicativi perché ci sono varie sfaccettature che voi non conoscete facendo intendere che la pilarella oggi potrebbe stupire tutti qua allo Stadio del Turchese cosa può fare la fortezza? ricordiamo questo è l'anno zero per voi se mi permetti il posto Gabriele Solari l'anno scorso come ha detto prima Paolo Bracci quando eravamo in comune ha detto abbiamo sconfitto l'anno scorso i più forti perché venivate da 5 vittorie pentacampeoni ora siete senza Gabriele Solari il vostro è un equipaggio diciamo di passaggio di transizione oppure è un equipaggio che può rifare la storia può tornare a vincere il palio mare l'arrorella argentario allora per iniziare non sfuggo subito alle risposte ho perso uno o due giri non nemmeno contati mi ero promesso di quando voi avete fatto un giro di saluti di fare un pensiero che è anche vostro io saluto sempre le persone ho sempre salutato il mio fratello fuori da questo paese lo saluto oggi pure che è a Santo Stefano ma quasi sempre per il lavoro si trovava fuori saluto Stefano il cieco che si fa sempre chiamare così che sarebbe il nipote di Don Pietro che lui se ne sta a casa sti giorni si isola un pochino però ci ascolta sicuramente ma un saluto un saluto vero però lo volevo fare ma col tutto cuore nostro ma non è retrorica non pensino che io lo dica soltanto perché l'evento ci porta a fare questo dico un saluto lo farei alle città di Genova perché l'abbiamo fatto in apertura e sappiamo che oggi il palio onorerà i caduti di Genova noi Genova non siamo stati emozionati solo dalle cronache perché abbiamo un ombelico con Genova noi abbiamo molti dei nostri concittadini che hanno dato una parte della loro vita a quella città e sono tornati anche da poco persone che conosco dopo averci vissuto un ventennio e un trentennio lavorando nell'ambito marittimo e ci sono veramente tante persone che nel palio abbiamo avuto il genovese che non a caso lo chiamavamo così sono personaggi io ho una persona che lavora che era compagno mio di scuola fino alla prima elementare è sparito è andato a Genova ma lo ritrovo come compagno di lavoro e fa il vigile è andato a Genova pure lui per il lavoro della famiglia quindi Genova noi quando sentiamo quella città l'evento che ha toccato tutti noi sensibilmente è come se fosse un gemellaggio vero con quella città fatto bene a ricordare questo ricordiamo il palio marinare dell'argentario onorerà i caduti di Genova prima che i guzzi andranno in acqua quando tutti i vocatori alzeranno per un minuto i remi al cielo e ci sarà un minuto di raccoglimento a cui ovviamente tutti noi ci uniremo per stare vicino alle persone e alle famiglie di chi appunto ha perso ieri la vita in quel tragico e assurdo incidente sul ponte Morani volevo finire poi come ultimo raccordo alla città di Genova che la nostra giuria ha da tempo che viene se Taroni e tutti quanti i giudici federali che ci abbiamo sappiamo la loro provenienza e anche quello è stato un ombelico che ci tiene da più di un decennio legati a quella città ci fa conoscere pure lui le differenze le particolari peculiarità che ci sono tra il nostro palio e quello che disputano loro con le repubbliche marinare però noi te lo ripeto quando abbiamo sentito il nome di Genova indipendentemente dalla disgrazia abbiamo sentito la famiglia abbiamo sentito proprio veramente un qualcosa quindi non è retorica unirci a loro invece non mi sottrago alle domande che avete fatto il palio nostro come lo vedo è tutto vero quello che dicono loro il palio si svolge il 15 non ci dimentichiamo che i tempi sono quelli che sono io voglio rispondere solo a Ninarello che è più animato lui si è aggasato con questo 12 e 2 che è stato un evento un episodio non era successo mai perché da da Teleficaia lassù non era mai uscito un tempo niente di buono dalla radura del Pozzarello che loro hanno punti fissi e non c'è bisogno delle boe sanno al millesimo dove arrivano e quindi non si è mai intesiasmato nessuno sono venuti in piazza al giorno hanno fatto 12 e 2 un buon tempo per carità ma purtroppo si sono aggasati ancora di più perché la Pirarella allo stesso giorno ha fatto 12 e 13 quindi c'è stata questa differenza 12 e 30 mi sembra 13 eh? quant'era? 12 e 13 mentre il microfono 13 mi conferma che 30 però dice allora ricapitolando di 12 e 30 allo stesso giorno con quella calma Paolo Baffigi dice sostanzialmente che il vostro tempo stratosferico sarà frutto di una casualità niente affatto perché abbiamo fatto altri 800 metri 1.2 ce n'è stato di tempi sempre meglio dell'altro poi te l'ho detto capo di gara poi parla il 15 d'agosto ci possono anche battere perché alla fine poi è una gara per l'amor di Dio la Pirarella può vincere ma non ci credo perché se vince la Pirarella un altro anno vado a Castello del Piano e vedo il paggio di Castello del Piano e qui ci vengo perché non è possibile poi che la croce o la fortezza ci possano battere ci sta nei 2-3 secondi di differenza ma no che la Pirarella viene fa 12 e 30 a 2.000 metri può fa 12 e 15 può fa 25 e 13 5 e 13 4.000 noi 2.000 questo è il problema comunque sono contento del 12 e 12 perché è un tempo vero finora c'era sempre le tare con i famosi buglioletti zeppette cose tanto i vostri tempi erano sempre quello fa parte del gioco questa volta c'è fiduciosi in un tempo reale vero che comunque è degno di ogni statistica perché vi promuove sicuramente a una buona prestazione però sappi che comunque il 12 e 5 che ha fatto la croce ne è che quei 3 secondi ti danno quella grande certezza e sicurezza no no ma nessuno è sicuro di vince perché siamo due va le croce diciamo un po' avanti a tutti dopo c'è poi una fortezza e per ultimo una pirarella poi tutto si può ribaltare però che la croce ci dà 5 secondi a vasca Pignatelli ci può leggiare via a casa muro muro e si ritira perché ci hanno 5 secondi a vasca ma devi correre parecchio questo muro muro l'ha fatto lui l'ha coniata Carlo qualche anno fa l'ha coniata Carlo qualche anno fa questa frase allora ci scrive Carlo ti dici le cose a te stesso no 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 allora si sta scaldando il clima si sta scaldando il clima Maurizio del Caffino di Orbetello ci scrive dice forza croce Maurizio di qualcuno che capisce dimmi cosa hai detto di qualcuno che capisce di Orbetellani che fanno i tempi con loro perché è la laguna ma la laguna la laguna poi Gabriele Bianciardi ci scrive da San Giuliano Milanese e dice forza valle Gabriele Bianciardi regolarissimo lo vedi quello questo carissimo lo vedi è il doc però scrive anche tuo fratello e dice speriamo vincare il valle se no dice Carlo perde tutti i capelli è vero è vero ma mio fratello c'ha tutti i bianchi è meglio perdere che avere tutti i bianchi se va di cent'anni io io difendo la categoria di quelli che fanno i bianchi certo ma la so però capito i bianchi 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 allora a noi ce l'ha con noi Paolo allora diamo la linea alla pubblicità se non avete qualche altro spunto per il momento Paolo Bracci ce l'ha Paolo Bracci è stato riflessivo no no una cosa sola probabilmente stasera alle 8 apriamo una colletta al finale per mandare Carlo a Castadepiano il prossimo anno biglietto pagato attenzione quando si fanno queste affermazioni ha detto se vince la Pilarella il prossimo anno il prossimo anno vada a venire un grande palio che è quello di Castadepiano giustamente è un grandissimo palio opa Castadepiano mi fa invita a Siena vado nel pacchetto tra Siena però ha detto che lascia per un anno il palio di Montagentario il palio di Montagentario e ovviamente palio Marriarello Argentario 77 edizione è un grande palio palio di Castadepiano di Siena grandissimo palio poi ovviamente quello di Siena Castigliana Pescaia insomma ci sono tanti tanti pali interessanti ovviamente l'argentario Porto Santo Stefano è un grande palio 77 edizione ha una storia importante Paolo Bracci se anche statistico la Pilarella è quella che le ha vinti più di tutti è partito a zona per andare a cercare la Pilarella vuole deviare il discorso Carlo Costanzo questo argomento l'Albo d'Oro parla chiaro ne abbiamo 24 per noi è un vanto ne avete 20? 24 non è una questione di coppie d'oro perché tanto ora chi passa dal microfono non comincia a dire noi abbiamo 2 3 4 15 coppie d'oro il problema è sempre quello nell'Albo d'Oro il numero dei pali è importante e il primo posto ce l'abbiamo ancora noi il primo posto la Pilarella Valle andate torniamo al discorso di Vittorio perché la Juve ha vinto 57 mila scudetti la metà naturalmente i grattati però di coppe dei campioni se ne vede e allora come è il problema perché tutti ambiscono questa coppa dei campioni e voi la Pilarella la coppa d'oro no perché la coppa d'oro no mi spieghi perché la coppa d'oro no perché non vi riesce come mai? quando ci riesce è un problema siamo tornati alla grande rivalità che emerge e non è sotterranea tra Valle e Pilarella tra Valle e Pilarella la rivalità ma emerge in maniera clamorosa so che la coppa d'oro però è stata istituita dopo dopo e la Pilarella ho l'impressione che all'inizio ecco in teoria ne avrebbe due in teoria ma purtroppo a quel tempo diciamo che evocavano solo loro perché noi eravamo l'altra parte loro andavamo qui da soli e facevamo parlo da soli poi per l'amor di Dio il grande Toretto non si può dimenticare perché l'amor di Dio anzi fai bene a ricordare il grande Toretto il grande Toretto non si può dimenticare però è chiaro che loro avvantaggiati perché avevano già la barca già il posto capito già lì preparavano bene tutto l'anno dopo è venuto il dopo e loro hanno cominciato naturalmente a non vincere più e ora i vocatori della Pirarella l'80-90% sono tutti dei campioni del valle perché se non li dammo noi vocatori arrivano dopo la repola queste intanto sono le immagini del drone che ci fanno capire come la folla stia invadendo la parte cruciale di Porto Santo Stefano ovvero la parte che costeggia lo stadio del Turchese perché oramai siamo alle 17.40 manca un'ora e mezza un'ora e mezza al via della 77esima edizione del Palio Mariano e l'Argentario questa è la curva del valle che si sta riempiendo vediamo i classici colori bianco-celesti bianco-blu quindi che stasera sicuramente festeggeranno sicuramente la vittoria del Palio perché sarebbe l'ora dopo l'ultimo anno che ci ha fatto vincere Capiene Solare non lo dimentichiamo quel 24 e 26 di Solari per l'amor di Dio è stata una cosa impressionante il valle di quell'anno e ora speriamo dopo quel 2009 naturalmente di concedere un'altra vittoria a questi Montadaioli che sarebbe veramente l'anno giusto allora ci sta raggiungendo mentre qua vediamo praticamente lo standard del corpo musicale Ivo Baffici di Port Santo Stefano ci sta raggiungendo il sindaco del Comune Montargentario Franco Borghini e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Gianni che invito a mettersi a sedere uno alla mia destra uno alla mia sinistra mentre continuano a scorrere le immagini buonasera presidente Gianni buonasera sindaco Franco Borghini accomodatevi allora accomodatevi vi fornisco un microfono il primo saluto lo facciamo con il sindaco Franco Borghini sindaco abbiamo avuto un temporale le condizioni meta adesso volgono al meglio stiamo vedendo è iniziata la sfilata la grande festa di Port Santo Stefano con il Palio Marinaro e l'Argentario qua vediamo la delegata dell'ente palo Alessandra Chiocca il capitano del Palio Luigi Galatolo e tutti gli altri rappresentanti momento di grande festa a Port Santo Stefano il momento clou dell'anno perché il Palio lo abbiamo sottolineato 77esima edizione quindi una grande storia ma soprattutto è sentito da tutti i santostefanesi e nel cuore di tutti i santostefanesi sindaco del Comune di Montargentario Franco Borghini si e nel cuore di tutti i santostefanesi compreso il mio io sono un contrattaiolo oggi sono di tutti ma sono della croce infatti abbiamo detto prima dice anche chi rappresenta le istituzioni è neutrale però mantiene nel cuore lei è della croce il sindaco Borghini è della croce e niente dispiace per il tempo però anche ieri sera abbiamo fatto una processione un po' tripolata perché ci ha preso l'acqua durante il percorso però può essere anche un segnale buono che sia una cosa che paglio bagnato paglio fortunato è un modo di dire ormai anche stantivo però io credo che le condizioni del tempo vadano migliorando e che quindi ci siano tutte le condizioni per vedere una bella gara che da quanto mi si dice perché quelli che hanno preso i tempi i cronometri e quant'altro hanno tutti la certezza che sia un paglio molto combattuto perché non c'è grandi differenze tra il primo e l'ultimo dei rioni che hanno provato hanno fatto le prove sui 2000 metri che non sono del tutto sintomatiche perché poi gli altri 2000 sono quelli definitivamente importanti però sui primi 2000 ci sono delle differenze di 6-7 secondi tra il primo e l'ultimo quindi vuol dire che la competizione è molto garantita sono molto contento della presenza qui a Monte Argentario di Eugenio Gianni presidente del Consiglio regionale che ha avuto la bontà di ospitarci a Firenze all'auditorio della regione toscana un aspetto importante peraltro perché lo diciamo Sino scusi se mi interrompo ma siamo in diretta mondiale ricordiamo perché siamo sul satellite siamo in streaming sul sito del Comune di Monte Argentario sul sito del Palio Monte Argentario sul sito di Arezzo TV mi dicevano che in streaming non si sta sentendo l'audio speriamo che i tecnici magari risolvano il problema il prima possibile quindi diciamolo che significato ha quest'anno grazie diciamo all'interessamento del presidente del Consiglio regionale il Palio Marinaro dell'Argentario verrà riconosciuto come manifestazione storica e quindi avrà assunto un ruolo e una importanza che negli anni passati non ha mai avuto essendo fino ad oggi una manifestazione soltanto di carattere locale devo ringraziare il presidente del Consiglio regionale per la sua disponibilità anche il fatto che sia venuto oggi ci onora e ci fa molto veramente piacere grazie al sindaco del Comune di Montagentario Franco Borghini ovviamente rimane ancora qua perché poi ci darà i saluti Eugenio Eugiani il presidente del Consiglio regionale della Toscana allora l'ha introdotta benissimo il sindaco Borghini con il Palio Marinaro dell'Argentario settantasettesima edizione ciò vuol dire che è una storia già consolidata ma oltre agli anni questa è una manifestazione che è realmente sentita dai santostefanesi guardiamo che festa una festa di popolo una festa multigenerazionale dove ognuno partecipa con il cuore e chi non può partecipare per motivi di lavoro perché Porto Santo Stefano è città di mare e alcuni in questo periodo sono imbarcati il Comune di Montagentario l'ente Palio si impegnano tutti gli anni a irradiare in diretta televisiva sul satellite questo Palio questa manifestazione proprio per permettere a ogni santostefanese in ogni parte del mondo di essere collegato con Porto Santo Stefano credo che questo sia un aspetto molto molto significativo e bello Eugenio Eugiani Presidente del Consiglio regionale della Toscana Sì, questo è molto bello del resto la Toscana è terra che sta promuovendo se stessa a livello nazionale e internazionale proprio attraverso l'amore verso i propri centri e quindi giochi storici che ne rappresentano una testimonianza anche di partecipazione emotiva devo dire che oggi sono quasi 200 le manifestazioni che in Toscana all'insegna della storicità della rievocazione e del folklore stanno sempre più conquistando sia i propri cittadini e nell'entusiasmo e nel senso di partecipazione dei cittadini anche tanti turisti che vengono da ogni parte del mondo in realtà però proprio perché sono diventati così tanti e molti di questi giochi sono stati diciamo rivitalizzati in tempi recenti si tratta di fare un po' una selezione di quelli che sono i veri e propri giochi e manifestazioni storiche non solo eventi folkloristici animate per attivare diciamo un'attenzione turistica e Porto Santo Stefano con il suo palio marionaro fa parte addirittura fin dal 1991 di quei 26 giochi storici che composero l'associazione italiana giochi storici quindi siamo nella crema siamo in quella parte che sono uno su dieci dei giochi che autenticamente esprimono una loro autenticità nell'identità che rappresentano proprio per questo con il sindaco Borghini abbiamo voluto è stata o lo ringrazio una bella manifestazione presentato nell'auditorium del consiglio regionale a Firenze l'edizione la settantasettesima edizione di quest'anno è stato un momento molto commovente anche perché abbiamo trovato diciamo nell'entusiasmo dei colori quello che poi è lo spirito che viviamo oggi nello svolgersi della manifestazione fra i singoli quartieri che animano il palio vi è qua un grande senso della storia che si esprime in un monte argentario e in un porto Santo Stefano che è stata un po' capitale di un piccolo stato lo stato dei presidi per due secoli e mezzo solo nell'età napoleonica il monte argentario e lo stato dei presidi vennero a far parte di quello che poi sarà il grandocato di Toscana che si scioglierà nell'Italia e quindi vi è una specificità di identità che una manifestazione come questa valorizza così come parliamo di una propensione internazionale ne parlavamo prima con Borghini a pochi chilometri da qui quando l'esperienza dell'aereo viveva attraverso gli idrovolanti Italo Balbo partì con altri suoi diciamo coraggiosi esploratori del mondo e per la prima volta partendo dalla laguna d'Orbetello si arrivò nell'altra parte del continente ovvero in America con un'esperienza quella della trasvolata del 1930 che fece epoca in tutto il mondo quindi siamo di fronte a luoghi che da un lato sentono la loro identità ma che dall'altro ci offrono il modo per vivere il mondo e questa propensione della Toscana ad essere una delle regioni più conosciute in ogni continente si manifesta anche attraverso una manifestazione come questa che è un bellissimo biglietto dalle visita per tutta la nostra regione bene davvero ha fatto un bellissimo quadro Eugenio Eugiani Presidente del Consiglio regionale della Toscana io chiederei a tutte e due una vostra riflessione perché ovviamente oggi è una giornata di grande festa che impegna tantissimo il Comune di Montargentario anche sul piano della sicurezza non mi sembra che tutto stia procedendo alla perfezione però vogliamo anche ricordare come oggi sia un giorno di dolore per l'Italia e il palio dell'Argentario il palio Maria dell'Argentario renderà onore alle vittime ieri di Genova fermandosi prima che Iguzi entrino in acqua un minuto alzando tutti i remi tutti i vocatori alzeranno i remi credo è significativo questo vorrei chiedere il pensiero del sindaco Franco Borghini con l'entepadio abbiamo concordato di dare un segnale forte per quello che potevamo verso il dolore di queste famiglie che hanno così subito delle perdite in maniera veramente stupida nel senso che crollare nel 2018 un manufatto di cemento armato è veramente qualcosa di antistorico noi non possiamo fare altro che omaggiare le vittime con il modo più significativo possibile e però siamo vicini alle famiglie veramente per esprimere le condoglianze a loro e la nostra vicinanza al loro dolore grazie al sindaco Borghini e Genio Gianni su questo aspetto di dolore per Genova e per l'Italia ma io ieri dall'ora di pranzo quando veni a conoscenza sono stato per ore attaccato alla televisione come penso tutti gli italiani perché quello che è accaduto l'accidentalità di un evento che ha drammaticamente coinvolto famiglie che magari si godevano il giorno prima di ferragosto o per lavoro passavano o si trovavano nei capannoni dell'azienda comunale per lo smaltimento dei rifiuti da precari a svolgere il proprio lavoro in ognuno di loro dalla famiglia che interamente scompare al bambino di 10 anni a tutti coloro anche un fiorentino stamani appunto il nostro giornale ne dava grande evidenza ognuno di loro sono persone che hanno visto drammaticamente spezzarsi la propria esistenza per qualcosa che in Italia non deve accadere e devo dire che Genova ne vivrà anche nei prossimi giorni nelle prossime settimane nei prossimi mesi drammaticamente una trasformazione della vita della città perché era il ponte che collegava questa città molto popolosa da una parte all'altra quindi tutta l'Italia si stringe intorno a Genova si stringe intorno alle vittime e io spero che possa essere trovata presto una soluzione per riaffidare allo spirito del nostro paese a quell'Italia che sa stringersi nei momenti d'emergenza e trovare le soluzioni per il futuro il fatto che gliene venga dato memoria e vicinanza e partecipazione oggi qui al palio è un fatto molto bello grazie Luciano Gianni una battuta veloce prima di lasciarvi Sindaco questo è il suo primo palio da primo cittadino primo palio da sindaco è emozionato perché sappiamo che poi ci sarà la grande festa per chi vincerà sotto la terrazza del palazzo comunale e quello è un momento indimenticabile ovviamente per chi vince lei è all'esordio in questa festa come sindaco sono all'esordio e mi mosso magari una parola eccessiva però sono veramente entusiasta di passare di vivere questa esperienza e che qualsiasi sia il rione vincente lo accoglierò a braccia aperte anche se ripeto non rinnego la mia appartenenza al rione croce però come sindaco sono veramente il sindaco di tutti i rioni grazie al sindaco del comune di Montargentario Franco Borghini credo che ci sia con Eugenio Gianni allora vediamo siamo in diretta mentre continuano le immagini di questo è il rione fortezza la sfilata del rione fortezza ma possiamo un attimino con le immagini venire qua nello studio perché credo che Eugenio Gianni può fare con il mio microfono volevo consegnare al sindaco il creste che è il simbolo ufficiale della regione toscana i colori bianchi e rossi da mille anni i colori della regione toscana sono anche i colori di un rione quindi sono molto familiari in Toscana e dall'altro il Pegaso che è il simbolo della libertà che i toscani si conquistarono nel 1944 beh io vorrei sentire le parole del sindaco e vi ringraziamo che questa consegna ufficiale l'avete fatta davanti alle telecamere perché a mio avviso assume anche un valore più significativo bella questa stretta di mano tra il sindaco del comune di Montargentario Franco Borghini ed Eugenio Gianni il presidente del consiglio regionale la regia ci chiede di far vedere il creste il creste ufficiale della regione toscana il creste ufficiale della regione toscana sindaco Franco Borghini una battuta e il fatto che i colori della regione toscana siano gli stessi della croce è una casualità non è un fatto voluto grazie una piacevole coincidenza in realtà in realtà sono i colori talmente familiari e connaturati con la storia della toscana che 5 capoluoghi provincia su 10 li hanno li ha ad esempio Grosseto capoluoghi provincia ma anche Firenze Pisa Lucca e Pistoia e poi ci sono più di una trentina di comuni questo perché appunto Ugo di Toscana che viene definito il gran barone da Dante nella Divina Commedia che lo associa alla bella insegna appunto ai colori bianchi e rossi da mille anni rappresentano il simbolo della nostra regione grazie Eugenio Gianni Presidente del Consiglio regionale grazie al Sindaco Franco Borghini grazie Sindaco buon lavoro e noi noi ci fermiamo con queste splendide immagini dallo Stato del Turchese prego prego potete passare mentre il Sindaco Franco Borghini e il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni stanno salutando tutti gli ospiti del nostro studio noi ci fermiamo pubblicità a Rienzo torniamo in diretta da Porto Santo Stefano dove entriamo nel vivo entriamo nel vivo sentite come cresce la nostra adrenalina entriamo nel vivo della settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario ci stiamo scaldando anche noi tornavo tra poco in diretta siamo di nuovo in diretta siamo in diretta Porto Santo Stefano cresce l'adrenalina si impennano le emozioni la festa entra nel vivo oramai manca poco più di un'ora alla via della settantasettesima edizione al via della settantasettesima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario questo è Rione Valle impegnato con la propria sfilata guardate che che splendide immagini queste scuò come si chiamano le donne indiane indiane americane è vero a proposito ogni rione per quanto riguarda la sfilata ha fatto una cosa a tema no? allora la Pirarella il tema della sfilata è stato il mare per quanto riguarda la fortezza il tema della sfilata è fortezza incantata puoi evitare che abbiamo la croce nella sfilata il tema sono stati i pagliacci e per quanto riguarda il Valle il tema della sfilata sono stati gli indiani americani cioè questo per dire come questi effettivamente sia poi il vero carnevale santo stefanesi a tutti gli effetti senz'altro allora abbiamo Giuseppe Sordini che è il presidente del consiglio comunale di Monta Argentario Giuseppe Sordini allora dici un po' le tue riflessioni le tue valutazioni sul Palio Marilare dell'Argentario questa giornata di festa pazzesca inimmaginabile per chi non l'ha mai vista che c'è soltanto a Porto Santo Stefano questo Palio è un'autentica festa di popolo è un momento che coinvolge tutti bambini adolescenti ragazzi adulti anziani davvero è una festa straordinaria dici le tue impressioni le tue valutazioni le tue riflessioni sì diciamo che il Palio Marilare dell'Argentario nasce come una una un incrocio tra storia e leggenda e e poi piano piano è diventato una tradizione come è giusto che sia una manifestazione popolare cioè è partito con uno spirito prettamente di competizione diciamo chiamiamola così alla buona dove solo il 15 d'agosto si trovavano alcuni volenterosi alcuni atleti chiamiamoli anche atleti anche se atleti non fossero a quel tempo e imbarcavano sulle barche trovate così per caso e c'era poi questa manifestazione che all'inizio era solamente una competizione dove le barche venivano portate fuori a 3.000 metri circa e poi chi arrivava prima in terra aveva vinto il palio e da lì poi ovviamente con con l'andare avanti e con la modernità si è ovviamente evoluto da un punto di vista sportivo fino ad arrivare ai giorni d'oggi dove è diventata una competizione prettamente di altissimo livello sportivo perché la preparazione inizia il 15 il 16 praticamente il 16 17 di agosto dopo il palio di oggi e dura tutto l'anno con un'organizzazione dietro pazzesca pertanto diciamo che è passato oltre che da un punto di vista di tradizione è passato anche da un punto di vista di competizione sportiva diciamo ad alto livello perché lo sforzo che compiano questi ragazzi è uno sforzo importante in quanto fanno 4.000 metri nessuna gara di canottaggio comporta una comporta una diciamo uno sforzo così così enorme credo che sia l'unica gara al mondo dove si 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 sia impegnati per 4.000 metri su barche ovviamente non da canottaggio leggere ma barche abbastanza pesanti importanti pertanto queste immagini sono eloquenti Giuseppe Giuseppe Beppe Sordini a Porto Santosteo che hanno conosciuto tutti come Beppe Sordini questa è la famosa curva del Valle della Croce diciamo guardate manca manca un'ora e dieci minuti mancano un'ora e dieci minuti al via guardate già migliaia di persone presenti allo stadio del Turchese e questa è la dimostrazione che è una manifestazione tradizionale molto sentita è sentita da tutti io per esempio che sono nato nel Rione Croce sono ovviamente del Rione Croce anche se lo seguo ovviamente durante l'anno non molto però quando arriva questo giorno mi sento pure io abbastanza teso emozionato perché comunque è una competizione dove chiaramente da un punto di vista sportivo mi piacerebbe che il mio Rione vince io faccio sempre questo paragone con persone quando mi chiedono che cos'è il Palio Marinaro e l'Argentario dico sempre il calcio è lo sport più popolare ma puoi trovare trovi facilmente persone a cui di calcio non interessa niente ma non troverai mai un Santo Stefanese che rimane impassibile di fronte al Palio Marinaro e l'Argentario hai perfettamente ragione sto d'accordo con te guarda sinceramente il Palio Marinaro dell'Argentario coinvolge tutti quanti i cittadini di Monte Argentario e ti devo dire anche moltissima gente che viene da fuori che non l'aveva conosciuto che l'ha visto per la prima volta e che è rimasta impressionata e affascinata allo stesso tempo pertanto spesso e volentieri quando hanno occasione ritornano a vedere come si integrano benissimo le immagini ci fanno penetrare nella realtà di il Palio Marinaro dell'Argentario la festa della gente dei rioni con l'ufficialità degli equipaggi che sono quasi portati in gloria quasi osannati leverei anche il quasi vengono tutelati prima di scendere in acqua gli equipaggi secondo me questo sembra un contrasto ma in realtà è un connubio di espressioni di emozioni di sentimenti che ci rende bene l'idea di come questa sia una manifestazione unica nel suo genere di pali ce ne sono tanti ma di pali che fanno parte realmente dell'anima e del cuore della gente ce ne sono pochi il Palio Marinaro dell'Argentario è nel DNA dei santostefanesi esatto è proprio nel DNA dei santostefanesi ormai una tradizione che è nata negli anni 20 pertanto ormai sta quasi arrivando a compiere i cent'anni perché i pali ufficiali si conoscono dal 1930 ma in realtà 37 ma da questo ma questo tipo di manifestazione era cominciata ben prima con appunto come dicevo con queste manifestazioni che si svolgevano il 15 d'agosto in una maniera molto molto diciamo improvvisata dove ognuno embarcava sulla barca che trovava partecipavano questi prima tre rioni poi quattro e questo è stato un po' ovviamente ormai la storia è diventata storia dell'argentario pertanto ha coinvolto tutti e sta coinvolgendo sicuramente tutti quanti i cittadini ancora una cosa con giuseppe sordini presidente del consiglio comunale di monta argentario visto che questa diretta televisiva che possa da replicata nei giorni a seguire è visibile praticamente in ogni parte del mondo perché digitali terrestri streaming canali satellitari è anche una grande promozione del territorio per la maremma per la costa d'argento per l'argentario e per porto santo stefano perché qua c'è un mare straordinariamente meraviglioso e l'argentario visibile è vivibile 365 giorni all'anno ovviamente ha il crew nella stagione estiva ma è un luogo assolutamente da visitare perché offre tantissimo un mare stupendo ma non c'è solo mare è vero sì diciamo che il fatto di essere visibili nel mondo è chiaramente un'opportunità turistica che vorrebbero in tanti noi abbiamo la fortuna attraverso questo spettacolo tradizionale questo palio bellissimo di poterci far conoscere al mondo pertanto è ovvio che io invito tutti coloro che ci seguono in diretta streaming o sulle tv satellitari di venirci a trovare perché effettivamente è vero l'argentario ha un mare stupendo perché un mare che è direttamente collegato con le bocche di Bonifacio è chiaramente ricco di correnti e ricco di rinnovamento continuo dell'acqua pertanto un mare pulitissimo un mare bellissimo però oltre a quello c'è anche altre cose insomma diciamo la regia infatti intanto ci sta alternando in maniera molto opportuna la festa dei rioni le sfilate dei rioni che abbiamo visto tutte molto colorite peraltro poi sarà assegnato il premio alla migliore sfilata nei giorni seguenti ma ci sta facendo vedere in questo caso la guardia costiera prima abbiamo visto la polizia ma un elogio va a tutte le forze dell'ordine schierate in maniera massiccia per permettere visto che si richiamano decine di migliaia perché noi parliamo di 20.000 persone intorno allo stadio del Turchese tutte le forze dell'ordine devono fare in modo che tutto proceda per il meglio che ci sia la massima sicurezza per i cittadini quindi un elogio a chi è presente che si sta comportando benissimo ma ovviamente alle forze dell'ordine che stanno facendo il loro lavoro in maniera impeccabile sicuramente sì le forze dell'ordine sono impegnatissime si mettono sempre a disposizione di questa manifestazione sono incomiabili sotto questo aspetto sono persone che qua alla fine sono coinvolte anche loro direttamente dal palio l'arma dei carabinieri abbiamo sì tutte le forze i vigili del fuoco ci sono tutti prima abbiamo visto polizia capitaneria di porto scusa di ti interroppo ma è giusto menzionarli è giusto menzionarli perché effettivamente senza di loro effettivamente sarebbe difficile organizzare tenere diciamo guardia costiera questo specchio d'acqua abbastanza libero da imbarcazioni per la manifestazione volevo ricordare un'altra cosa certo che ci tengo a ricordare che questa coppa d'oro che nessuno cioè che si vince ogni tre anni come ben tutti sanno è stata offerta questa ultima e che il rione che la vincerà per tre volte si aggiudicherà è stata offerta dagli amici del Guzzo con il loro presidente Neno Cappuccella conosciuto come Neno Cappuccella Nazareno Bausani che effettivamente essendo proprio amici del Guzzo come dice la parola persone che vivono il mare costantemente sempre solo loro potevano solo loro potevano sentire veramente il desiderio la necessità di mettere in pari loro stessi facendo un'offerta tra i soci prendendo i soldi dai soci e questo qui è un altro riconoscimento che credo gli sia dovuto perché solamente la gente di mare può apprezzare in toto questo tipo di manifestazione tutti i santostefanesi ovviamente che poi sono quasi tutti gente di mare diciamo no senza il quasi tutti gente di mare ma questi qui sono persone che lo vivono costantemente che hanno creato appunto questa associazione amici del Guzzo pertanto io mi sento come come diciamo rappresentante di questa amministrazione di ringraziarli approfittando di questa di questa opportunità e ringraziarli di essere stati loro a mettere in palio questa coppa d'oro bene noi ringraziamo Giuseppe Sordini o Beppe Sordini per i santostefanesi presidente del consiglio comunale di Montargentario grazie per questo tuo intervento molto articolato dettagliato ma che ha dato un ulteriore contributo a questa lunghissima diretta per capire quello che è lo spirito del palio e ho detto cresce la febbre del palio guardate un po' è vero già i fumogeni già siamo in clima pre-palio manca pochissimo Beppe benissimo si si manca pochissimo ora ce l'andiamo io non andrò in comune me lo vado a vedere dove l'ho sempre visto questi sono i tuoi sono i supporters della croce Pescaramazia lo vado a vedere dove l'ho sempre visto dove ho visto vincere diverse volte ce lo vuoi svelare il posto dove lo vai a vedere eh si è sotto la pace praticamente nella croce ti ringrazio molto Paolo di questa possibilità che mi ha dato di esprimere le mie considerazioni grazie al presidente del consiglio comunale di Montargentario Giuseppe Sordini grazie e prima di passare al prossimo ospite oggi davvero abbiamo un parterre che è continuamente camaleontico in fase di cambiamento continuo salutiamo Marco Fanciulli del bar del corso di Orbetello che lui è un tifosissimo della croce oggi non è presente non è potuto essere presente a Porto Santo Stefano ci sta guardando in diretta tv salutiamo anche Micio Marconi Alessandro Marconi detto Micio da Orbetello che è con tutti i suoi amici davanti allo schermo tv il giornalista Carlo Sestini ci ha raggiunto qua nello studio di Piazzale di Rioni mentre sembra di essere nella curva sud dello stadio olimpico perché i fumogeni stanno arrivando con il loro odore acre ma questo ci rende ancora di più l'atmosfera del palio ci fa emozionare di più ci fa crescere l'adrenalina cresce anche il mio ritmo di voce il mio livello di voce perché ovviamente mi emoziono ma vorrei sentire le impressioni le emozioni di Carlo Sestini buonasera Carlo ciao buonasera Paolo buonasera anche ai telespettatori quelli che ci stanno seguendo in questo momento da tutto il mondo che devo dire sembra di essere a San Siro quasi per un derby Milan-Inter perché davvero c'è tanto colore tanto folklore si vede che è una festa popolare molto sentita da tutti vorrei dire anche bellissime ragazze guardate qui molto belle veramente c'è il fior fiore delle ragazze di Porto Santo Stefano e di Monte Argentario anche bei ragazzi lo diranno insomma certo anche il popolo femminile sarà contento di vedere questi ragazzi in desabili sono molto molto poco vestiti ma ho visto prima che facevano anche dei riti propiziatori esatto prima di entrare sui guzzi facevano riti propiziatori cioè proprio sembra una macumba stanno facendo davvero delle cose incredibili tutti vogliono vincere questo palio la 77esima edizione Carlo pensa quanta storia ce lo diceva prima Giuseppe Sardini cioè il primo palio risale al 1937 ma la storia è ancora più antica e beh sicuramente questi affondano le radici nella storia come tu hai detto ricordiamo che l'Argentario è stato territorio prima dominato dagli spagnoli poi poi è stato uno stato dei presidi è stato uno stato dei presidi certo quindi di conseguenza ha una storia veramente importante e significativa non solo per la provincia di Grosseto ma per tutta la Toscana e credo che io ho sentito parlare molte lingue quindi significa che ci sono prima per arrivare qua ho sentito davvero parlare in tante lingue non solo stranieri ma anche italiani proprio di una tribù una tribù sì c'è la tribù del valle ho visto infatti sono arrivati sei esperto sei esperto no l'ho vista li ho visti arrivare quando sono arrivato io e la cosa che mi ha colpito è la zappa perché oggi si usa Whatsapp e loro già prima avevano la zappa e quindi in qualche modo sono stati per i corso sì perché l'Ironia non manca l'Argentario no no assolutamente ho visto anche uno striscione arrivando qua che ricordava che noi siamo i più grandi dei rioni però poi non ho letto quello che cosa trattava ma io sostanzialmente dicono vince siamo i più grandi lasciamoci alle spalle gli altri sostanzialmente sostanzialmente era questo perché poi sai era un telo che svolazzava sì che svolazzava ma io devo dire una cosa che veramente c'è una una febbre incredibile nel vedere anche queste persone qualcuno che ecco magari non si rendeva conto della di quanto il palio a Monte Argentario è sentito perché vedo vedo persone che rimangono anche stupite della della partecipazione corale addirittura venendo dalla strada c'erano tanti motorini che mi hanno sorpassato tanti scooter tutti bardati con i colori dei vari rioni significa che vengono magari anche qualcuno da Porto Santo da Porto Ercole oppure da altre località sempre del comune di Monte Argentario quindi insomma significa che è sentito non solo nel paese ma in tutto l'Interland definiamolo così assolutamente grazie Carlo Sestini per il tuo contributo dimmi io ricordo sempre la puntata di Dilettando che abbiamo fatto dove un imitatore ti ha imitato sulla telecronaca proprio del palio sulla trasmissione di Dilettando condotta da Carlo Sestini una delle trasmissioni culte della nostra provincia c'è stato un imitatore da Cecina che ha fatto l'imitazione della telecronaca del palio Mararello Argentario esatto esatto e quello credo sia stato un po' il termometro di quanta popolarità abbia raggiunto il palio Mararello Argentario e questa diretta televisiva esattamente grazie anche ai telespettatori grazie a te un buon palio grazie Carlo a te buona visione ciao e goditi questo grande pomeriggio allora vediamo Carlo Costanzo che spettacolo Carlo Costanzo Carlo Costanzo inizieremo tutti stasera ma quanti siete ma quanti siete non è mai regolare non è il rione più popolare più carnevalesco più tutto diamo tutto a questo palio diamo tutto io chiederei volevo una cosa caro Mastracca che quest'anno sono venuti a mancare diciamo due personaggi del rione valle che non sono molto importanti uno è Monica Allori che è Zubabbo grande pasta fina tutti gli anni faceva le sfilate e quest'anno è venuta a mancare la figlia e poi un altro Vallaiolo Doc che c'è anche la Sardegnolo e Luciano Sidi anche lui un grande Vallaiolo e ci hanno lasciato e speriamo che da lassù facciano un tipo per noi e che vincano anche loro hai fatto bene a ricordarlo allora continuano ad arrivarci una marea di messaggi anche dall'altra parte del promontore da Porto Ercole ci scrive Doriana Sabatini e ci fa complimenti a tutti Jacopo Padomani da Orbetello ci segue sempre con attenzione ci incoraggia grazie Jacopo Franco Ciardi giornalista Franco Ciardi ci segue per dire che come tutto il mondo è collegato ma anche la provincia di Grosseto cioè il Palio Mariale dell'Argentano oramai è un evento clou nel mondo ma è assolutamente seguito anche dai paesi limiti dalle località limiti in provincia in regione cioè questo è il segno che il Palio è davvero nel cuore di tutti salutiamo anche Montiano dove io ho giocato cinque anni a Montiano dove tutti ti conoscono anche a te il grande Montiano il grande Montiano guarda Micio Marconi dice grande Linnarello il numero uno il numero uno il bombe allora siamo stati un po' autoreferenziali ma ce lo permetterete ogni tanto di essere un po' autoreferenziali Paolo Bracci come vivi questi momenti meno di un'ora al via meno di un'ora al via si vive 365 giorni all'anno per arrivare alle 19 e 15 nel 15 agosto e adesso manca meno di un'ora vorrei avere la tua verve Paolo ce l'hai ce l'hai se vince ce l'ha se vince ce l'ha ce l'ho più di Paolo mazzo no è come si vive come la vediamo tutti a parte Carlo che ha già vinto no scusa se ti interrompo ma avete comprato la cravatta del balle no no ogni musicante della banda Baffici chiaramente porta la cravatta del suo rione d'appartenenza vi prendono in giro no 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 è la verità non è la presa in giro questa è la verità 2016 quarti 2017 quarti questa è la pilarella che dedica al valle un ricordo come dice Paolo Bracci la verità la verità è sacrosanto è incontrovertibile tra le altre cose può darsi che diventino campione anche loro magari noi speriamo che qui cinque anni di pila anche voi Carlo ma potete arrivare a cinque tranquillamente anche voi dicevo come era la tensione la tensione credo che si sta palpando si sta palpando in quello che non ci vengono neanche più le parole a parte ecco l'ha vinto Carlo il palio delle parole come al solito quindi non è quello il problema gli diamo volentieri il palio delle parole noi preferiamo il palio dei remi della vunga il palio che ci dirà che è un quarto alle otto di Errione campione del 2018 non certo la pilarella e l'attenzione lo sai Paolo è forse l'emblema di quello che è il palio per noi lo sentiamo talmente tanto che è inutile anche sprecare tante parole come si chiama? il palio è il palio soprattutto ora quando ci avviciniamo al colpo di partenza e questi sono momenti in cui veramente te dici avete vissuto 365 giorni per questo giorno quando ci sei dentro questo giorno è un giorno stranissimo che per chi c'è dentro per chi mastica di palio è un giorno molto particolare dove tutte le speranze vengono riposte e speriamo ecco che le speranze di ognuno per il suo rione chiaramente porti a casa la vittoria che sia il massimo di tutto lo sforzo l'attenzione morale emotiva tutte le risorse e le energie mentali che ti hai messo in questi 365 giorni ci credo ci sta raggiungendo un altro ospite nel frattempo dico ancora chi ci sta scrivendo poi purtroppo non le potrò più menzionare tutti e mi scuso ma il telefono ci sta andando in titta e poi dovremmo concentrarci sulla diretta però Danila Cerulli ci scrive da grosseto e dice forza valle ci scrive anche il portiere dell'argentario calcio Alessandro Milani che è di Porto Ercole e dice un grande saluto a tutti ma non dirò mai per chi tipo allora Angelo Orsini Angelo Orsini lo scorso anno timoniare della fortezza quest'anno quest'anno vieni qui vieni qui Angelo Orsini che anno scorso timoniare della fortezza avete accarezzato il sogno della seconda coppa d'oro quest'anno come lo vivi come lo stai vivendo Angelo Angelo Orsini quest'anno sono stato molto rilassato sono stato dietro le quinte diciamo dai l'ho seguito poco perché diciamo mi sono dedicato un po' la mia vita perché tre anni sono stati veramente duri e niente così l'anno scorso purtroppo ci ha detto male abbiamo accarezzato abbiamo perso purtroppo quando uno si mette in gioco una volta si vince una volta si perde e va bene così e niente vi volevo salutare sono passato di qui mi fa piacere che quest'anno non sia stata un po' di ma tutto a posto tutto a posto abbiamo fatto senti dicci un pochino come vivete questi momenti che precedono la messa andare in acqua e ora c'è un attimo di tensione questo non si può nascondere via tutto un anno di carico l'attivitazione prima si va in acqua e si insomma si va fuori a largo e meglio è si sta un po' in silenzio con ragazzi nel senso senza gente si sta con ragazzi si parla un pochino insomma una stretta di mano e poi il carico di un anno bisogna farlo vedere insomma quello che abbiamo creato questo intanto è l'ingresso del comune montargentario dove stanno portando la misurazione dei remi Angelo un'ultima cosa ancora cerca di staccarti dal cuore che hai la fortezza però secondo te chi è realmente favorito in questo palio dove non riusciamo a capire chi è il rione che potrà vincere te che idea ti sei fatto sinceramente al di là del cuore della passione no no questo è diciamo un pronostico mio non è detto che succede succederà ecco secondo me le probabilità che la fortezza vince il palio ci sono il pronostico diciamo con Carlo Costanzo l'abbiamo fatto secondo me secondo me è fortezza croce valle e pilarella secondo me croce valle e pilarella secondo me è così poi sai il palio diciamo è strano il giorno un po' particolare secondo me ma con questo non è perché l'hanno scorso ho perso uno dice no 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 questo è una l'ho visti poco quello che ho visto io per quanto ci capisco è così poi ora vediamo manca poco dai sì allora Paolo guardate il valle guardate questa immagine è stupenda è stupenda tutti là su sul gommone a fare il tifo allora dobbiamo dare la lina vi saluto io Angelo Orsini grazie buon paio a tutti ci vediamo ci vediamo in bocca al lupo divertiti Paolo Paffici velocemente perché dobbiamo dare la lina alla pubblicità e che cosa vuoi sapere dimmi tutto no mi hai chiesto te di parlare pensavo volessi dire qualcosa no no io invitavo Angelo lo salutavo perché pure io condivido quello che hai detto di lui l'anno scorso purtroppo una delle delusioni maggiori l'ha prese lui perché sul guzzo c'era lui sono rimasti molto scossi da questo pronostico che li dava favoriti e che purtroppo come ti devo correggere non era la seconda Coppa d'Oro ma era la quarta la seconda consecutiva sì va bene va bene ci sono troppe il numero è troppo grosso non ci sente perché non ha il microfono ma via Carletto ci ha dato il gottuto me l'hanno presi loro vedi voglio arrivare prima non ci voglio far parlare Carlo finora è rimasto calmo Luciano allora ti avvento a Luciano e so che fine fai lo sai Luciano vedo quelli del valle scatenati scatenati o è la regia o è la regia che si è concentrato sul valle ma vedo quelli del valle che oggi scatenati 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 sono solo di più dice Paolo Bracci sono solo di più sono di più grandi ci stanno facendo ricordare le nostre spalle e noi li salutiamo grandi grandi perché ci dovete incoraggiare anche a noi grandi 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 allora il clima è questo il clima è questo da casa credo che lo capirete benissimo ve lo stiamo trasmettendo questa è la misurazione dei remi dei remi per misurare se tante volte qualcuno fa il furbacchione gli facciamo segare qualche remetto se non sono a norma ok pubblicità Nedo Sentimenti chi cambia canale è un furfantino chi cambia canale è un furfantino no si perde qualcosa è un fessacchiotto fessacchiotto diciamo così torniamo tra poco in diretta non ho preso il posto di Paolo non ho preso il posto di Paolo non ho preso il posto di Paolo sali Maurizio ci abbiamo davvero una serie di messaggi pazzeschi anche con domande ai nostri ospiti ad esempio peraltro i portecolessi tipo Marino Costagliola vi sta scrivendoci un saluto agli amici di Port Santo Stefano Don Mariano Don Mariano Landini ci fa notare e lo ringraziamo un grazie di cuore a voi a chi fa la diretta al Comune di Montargentario all'ente palio a chi partecipa alla diretta perché i malati che sono a casa e non possono uscire possono seguire la diretta e questa è una cosa bellissima ha fatto bene Don Mariano Don Mariano Landini a farcelo presente ha fatto benissimo ha fatto benissimo perché anche loro dovranno guardare il palio e la televisione gli dà l'occasione di guardare questa grande manifestazione peraltro da Porto Ercole Miraldo Sabatini fa una domanda a Ninnarello un noto tifoso interista e gli dice preferisci vincere il palio oggi o che domani Modrici arrivi all'Inter intanto vinciamo il palio poi per Modrici c'è tempo caro Miraldo a Miraldo allora abbiamo anche abbiamo il grande Maurizio Capitani che attualmente è il direttore sportivo dell'Argentario Calcio ma lui è stato il più giovane vogatore a vincere il palio ma arrivare l'Argentario è qua bardato fra pochino la regia ce lo farà vedere dei colori del valle che poi basta cambiare il nome diventa Argentario Calcio vero Maurizio Capitani buonasera Paolo grazie è acceso è acceso è acceso tenilo vicino alla bocca allora dici un po' come vivi questi momenti che precedono il via della 77esima edizione del palio Marilardo dell'Argentario senti già come siamo in simbiosi con la manifestazione con il palio la nostra voce la mia voce cresce man mano che si avvicina il via buonasera a tutti mi guarda Paolo mi trascini insieme a te la tua la tua enfasi il tuo entusiasmo proprio trascina tutti quelli che te stanno dietro e di questo noi sono estremamente orgoglioso grazie grazie a voi il valle la prima sensazione veramente mi è venuta addosso questa mattina sono uscito da casa e un brivido mi ha attraversato tutto il corpo dalla testa ai piedi era tanto che non mi succedeva sensazione positiva sicuramente sì poi tra l'altro se mi consentite il mio amico Carlo Costanzo me ne darà atto la legge dei numeri questo è il palio numero 77 e io nel 77 vincevo il palio col valle non lo so sarà una cosa mi ci commuovo mi viene da piange sentiamo sentiamo il timbro di voce di Maurizio già commosso e credo in questi ragazzi che veramente guarda stanno dando tanto io mi affido al timoniere non è che li voglio mettere tutta la responsabilità addosso ma secondo me il palio dipenderà da lui li ho visti due volte vocare mi sono piaciuti dal timoniere li ho visti tutti li ho visti ricordiamo il timoniere che è Claudio Siano sì è veramente guarda metto tutto addosso a loro metto è una responsabilità chiaramente non da poco perché la gara è un giorno all'anno non è una partita di calcio non hai possibilità di rivincita di rivalza tutto va all'anno dopo quindi tutto ciò che di meglio hai dentro di te devi darlo oggi per cui io sono sento una positività un segnale positivo addosso di me che dice che il valle senz'altro oggi ci sarà le condizioni meteo sono 4-5 giorni che le seguo sai il mio mestiere quindi non niente di strano sei comandante e davanti a noi vediamo quello che io avevo presagito cioè il mare calmo questo è un altro segnale positivo è un altro segnale positivo per cui ecco niente ora sta a loro ma non a loro l'agurio va a tutti quanti a tutti e venti ragazzi che faranno questo sacrificio dalla pilarella alla croce alla fortezza al valle a tutti è uno sforzo immenso in mano in mano nessuno può sapere che cosa significa tranne chi lo abbia fatto per cui a loro il mio saluto il mio augurio che sia un bel palio che sia bello combattuto e che vinca il migliore e se mi permettete che vinca il valle no si bene vittorio vittorio le parole le lacrime sue ti fanno capire di quello che rappresenta e di quello che è il palio di quello che ogni santo stefanesi sta provando in questo momento ma guardate queste immagini queste sono praticamente sotto il nostro palco a fianco del nostro palco con i guzzi ancora a terra in attesa di scendere in acqua in attesa di rendere omaggio alle vittime della tragedia di Genova di ieri vero Maurizio? ahimè ho tanti amici lassù tanti colleghi comandanti da ieri che vedo filmati che lasciano nel cuore un dolore e uno strassio indescrivibili indescrivibili siamo vicini alle loro famiglie veramente è un giorno in cui in cui dobbiamo ricordarci anche di queste cose e siamo tutti con loro una preghiera per loro belle parole Maurizio Maurizio Capitani ti salutiamo ti abbracciamo ovviamente se va come tu speri ti aspettiamo qui alla fine qualcuno è già in acqua perché nel mare dell'Argentaro non si resiste al mare di Porto Santo Stefano è impossibile resistere guardate viene voglia di tuffarsi anche da noi queste acque sono stupende meravigliose grazie a tutti Maurizio Capitani Maurizio Capitani grazie Luciano Luciano Pignatelli ti abbiamo lasciato un po' in disparte dici un po' cosa provi tu in questo momento stranamente sono molto calmo e tranquillo ancora l'emozione lo stomaco come si dice non mi si è chiuso forse sarà la calma dei forti penso proprio di sì vediamo quando si avvicina l'ora della partenza in che condizioni sono come rionale come tutto penso anche gli altri comunque siamo tranquilli perché abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare dal primo giorno dal 16 d'agosto dell'anno scorso fino al momento della partenza quindi se saremo sconfitti saremo sconfitti forse da chi veramente e speriamo che sia più forte di noi lo credo poco ma se devo perdere vorrei perdere perché qualcuno è più forte di me e non vorrei perdere per qualche errore perché questa purtroppo sembra banale ma è una gara che non c'ha riprova cioè un anno di lavoro e può essere anche più forte ma se capita che fai un errore o due rischi di buttare come si dice proprio a mare il lavoro di un anno e questo poi ti rimane sulla coscienza per molto tempo se alla fine perdi ciao 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 continua Luciano ciao e quindi se scusate l'interruzione ma è arrivato un arbitro che è delle parti di Genova e quindi siamo stati a dargli le nostre condoglianze il nostro affetto che anche il comune di Monte Argentario e il padio dell'Argentario ha sempre manifestato nei confronti di questa città allora allora c'è il minuto di silenzio per le vittime di Genova e ci fermiamo tutti e ci alziamo tutti in piedi per onorare chi ieri a Genova ha perso in maniera assurda e tragica la vita questo è un minuto dedicato a chi ieri ha perso la vita a Genova ci fermiamo per un minuto tutti in piedi per onorare le vittime di Genova in piedi i vocatori sono tutti sono i regalzati e il figlio di Genova grazie grazie un minuto è stato un minuto ricco di significati ricordate le vittime di Genova sono state ricordate anche dal Palio Marinaro dell'Argentario anche dalla gente di Porto Santo Stefano e noi abbiamo Antonio Caroni che è giudice che viene proprio dalla città Ligure e vediamo che ha le lacrime agli occhi Antonio Caroni insomma le condolianze da parte della nostra federazione che è una cosa d'obbligo ti spiace perché quello che è successo non dovrebbe succedere purtroppo sono cose che capitano ringrazio tutti anche per il minuto di silenzio che è una cosa è il minimo perché c'è una tragedia che ha colpito Genova ma ha colpito tutta l'Italia ha colpito il cuore di ognuno di noi perché su quel ponte poteva esserci ognuno di noi ognuno di noi poteva essere su quel ponte maledetto ti ringrazio Paolo ti ringrazio Paolo dico tutto e a te buon proseguimento grazie buon lavoro ciao Antonio Caroni mentre iniziano a scendere in acqua i guzzi noi noi intanto ricordiamo che ci sta salutando Gabriele Nannini e poi un bel messaggio ci arriva da Michele Amoroso che è a Buenos Aires ci sta seguendo in diretta da Buenos Aires e dice in Argentina è inverno fa freddo se non fosse per il Palio e per la vostra diretta non sembrerebbe neanche Ferragosto ciao Michele Amoroso che sei dall'altra parte del mondo a Buenos Aires dove è inverno ci stanno seguendo Michele Amoroso ci sta seguendo ha detto se non fosse per il Palio e per la vostra diretta non sembrerebbe neanche Ferragosto ma invece Ferragosto allora è stato un momento particolarmente ricco di emozioni Paolo Bracci diciamo che per tutti i santostefanesi per esempio io personalmente ho zii e cugini a Genova quindi la prima telefonata ieri durante il pranzo era per sapere come stavano ma è una tragedia che comunque ci coinvolge tutti quanti Genova ha un legame particolare con Porto Santo Stefano perché è una città di mare dove molti santostefanesi nell'arco degli anni sono andati a lavorare come giustamente prima ricordava Paolo Baffici tanti sono ritornati tantissima gente sono ancora di legami c'è ancora molti cinovesi che chiamano casa Santo Stefano e quindi quando noi siamo a Genova andiamo dai parenti ci sentiamo un po' a casa nostra anche su e quindi la sentiamo particolarmente questa tragedia perché è una tragedia tra le altre cose è una tragedia dell'assurdo perché un ponte di un'autostrada in un paese come l'Italia non dovrebbe essere possibile per qualsiasi motivo che crolli e uccida 39 persone e ne ferisca gravemente altre sedici è una tragedia dell'assurdo a cui non ti dai una spiegazione il minuto di silenzio è stato il minimo è toccante per quanto possa essere toccante però bisogna interrogarsi sul fatto che dovremmo stare più attenti tutti quanti a che non succedano più queste cose che un po' di attenzione non sarebbe male perché i minuti di raccoglimento poi servono solamente a onorare le vittime innocenti che purtroppo passavano con un tratto di autostrada perché magari tornavano nella vacanza o andavano al lavoro veramente la tragedia dell'assurdo che ci tocca a tutti quanti come tocca tutte le tragedie ma le ripeto legami Santo Stefano con Genova in maniera particolare belle parole Paolo Bracci stanno entrando in acqua i guzzi permettetemi dei saluti personali di amici che mi stanno scrivendo Fernando Andreini è sulle Dolomiti ci sta seguendo mi ha mandato un messaggio Fabrizio Arienti mi ha mandato un messaggio vi saluto entrambi Fernando Andreini e Fabrizio Arienti Carlo Costanzo adesso sono tutti in acqua i guzzi ora è quello che diceva prima Angelo Orsini adesso è il momento della concertazione tutti no perché sta entrando ora alla croce adesso è il momento in cui si distaccano da tutti e rimangono isolati mentre ancora però devono essere effettuati i sorteggi dei cavitelli sì adesso è il momento che i vogatori si cominciano a scaldare in vasca fra un po' ci sarà il sorteggio del cavitello che penso che con questo mare non è che cambi cioè dove tocca tocca sono sempre meglio i centrali però con questo mare diciamo che sono tutti uguali i cavitelli se non cambia tempo e ora usciranno e si cominceranno a concentrare su tutto si concentrano fra di loro cominceranno a concentrarsi benissimo per poi essere pronti per la gara e sparare tutto quello che hanno il corpo che hanno messo dentro per un anno il tiro ecco fernando fernando antonio andrini mi conferma che in val pusteria sono sintonizzati su di noi nei rifugi e ci stanno seguendo pensate un po' dal mare all'alta montagna vittorio patanella le tue considerazioni quando manca meno di mezz'ora al via il problema è che a questo punto a questo punto del palio le considerazioni per chi è tifoso sono difficili a venire fuori ora inizia a sentirsi quella adrenalina quella quella quel modo quel modo che ti fa entrare dentro dentro qualcosa che che è particolare allora questa è la fortezza si poi neanche a farla apposta la fortezza le considerazioni considerazioni mi auguro e sono convinto che sia un buon palio e soprattutto mi auguro che sia la fortezza a a a vincere comunque quantomeno a fare un ottimo palio considerando che è un po' come dicevate prima voi è un po' l'anno zero allora questa è la pilarella quindi sentiamo Paolo Bracci che impressioni queste sono le prime impressioni quando vediamo queste intanto sono immagini dal drone sia ben chiaro queste sono immagini che arrivano dal drone immagini che ci fanno capire benissimo sento Paolo Baffici dice mare calmo Paolo Bracci queste le prime impressioni con l'equipaggio in acqua le bellissime immagini del drone si vede che c'è non tanto mare un pochino di onda vediamo un attimino credo che comunque queste siano condizioni presso che e fa un bel palio tutti quanti vedo come tutti un equipaggio concentrato sono in riscaldamento faranno la loro gara sono sicuro faranno una grande gara perché sono grandi ragazzi e faranno una grande gara ne sono straconvinto come tutti tutti gli altri è per carità però chiaramente io penso che l'equipaggio della pilarella dirà la sua anche nel 2018 allora salutiamo chi è all'ospedale in questo momento Rocco Brunello lui è milanese ma santo stefanese d'adozione è all'ospedale con un mio amico di Pidigliano Virginio salutiamo Rocco e Virginio da Siena Por Santo Stefano è con voi facciamo che questi fumogi sono dedicati a chi oggi non è presente a Por Santo Stefano ma con il cuore con le immagini di Arezzo TV di Luca TV è presente e davvero li salutiamo Arezzo TV dopo questa occasione per chi non può vedere il palio per chi lavora fuori per chi non lo può guardare di guardare questa manifestazione bellissima in diretta e verrà sicuramente una cosa spettacolare e il mare c'è un po' di marettollo c'è anche fuori non tanto però ci saluta anche Gianluca Gozzo dall'hotel Baia d'Argento all'Argentario ha detto di dare uno schiaffetto a Paolo Bracci Gianluca Gozzo dà uno schiaffetto a Paolo Bracci perché è ballaiolo tutto lì senti mi fai salutare da Porto Ercole anche Bruno scusa Bruno da Porto Ercole dice manifestazione stupenda complimenti a Porto Santo Stefano Vittorio Luigi Mataloni che è a Capraia lo saluto a Capraia con un grande abbraccio ciao Gigi Nedo Sentimelli si sta facendo notare come c'è un numero impressionante di persone questa è la la fortezza sentiamo Paolo Baffigi no c'è il microfono del Comune si è parlato di rinnovo di cambio c'è gente che invece come Paolo diceva che a volte si ritocca all'equipaggio da un anno all'altro noi per tanti anni abbiamo cercato di mantenere lo stesso equipaggio abbiamo cercato l'aggregazione capisco che almeno quattro quinti ce la fai a tenerli a volte uno proprio l'ultimo quinto è veramente difficile che si mantenga ma per vari motivi non solo perché non voglia sia cessata la passione per Rione a volte ci sono degli impegni che vanno oltre e sai benissimo questa è una gara che va esclusivamente a livello materiale anche se è diventato con agonismo da professionisti non c'è un vero e proprio guadagno perché non è che con questo ci viva il vocatore quindi lo fa esclusivamente se è compatibile con il mondo del lavoro con gli impegni personali a volte c'è la famiglia che comunque porta a delle esigenze particolari ti volevo dire una cosa il drone che ci ha fatto vedere quell'immagine che è uno spettacolo anche suggestivo ti fa capire di quanto ti inganna all'occhio vedendo il campo di gara già il campo di gara nostro come è consuetudine lo sanno tutti è molto impegnativo perché non è regolarmente orientato sulla linea visiva retta ma segue delle parallele ma trasversali che rendono difficile pure l'interpretazione dalla gara anche a un occhio allenato il drone ci ha fatto vedere con molta realtà della cosa della situazione di quanto è diversa la nostra percezione a quanto effettivamente è il mare fuori a noi ci sembrava calmissimo come una tavola come ancora sembra che sia invece in effetti un po' di un po' di moto andoso c'è questo comunque non pregiudica la gara sono questi i parametri in cui la gara è perfettamente equilibrata sai che fai quei pali ma non è questo l'anno per il quale vale questa regola per i pali dove c'è molta tecnica per i pali dove c'è effettivamente la cura del particolare quando c'è mare mosso azzera queste distanze anche il più tecnico con un po' di mare si allinea a quello che magari tralascia questo importante dettaglio ti voglio ricordare che la fortezza di quest'anno nostra ha due innesti uno l'ha detto Angelo con la sua presenza che non è più il timoniere della fortezza è stato lui a suggerirci il nuovo timoniere e ci abbiamo come sapete tutti Gabriele che non fa il palio per molteplici ragioni Gabriele Solari non fa il palio e abbiamo innestato con un giovane noi alla fortezza abbiamo avuto da tempo molta fiducia nei giovani ci abbiamo investito anche Gabriele Solari che era già giovane del valle perché è la verità ma il vero giovane in cui ci hanno creduto ci hanno creduto fortezza Ioli l'hanno cresciuto fino a quello che è diventato ma noi siamo fiduciosi pure di questo equipaggio perché sono molto validi sia in tenera età hanno ed ha un vantaggio la gioventù la gioventù che sono molto disponibili a consigli si fanno effettivamente partecipi di quello che è loro trasmesso per esempio noi abbiamo fatto un incontro anche oggi mentre si mangiava con Fiorenzo Fiorenzo Visconti che è un'altra figura storica di un nostro timoniero che ha scritto la storia del palio e della fortezza soprattutto dell'equipaggio lui ci ha parlato con molta microfono Vittorio se non si sente scusa se ti interrompo ricordiamo anche l'ex sindaco Visconti si si ma parlavo di equipaggi ah chiedo scusa del rione da lontano parlavo di equipaggi ovviamente pure Marco Visconti è nei nostri cuori da tutto poi era un amico mio personale figuriamoci se se non è nei miei pensieri dico e sono stato ospite a casa sua innuveremo i pali e lo ricordiamo tutti per quello che era ti dicevo che Fiorenzo Visconti è venuto loro l'hanno ascoltato ma Fiorenzo non si è come in questo caso posto come tecnico di esperienza gira così fai questo la seconda no la terza l'ha dato un consiglio che è quello di aggregazione il ruolo del timoniere e lui l'ha percepito bene è quello di essere sempre sentito a bordo deve parlare parlare comunque fargli reso conto della situazione perché chi voca a testa bassa non si rende conto e non percepisce nel campo di gara che cosa succede dirgli tutto magari la verità ma mai dirgli voca più forte voca più forte quella è una cosa che si devono sentire loro e devono organizzare le proprie energie in funzione di quello che è la gara e sappiamo tutti che questo palio qui non si gioca né sulla prima né sulla seconda e tantomeno sui duemila che abbiamo prima paventato con tempi miracolosi ce ne restano sempre da fare il doppio altre duemila che sono i peggiori e i più impegnativi quindi il palio è una gara molto molto particolare perché si svolge come hanno detto tutti una volta all'anno è una gara anaerobica perché sappiamo aerobica perché sappiamo che è ha uno sforzo notevole il fisico è sottoposto a una carenza d'ossigeno alla respirazione è molto importante e sapere come si respira guardare che spettacolo intanto bello lo stadio del Turchese Port Santo Stefano i fumogeni queste altre immagini meravigliose spettacolari dal drone te Paolo non sai molto probabilmente è tanti anni che vieni qui ma le raccomandazioni che si fanno di esperienza ai vocatori sono quelli nel frattempo chiedo alla regia se è possibile fare un'immagine una zoomata sui supporters della Croce che hanno fatto per il momento una coreografia straordinaria in pratica eccola dall'alto si comincia a vedere guardate c'è quella parte del molo completamente rossa i colori della Croce guardate che spettacolo Luciano Pignatelli sentiamo il suo parere perché questo è il suo rione è meraviglioso questo guardate che spettacolo è meraviglioso è una sorpresa sapevo che c'erano dei fumogini ma non sapevo che credo una coreografia così colorita erano anni che non si vedeva forse non si era mai vista questa è veramente bella la pillarella dice Paolo Bracci ci manca la pava ora ci manca la pava no no Luciano Pignatelli che spettacolo che spettacolo è molto spettacolare perché poi prende tutta la parte del lungomare che riguarda qua la prospiciente alla rina del Trusca ora parte il bianco quindi bianco e rosso colori della Croce è veramente spettacolare poi non essendoci vento resterà per lungo tempo là prima notavo mentre parlava Paolo Vaffigi e Rioni che si allenava guardate che effettivamente come ha detto Paolo il mare visto da qua inganna quando si arriva a 50-100 metri dai cavitelli fuori il mare comincia ad essere ondulato e mosso sì però guardate che in girata potrebbe essere anche determinante se capila ora se fa vedere quindi ci sono due condizioni ben distinte tra diciamo la virata a terra e la virata a mare le condizioni del mare dice Luciano Pignatelli sono molto differenti se non cala nei prossimi o quarto d'ora 20 minuti la girata fuori deve essere impostata in modo molto corretto e con attenzione diversamente da ciò che viene navigato a terra perché se no si può rimanere nel cavo dell'onda e se si rimane nel cavo dell'onda si rimane anche attaccati al galleggiero si perde tanto tempo guarda vedi come va su e giù guarda si vede la linea di galleggiamento e poi sparisce guarda questa immagine è piuttosto emblematica Carlo Costanzo e questo è quello che trovi è poca roba certo non è il mare di Maestrale come però quello che può dare no non ha capito quello che può dare l'immagine però se rimani in quell'incavo perché te ce l'hai di traverso rispetto al percorso di gara rimani lì rimani lì bisogna avere anche un pochino di fortuna questo è il Valle Carlo che impressione ti fa molto concentrati mi sembra i ragazzi e nebbia in Valpatana purtroppo però andiamo già nella nebbia in Valpatana della Croce praticamente la parte della Croce c'è i fumogeni che in questo momento non permettono di vedere niente è uno spettacolo ma in acqua guardate che limpidezza qui l'acqua è calmissima qui siamo vicini ma guardate che meraviglia guardate ciò che non vedete la Croce ha invaso tutta di fumogeni il campo di gara per anni abbiamo subito quelli del Valle ci stanno copiando giustamente prova la virata a terra prova la virata a terra al Valle con ricordiamolo il timoniere Claudio Schiano il primo reme Thomas Palmerini il secondo reme Gianmarco Russo il terzo reme Riccardo Rosi il quarto reme Andrea Cerulli come è stata questa virata Carlo? ma ha fatto benissimo ha fatto benissimo concentrati naturalmente ha poche palate perché non è che ti metti a farla forte però va bene va bene così va bene così non facciamo scoprire le carte all'avversario all'avversario se c'è Paolo Baffini si è scatenato è sempre pagato ma adesso si sta sanzitando Carletto riesce a vedere pure l'oro quando non luccica ma scusa queste sono un allenamento una barca che va a mezzo miglia all'ora ma una curvetta una giratela e l'ha fatta ma sono fermi di Carlo questa l'ha fatta questa non è una virata di quelle da gara ma non fai le virate forti quando c'è un riscaldamento ma così è logico si gira da solo il guzzo si gira da solo il guzzo non gira ma è fermo è fermo non c'ha nemmeno l'abbiglio da contrastare è logico che venga ma è normale Vittorio Patanella volevo sapere da voi quale può essere il timoniere anche il comune molto argentario è sotto gli effetti dei fumaci della croce no non ho capito la domanda di Vittorio Patanella scusa ho chiesto perché dopo è facile in maniera preventiva il timoniere migliore quale può essere al di là che poi ricordiamo sarà assegnato un premio al miglior timoniere dall'apposito giuria però da là facciamo ha fatto una domanda a Vittorio Patanella sentiamo un po' Paolo Bracci i timonieri sono fondamentali in questa gara sono veramente fondamentali sì perché ricordiamo sono nove virate attenzione nove virate quindi è importante evocare bene ma la differenza si fa nella virata si gioca tantissimo sulle nove virate soprattutto con le condizioni meteo vediamo queste sono comunque ottimali perché largo comunque sono d'accordo con i colleghi della croce della fortezza a largo ci sarà probabilmente da gestire una virata in maniera totalmente diversa dire chi sarà il miglior timoniere fondamentalmente sarà quello che vincerà al di là di chi di che possa essere come dire il mio preferito che in questo caso è Alessio è il timoniere della pilarella che credo che in questo momento l'evato Corrado sia quello con la con la maggiore esperienza perché è anche più fresco di una vittoria indubbiamente c'è un Corrado speziale di grandissima esperienza che ha fatto che è smaliziato anche agli pali i due ragazzi di cui Ferraro e Pilarillai alla pilota punti vedo che comunque guarda se si gira qui guarda se si spalla prendiamo un po' la girata a largo del valle questa è la girata a mare la girata a mare larghi sono larghi era Marcioli ora poi dopo gli chiamo Paolo Bracci magari la voce magari riesceranno ad entrare più velocemente ma sono comunque larghi Paolo dico quello che ho visto io a parte che andavano Paiano come dicevo prima poi queste condizioni io non sono grattimoniere non è che voglio parlare vediamo come vira la croce guarda come vira la croce guarda Corrado sta a vedere Corrado a terra si è visto ma ha girato però ha bleffato però ti dico questo in queste condizioni come diceva Luciano prima che calmo in terra e mosso fuori c'è una differenza di approccio devi cambiare tecnica allora in terra può rimanere sicuramente molto adiacente al gavitello perché tanto non c'ha influenza alcuna che ti sposta da lì la corrente non ti sposta non c'è corrente non c'è nemmeno oggi non c'è tanta corrente se ci fosse non è la condizione che ti possa svantaggiare mentre nella virata a mare essendoci un po' di mare che ti porta in terra se te non vai quel metro sopra non gestisci poi lo spazio tra il cavitello e i remi che ti servono veramente nella virata perché rischi che se l'approcci come per terra che ci vai a sbattere quindi questo lo sa meglio di me un timoniere qualunque timoniere a bordo lo sanno ancora meglio di noi tutti ma è per spiegare quello che sin da piccini è la regola del palio il palio c'ha molte molteplici varianti e tra queste lo fa molto il campo di gara il campo di gara abbiamo detto è importante leggere come dal drone ci ha fatto capire che fuori c'è un mare leggermente diverso da quello che è in terra quindi l'approccio della girata deve essere diverso tra mare e fuori e sicuramente fa la differenza se non lo interpreti con questa microfono Paolo Paolo ha avuto lo stesso approccio a terra e a mare non ha capito la differenza forse ce l'ha nascondendo è stato trovato già un difetto al valle prima di gareggiare carissimo Baffigi non ce n'è difetti Baffigi non ce n'è difetti e lo vedremo in gara allora poi avevi ragione non ce n'è difetti ora è stata lanciata la sfugga oppure succede e non mi auguro che succeda pure a stavolta che ti possa no pure stavolta questa volta che ti possa dire effettivamente c'hai ragione ma te ci provi sempre questa tattica vedrai dopo e ora poi anderemo al lupo guarderemo come va a finire noi siamo tifosi non si può venire qui e vincere la pirarella vincere la croce e vincere la fortezza ma nessuno di noi l'ha detto uno lo sa dentro quello che può fare quest'anno il valle ti posso dire che può vincere la gara ma quest'anno lo dico pure io che la fortezza può vincere ma non lo dico con cognitivo perché sono solo tifoso quest'anno sappiamo tutti e compreso Paolo che diciamo che lui arriva ultimo perché lo vogliamo dire però in effetti Paolo Bracci Paolo Bracci non è che me lo dico da solo Paolo Bracci con la sua pirarella è condannato a arrivare ultimo secondo questo intanto scusate questo è proprio il rione pirarella questa immagine è proprio dentro nel cuore del rione pirarella quello che scherzosamente gli dicevamo tutti ma come tutti sanno è anche un aspicio nostro personale però ti dico che quest'anno e lo sappiamo tutti è talmente equilibrato che vincerà chi sbaglia di meno è un palio dove non c'è queste differenze matornali tra quello che può essere la situazione del valle che ha fatto quel tempo o la pirarella che ha fatto quel tempo peggiore tra il peggiore e il migliore c'è 7 secondi di differenza minimo una differenza minima non è che sia una grande vi chiedo non siamo un po' in ritardo con il sorteggio di Cavitelli mi sa perché ancora non è stato chiamato niente dal comune siamo credo un po' in ritardo con la tabella di marcia dovrebbero dare 5 minuti ma ancora no ma non si sanno ancora i Cavitelli lo diciamo a beneficio di chi ci ascolta da ogni parte del mondo e non conosce la tradizione di Porto Santo Stefano la tradizione di Palio Marinaro dell'Argentario ricordiamo che i Cavitelli sono sostanzialmente le corsie detto in dialetto santo stefanese chiamato Cavitello giusto? non hanno finito di dire il timoniere è il capovoca quello è migliore Vittorio Patane voglio sapere il miglior timoniere è il miglior capovoca ma chi vince il palio ma chi vince il palio poi ha sempre ragione che il timoniere ha girato meglio è normale come il capovoca se vince chi vince il palio non ha il microfono lui dice non ha detto è chiaro che io ti dico lo speziale ha fatto 23 pali chiaramente sbaglierà lo speziale è Corrado Fanciulli ricordiamo molto meno il timoniere della croce il nostro è al secondo palio Ferraro stessa al secondo palio Tuffetto non ha già fatto Bausani colpo in Pilarella è a 9 questo è il decimo i due più esperti sono diciamo Bausani della Pilarella e Corrado Fanciulli della croce questi qua sono due meno esperti è chiaro che se va a vedere poi le girate se il Valle l'ha fatta un pochino diciamo peggio della croce diremo sempre che l'ha fatta meglio della croce se vince poi metto quando vinci va tutto bene il timoniere quando perdi la colpa va quasi a finire sempre al timoniere comunque il sorteggio dei Cavitelli ci sarà dopo l'ok sulla regolarità del campo di gara che sia Palmerini l'ottavo nono palio anche lui che ha fatto perciò è uno dei più esperti perciò se andiamo a vedere per quel discorso lì Palmerino deve essere veramente uno che può dare la scossa al Valle per vincere questo palio allora mentre ragionava Carlo Costanzo dava insomma delle indicazioni delle spiegazioni ben chiare e precise Luciano Pignatelli ha detto che il sorteggio dei Cavitelli avverrà dopo che il campo di gara dai giudici è stato risultato regolare cosa che è avvenuta pochi secondi fa sentiamo la voce di Amerigo Loffredo che sta parlando al microfono dal comune e ha detto il campo di gara è regolare quindi adesso parte il sorteggio per i Cavitelli per l'assignazione dei Cavitelli e poi sarà dato i cinque minuti al via aspettavano l'ok dei giudici per dare il campo di gara regolare perfetto perché è già successo un anno che hanno fatto i sorteggi prima che dassero il campo di gara e hanno dovuto ripetere il sorteggio perché a quel punto non è regolare certo certo Paolo Baffici fumogine al gogo fumogine al gogo adesso questi arancioni però chi è? no i Krishna i Krishna no volevo Paolo Baffici sindaco carissimo Perreira come va? volevo dire come va? può parlare con il nostro volevo aggiungere un'ultima cosa a peccarlo quando quando tutti vediamo le immagini di prima che si stanno scaldando e sia in virata che in corsia vanno molto piano anche quello che abbiamo visto che non ti rende possibile valutare la virata se fatta bene o male male certamente no ma nemmeno benissimo fatta a quei livelli anche quando li vedi vocare come vedi noi sappiamo essendo nell'ambito del rione da parecchio tempo che in gara devono fermarsi la schiena e continuare poi l'ultimo tratto con i bracci andando piano così te vedi che la schiena non si ferma è tutto un gioco armonico di riscaldamento sembra una stupitaggine detta così da me non voglio fare nemmeno ripeto che non sono un tecnico ma quel tipo di movimento aiuta la respirazione perché nel momento in cui ti blocchi la schiena e allunghi le braccia e affondando il remo sempre più in alto riesci a distendere anche il torace e i polmoni si riempiono con più facilità e questo ti aiuta in quel debito d'ossigeno che la gara è così lunga non conoscevo questo tuo aspetto nemmeno io lo conoscevo ma siamo questo tuo aspetto perché sei un tecnico ma nemmeno io sono tecnico dai delle spiegazioni sotto l'aspetto tecnico queste sono spiegazioni che percepisci e te le trasmettono soprattutto all'equipaggio quando sei a contatto con loro non so cose che si dicono scuola Boria scuola Boria scuola Boria e loro sperano nel prossimo anno sperano sempre all'anno su che venivano giù facciano la zaccantrelletta e tornavano a casa e non per niente ha fatto un po' di scuola pure a voi a quanto pare certo ma potrà tornare di un paio d'anni però non è che ci siete andati di scartina secondo me aspetta questo palio nel senso che se dovesse riniscere la pilarella allora il Solari tornerebbe sicuramente in gara con Pateroni per non far vincere la Coppa d'Oro certo perché poi si è dettato con la pilarella Solari che è del 78 come l'ho conosciuto bimbi perciò il Solari sta aspettando solamente questo questo palio magari comunque sia all'ascolto Capriale Solari lo salutiamo perché ha fatto la storia del palio grande Capriale Solari grandissimo venisse a trovarci Solari perché insomma è uno dei più grandi vocatori a cui bisogna dire chapeau inchinarsi perché Solari se farà il palio al prossimo anno una cosa bella è che vuol dire che sta bene di fisico certo ci mancherebbe lui deve stare a posto perché finalmente sta bene non perché stia male per carità però a livelli agonistici deve essere al top però se vince la pilarella come dice il dottor Bracci qui in altra anno si rimette in careggiata e allora ci sarà veramente da ridere il prossimo anno e ci sarà carletto che dice quest'anno potrebbe andare in qualsiasi rione dici te eh sì dove vorrà andare lo prenderanno sia la fortezza che la cruce che il valle perché chi perde la partita vince e l'altri a quel punto lo prenderanno perché ci mancherebbe altro lo prendesse la pilarella hai strappato un sorriso a Paolo Bracci che era un quarto d'ora e venti minuti che già lo vedo in transagonistica ma ora lo vedo lo vedo che gli ha strappato un applauso tanto Paolo gli armano gli investiti un quinto e Nantanno gli sta bene un più uno perché sono i nemici numero uno e quella è una macchia indelebile per un vocatore del valle vincere la pilarella perché rimarrà quando ti l'ho vinto il palio con la pilarella per l'amor di Dio per l'amor di Dio questa intanto è la guardia di finanza altra forza dell'ordine tutte prima le abbiamo menzionate tutti c'era sfuggita la guardia di finanza ci scusiamo un saluto anche alla grande guardia di finanza la finanza poi è ballaiola sta al valle la caserma è al valle la finanza è il datore di lavoro il valle è già in festa è l'acqua che festeggia ecco ciao Carlo siamo tanti e purtroppo siamo già di pronti e purtroppo non tutti nascono bene dici vittorio Patrona dici un po' le tue considerazioni mi stanno facendo morire fra Carlo diciamo che abbiamo un parterre straordinario un parterre straordinario anche per il giorteggio vediamo il sindaco Franco Borghini parlare con il giornalista Carlo Sestini con la fascia tricolore il sindaco Franco Borghini poi abbiamo visto il capitano del valle Maurizio Alocci eccolo qua Maurizio Alocci Alessandra Chiocca delegata del Lente Palio per la fortezza Vonger per Flavio Vonger il presidente per la croce Claudio Dubbiosi il capitano e poi il capitano del Lente Palio il capitano del Palio Gianni Galatalo Gianni Galatalo presidente del Palio sono i momenti sentiamo dovremmo avere dovremmo essere anche il collegamento audio altrimenti lo diciamo noi queste sono le immagini che arrivano direttamente dall'interno del comune vediamo il sindaco del comune di Montargentario Franco Borghini con la fascia tricolore poi il capitano della croce Claudio Dubbiosi il presidente della fortezza Flavio Vonger Alessandra Chiocca delegata del Lente Palio Gianni Galatalo presidente del Palio Presidente da Pilarella ricordami Alessia Galatalo Alessia Galatalo presidente presidente della Pilarella Alessia Galatalo Alessia Galatalo presidente della Pilarella allora vediamo qua Alessandra Chiocca e Gianni Galatalo che impegnatissimi in questi giorni ovviamente adesso questa è la fase in cui viene effettuato il sorteggio viene messo nelle buste gialle bianco blu bianco blu nelle buste sono blu nelle buste blu credo che venga messo il numero del Gavitello nelle buste gialle il nome del Rione quindi ovviamente quando viene estratto un Rione non so se viene estratto prima il numero il Gavitello prima il Rione e poi Gavitello ok vediamo che in maniera trasparente e pubblica Alessandra Chiocca e Gianni Galatalo stanno confezionando le buste e sigillandole quindi davanti a tutti in maniera più trasparente possiamo chiedere qual è scusate qual è il Gavitello preferiscono viene estratto il Rione e il capitano del Rione sceglie sceglie estrae la busta dove ci sono i numeri dei Gavitelli e lì c'è l'abbinamento benissimo come ho detto prima in questo momento il Gavitello conta poco perché il mare era proprio spianando chiaro che i centrali i due centrali sono meglio il primo e il quarto anche il primo è buono per l'amor di Dio ma i centrali intanto lo vediamo noi questa è la sala consigliare vediamo chi è è il sindaco il sindaco Franco Borghini che ha preso la prima busta vediamo vediamo Rione Valle Rione Valle attenzione e vediamo sentiamo Amerigo Loffredo che ci dà la conferma con l'audio mentre il presidente del Valle io dico numero 2 il capitano del Valle Maurizio Lodgi vediamo schiede il 2 è stato accontentato Carlo Costanzo Costanzo secondo Gavitello secondo Gavitello per il Valle c'è esplose di gioia il popolo del Valle sì perché Gavitello 2 è buonissimo è buonissimo allora vediamo il sindaco Franco Borghini estrae il prossimo Rione Rione Pilarella Paolo Bracci quale preferisci scommetto l'uno o il tre bravo l'uno o il tre vediamo Rione Pilarella vediamo adesso Alessia Galatolo numero 4 presidente della Pilarella quale quale Gavitello andrà a scegliere per la Pilarella Carlo Costanzo spera nel quarto Paolo Bracci nel primo nel terzo vediamo vediamo attenzione 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 Gavitello 3 la Pilarella al terzo Gavitello il Valle al secondo rimangono il primo e il quarto Gavitello il primo e il quarto Gavitello ancora il sindaco Franco Borghini apre la busta vediamo quale quale Rione sarà estratto adesso la fortezza fortezza Paolo Baffici quale Rione vuoi mentre vediamo Flavio Vonger che adesso vuole l'uno vuole l'uno vediamo se ti accontenta il tuo presidente il presidente la fortezza Flavio Vonger vediamo Flavio Vonger dalla faccia cercheremo subito di scoprirlo vediamo ah non è contento non è contento Gavitello 4 e oramai la croce vediamo il sindaco Franco Borghini che sai la croce che inevitabilmente andrà al Rione 1 vediamo che Claudio Dubiosi Claudio Dubiosi deve pescare per forza l'uno per forza l'uno vediamo infatti Amerigo Loffredo lo ha già annunciato è scontato Gavitello numero 1 quindi ricapitolando Gavitello numero 1 per la croce Gavitello numero 2 Valle Gavitello numero 3 Pilarella Gavitello numero 4 Fortezza ci siamo questo sarà l'ordine dei Gavitelli della 77esima edizione Paglio Mariano dell'Argentario Luciano Figliatelli dice sarà l'ordine d'arrivo è quello che spera lui perché la croce è al primo Gavitello l'ordine d'arrivo non abbiamo neanche pescato ci hanno fatto vincere loro allora credo credo sostanzialmente tre soddisfatti quello diciamo a cui è andata peggio forse la fortezza ma Paolo nessuna differenza assolutamente ma non c'è problema si è calmato anche il mare si è calmato assolutamente non ci fa paura al quarto Gavitello ora si va con la tecnica senza forza ora si va a bucare il peggio conoscendo conoscendo Corrado che il loro timoniere c'era affezionato a sto numero e il primo era tantissimi anni che non lo prendeva Corrado all'uno l'ha sempre portato fortuna un anno pure due volte l'abbiamo pescato ci fu ci fu il sotteggio l'abbiamo ripescato anche il capo di gara non è stato omologato prima si perché il Valle non riusciva mai a vincere allora contestava sempre fortemente c'era il quarto Gavitello per l'anno lì il Valle e andammo al terzo poi potremmo andare al terzo e però siete arrivati i quarti no scherzo per grazia ricevuto non ci scordiamo che il rione Croce deve sempre finire un palio che pesa 800 metri che ha 3200 metri in meno non ci scordiamo perché qui si scordiamo siamo più riposati si scordiamo la storia vi scordate che voi vi siete ritirati no no tenne il forse rimanonato quando Valentino si andò direttamente quando Valentino si andò direttamente quello purtroppo è che successe che si quella era Coppa d'Oro si ci cognola il Valle no è quella volta che avete girato prima nel 71 abbiamo finito no avete girato prima ci hanno squalificato avete girato prima senza prima del Gavitino e allora il palio si è finito nei secondi e poi ci hanno squalificato ecco come si fa in tre minuti a raccontare la storia del palio senza sotterfugi con il politicamente scorretto si dice tutto è regolare si dice tutto poi disse che c'era Gabbiano che girò che vide il Gabbiano e lo ricordavo e il chiodo e il chiodo di Cicchetto com'è? il microfono il chiodo di Cicchetto cos'è questa storia? fate capire anche chi non è di Porta Antotepo ai tempi di Danione che è il chiodo di Cicchetto? cosa è cosa è il chiodo di Cicchetto? ai tempi di Danilo e Umberto il chiodo veniva a mettere come un chiodo tutti i crociaioli sulla poppa del timone e in corsia riusciva a alzare il timone per andare pari il timone andava pari nella chiglia e non toccava acqua al timone e dicevano che guadagnavano qualcosa questo è il chiodo di Cicchetto questa è la fortezza questa è il rione fortezza che partirà dal quarto capitello la fortezza che avrà al primo reme Andrea Benedetti al secondo reme Mario Rossi al terzo reme Alessandro Benedetti al quarto reme Tommaso Picchianti il timoniere Alessio Ferraro fortezza al quarto Gavitello adesso man mano che la regia ci proporrà altri equipaggi andremo a elencare la composizione degli equipaggi mentre ancora non è avvenuto lo sparo lo sparo che ha segnato ogni 5 minuti siamo in ritardo Palio che doveva partire ai 19.15 ma siamo andati un po' lunghi ma è stato in mal tempo ci è stato ricordiamo abbiamo dovuto anche interrompere la diretta proseguirla per un periodo dall'interno del palazzo comunale a causa di un acquazzone ma adesso è tornato il vero Ferragosto fa un caldo pazzesco il cielo è quasi sereno il cielo è bianco lù il cielo è bianco lù dice Carlo Costanzo evocando chissà cosa chissà che cosa questo intanto è la pilarella che partirà al terzo Gavitello Gavitella che ha Pilarella che al terzo Gavitello partirà con il primo reme Dino Pari con il secondo reme Fabrizio Costanzo con il terzo reme Leonardo Perillo con il quarto reme Claudio Giovani con il timoniere il timoniere Alessio Bausani questa la pilarella che prenderà il via dal terzo Gavitello alla settantasettesima edizione del Palio Mariraro dell'Argentario manifestazione stupenda meravigliosa unica assolutamente unica che si svolge ogni anno il 15 agosto a Porto Santo Stefano vediamo queste immagini che si soffermano sul Guzzo Scirocco mentre siamo passati al Valle Valle che partirà al Gavitello numero 2 con il primo reme Thomas Palmerini il secondo reme Gianmarco Russo il terzo reme Riccardo Rosi il quarto reme Andrea Cerulli il timoniere Claudio Schiano cosa stanno dicendo Carlo il Valle eccolo adesso la concentrazione fra 5 minuti si parte fra 5 minuti si parte stanno ancora parlando fra di loro per le ultime disposizioni di bordo però li vedo molto tranquilli molto tranquilli molto molto tranquilli 5 minuti al via una bella gara era fuori una gara spettacolare 5 minuti al via amici telespettatori siamo sicuri ognuno di voi che in questo momento è inchiodato o davanti al televisore o davanti al tablet o di fronte al computer non si staccherà dal mezzo di comunicazione perché fra pochino davvero daremo tutti il massimo però informate i vostri amici che stiamo a resistere al più grande spettacolo del mondo che c'è mai stato dopo il Big Bang questo grande spettacolo si chiama Palio Marinarell'Argentare abbiamo visto la grafica del Valle questa è la croce la croce che partirà dal primo Cavitello con il primo Reme Mirko Cimini il secondo Reme Massimiliano Terramoccia il terzo Reme Domenico Ferraro il quarto Reme Reme Alessandro Landini il timoniere è Corrado Fanciulli il capitano Claudio Dubbiosi la presidente Antonella Galatolo il segretario non ho letto chi è il segretario della croce Riccardo Bosa Riccardo Bosa questa intanto è la fortezza fortezza che partirà dal quarto Cavitello no questa questa è la fortezza il capitano Angelo Fanciulli il presidente Flavio Vongerl il segretario è Paola Schiano il primo Reme Andrea Benedetti il secondo Reme Mario Rossi il terzo Reme Alessandro Benedetti il quarto Reme Tommaso Picchianti il timoniere che vedete scritto in alto con la T è Alessio Ferraro fortezza che partirà tra pochi istanti dal quarto Cavitello grazie alla regia per queste splendide immagini ma anche per le grafiche precise e dettagliate regia stupenda questa è la pilarella con il timoniere Alessio Bausani che sta dando le ultime accortezze il capitano è Pietro Solari il presidente Alessio Galatolo il segretario Claudio Busonero il primo Reme è Dino Pari il secondo Reme Fabrizio Costanzo il terzo Reme Leonardo Perillo il quarto Reme è Claudio Giovani il timoniere Alessio Bausani questa è la pilarella che partirà dal terzo Cavitello vediamo lo sguardo attento di Dino Pari ma anche di Fabrizio Costanzo e più indietro Leonardo Perillo al terzo Reme Claudio Giovani al quarto qui siamo in campo largo Stadio del Turchese quasi tutti al proprio Cavitello quasi tutti al proprio Cavitello primo Cavitello per la Croce secondo Cavitello per i Valle terzo Cavitello per la pilarella quarto Cavitello per la Fortezza mamma mia entriamo nel turbiglion delle emozioni amici telespettatori stiamo entrando nel turbiglion che ci farà impazzire il turbiglion delle pazze emozioni che sa regalare soltanto il Palio Marinaro e l'Argentario amici telespettatori siamo tutti uniti come se fossimo mano nel mano mano nella mano ognuno mano nella mano attraversando l'intero pianeta ma avendo come ombelico del mondo Porto Santo Stefano Porto Santo Stefano è l'ombelico del mondo ci sta regalando le più grandi emozioni che si vivono durante un anno 25 minuti di pazzia 25 minuti in cui può succedere davvero tutto 25 minuti ovvero 4.000 metri dove può realmente vincere chiunque oggi può vincere realmente chiunque può vincere la croce può vincere il Valle può vincere la pilarella può vincere la Fortezza sono partiti sono partiti è partito il turbiglion di emozioni la pazzia più assoluta la pazzia più assoluta è partita forte la croce è partita forte la croce ma attenzione perché c'è l'effetto ottico croce al primo cavitello che sembra partita forte queste sono immagini dal drone al secondo cavitello il Valle al terzo cavitello la pilarella al quarto cavitello la fortezza da queste immagini la croce sembra aver avuto una partenza sprint ma io attendo la prima virata ai 400 metri questa è la croce con il timoneare Corrado Fanciulli già 23 pali disputati quello che sta disputando il 24esimo sta dettando il ritmo ma sono tutti sono tutti appaiati tutti appaiati forse il Valle forse Valle forse Valle e fortezza forse Valle e fortezza ma sono lì velocemente un Carlo Costanzo che ti sembra in attesa di arrivare alla prima virata ai 400 metri la pilarella sembrerebbe già dietro la pilarella Valle croce e fortezza le prime tre Paolo Bracci Paolo Bracci che non riesce a stare seduto transagonistica per Paolo Bracci aspettiamo l'immagine aspettiamo anche la prima virata tanto è quella che fa capire tutto ora le immagini dicono poco abbiamo visto una grande partenza da Croce grande partenza da Croce Vittorio Patanè che ti sembra? giustamente come diceva Paolo Bracci occorre vedere la prima virata fuori per capire per capire però sembra che siano partiti bene a me mi sembra un po' indietro la pilarella l'altre mi sembrano tutte allineate Valle e Croce sembra da queste immagini Paolo Baffigi Paolo Baffigi siamo vicini alla virata ai 400 metri è la prima virata è la prima virata attenzione perché è indicativa la prima virata ci fa capire come è la posizione poi ovviamente ci sono 2600 metri Valle 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 e Croce Valle e Croce Valle e Croce Croce Valle Croce Valle Valle e Croce Croce Valle Valle e Croce Croce Valle Pilarella staccata Pilarella staccata Croce Valle Croce Valle alla pari fortezza lì Pilarella stacca indietro non ha fatto una brutta girata lì si è ripresa un pochino di quel margine che stava perdendo è un palio magnifico è un palio magnifico è un palio magnifico questa immagine è stupenda Croce Valle primo cavitello per la croce secondo cavitello per i palli sono anche lì non devono neanche sforzarsi per guardarsi ma attenzione laggiù alla fortezza quarto cavitello alla fortezza un po' dietro la Pilarella un po' dietro i campioni in carica della Pilarella ma vediamo ricordiamo Pilarella che è il campione in carica attenzione grandissimo palio grandissimo palio l'unico pronostico che si avvera è che la Pilarella è in difficoltà si vede benissimo Pilarella è in difficoltà Paolo Bracci un po' sconfortato ma siamo no aspetta Paolo Bracci Palio è lungo non siamo neanche agli 800 metri attenzione perché tra poco avremo la seconda pirata assoluta la prima a terra quindi saremo agli 800 metri ma ne devono essere disputati 4.000 metri questa è la croce vediamo Corrado Fanciuli sembra un ragazzino sta dettando i tempi sta dettando la sincronia grande sincronismo della croce ma vediamo vediamo è la croce in Sivini però la croce è qui è quella la Pilarella io sono fiducioso nella terza vasca della fortezza lì si vede perché vai e vieni so che non ci danno tutto nella terza si sono promessi di metterci un pochino più di carica alla terza voglio vedere che succede siamo la terza si intende alla seconda alla prima pirata a terra ovvero agli 800 metri vediamo intanto questa è la Pilarella con Alessio Bausani che sta dettando il ritmo paleo straordinario meraviglioso siamo vicini agli 800 metri immagine stupenda immagine stupenda immagine stupenda attenzione siamo agli 800 metri Vallo Colanzo dice Valle Vola Valle e Pilarella ma non si vede la croce attenzione ancora non si vede la croce mamma mia mamma mia mamma mia il Valle il Valle in testa Valle in testa Valle in testa davanti a croce e Pilarella o Pilarella e croce mamma mia che meraviglia che meraviglia che emozioni che emozioni questa volta questa volta non ci arriviamo in fondo non ci arriviamo perché agli 800 metri già abbiamo speso tanto ma è incredibile è incredibile quello che sta succedendo è incredibile quello che sta succedendo un grandissimo equilibrio come era previsto un equilibrio pazzesco pazzesco si era detto ma puoi vederlo concretizzato Carlo Costanzo scatenato Carlo Costanzo scatenato questa è la fortezza la fortezza con Alessio Ferraro in timoniere che sta dettando i tempi questo è il Valle il Valle Claudio Schiano mamma mia Alessio Ferraro e Claudio Schiano sono al secondo palio ma sembrano già maturi per poter arrivare alla vittoria ma gli altri non ci stanno questo è il Valle dall'alto il Valle c'è sincronismo stanno accarezzando ma anche schiaffeggiando il mare guardiamo la croce la croce Carlo Costanzo dice il Valle sta dominando è andato a scuola lo vedi che stiene dritte la maestra ti ha messo sulla sedia scuola questa è scuola come la scuola calcio questo è il Valle con il Valle al secondo capitello con il timoniere Claudio Schiano il primo reme Thomas Palmerini il secondo reme Gianmarco Russo il terzo reme Riccardo Rosi il quarto reme Andrea Cerulli mamma mia tra pochino saremo ai 1200 metri nuova virata a mare la Pilarella in difficoltà la Pilarella in difficoltà ma gli altri tre sono praticamente appaiati Pilarella in difficoltà ma non fuori dai giochi diciamolo non è fuori dai giochi non è fuori è già a casa fuori 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 gli altri tre lo dico in ordine di Gavitello primo Gavitello croce secondo Gavitello valle terzo Pilarella e quarto Gavitello fortezza in piena corsa immagine che danno l'idea il grande equilibrio il grande equilibrio grandissimo equilibrio mamma mia che sta succedendo mamma mia che sta succedendo la croce avanti la croce avanti la croce avanti la croce avanti di poco di poco mamma mia pazzesco 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 ai 1200 metri è pazzesco quello che sta avvenendo un equilibrio così non si era mai visto 1200 metri pentacolari croce valle e fortezza Paolo Baffici c'è progressione qualcuno rimane rimane indietro altrimenti sarà un palio quasi come l'anno scorso che abbiamo dovuto aspettare veramente l'arrivo per capire chi effettivamente vincesse può succedere di tutto può succedere di tutto ci sono state tre virate siamo nel tratto di vasca tra i 1200 e i 1600 metri tutto può ancora accadere è un palio meraviglioso stupendo 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 per le immagini stupendo per la cornice di pubblico stupendo per i vocatori stupendo per come se la stanno battendo è meraviglioso è meraviglioso guardate che splendida immagine il sole sta baciando il palio il sole sta baciando il palio è impossibile sapere chi vincerà che dicevi Paolo Baffici dicevo che la pirarella l'avete affaticata sulla schiena è troppo con i bracci dice c'è una schiena Paolo 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 Bracci è vero Paolo in difficoltà la pilarella siamo un po' bloccati sulle schiena con il timoniero Alessio Bausani e poi sull'equipaggio l'equipaggio composto da Dino Pari Fabrizio Costanzo Leonardo Perilla e Claudio Giovani è in difficoltà Paolo Bracci quello che possono dare penso il massimo c'è qualche c'è qualche problema vedo ma c'è qualche problema c'è qualche problema dice Paolo Bracci siamo vicini ai 1600 metri vicini ai 1600 metri smaniamo dalla voglia dalla curiosità di vedere come sarà questa pirata chi passerà in testa ai 1600 metri attenzione attenzione queste sono immagini dal drone siamo tornati siamo tornati con le telecamere a terra attenzione attenzione adesso è la fortezza in testa è la fortezza no la croce mamma mia non si capisce non si capisce praticamente tre appaiati incredibile 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 mai visto nulla del genere mai visto nulla del genere mai visto nulla del genere tre rioni alla pari tre rioni alla pari croce valle e pilarella alla pari scusate croce valle e fortezza alla pari chiedo scusa croce valle e fortezza alla pari pilarella indietro mai visto nulla di simile ai 1600 metri mai visto nulla di simile ai 1600 metri tre rioni appaiati e la pilarella leggermente indietro, mai visto nulla di simile, può vincere chiunque, può vincere chiunque, è un equilibrio incredibile, pazzesco, vorrei dire apocalittico perché sembra qualcosa di fantascientifico. Ci stiamo avvicinando ai 2000 metri e saremo a metà gara, ai 2000 metri saremo a metà gara, mamma mia che palio ci stanno regalando questi campioni, che palio ci stanno regalando questi ragazzi, è qualcosa di incredibile, di straordinario, è davvero pazzesco ciò che sta avvenendo. Ai 1600 metri tre rioni che hanno virato praticamente alla pari, erano appaiati, per me è incredibile, è impossibile dire chi era in testa, ma vediamo a metà gara, ai 2000 metri, voglio vedere, vogliamo vedere, abbiamo la smania della curiosità di vedere chi virerà prima ai 2000 metri, mamma mia che sta avvenendo allo stadio del turchese di Porto Santo Stefano, sta avvenendo qualcosa che qualcuno può immaginare nella fantasia, ma poi riprodurlo nella realtà è qualcosa di pazzesco, di incredibile, ma sta avvenendo, sta avvenendo. Siamo ai 2000 metri, vediamo chi vira prima ai 2000 metri, palio marinaro dell'argentario, edizione numero 77, è il 15 agosto 2018, è un palio destinato a rimanere nella storia, la croce in testa, 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 la croce in testa a metà gara. La croce in testa, 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 Luciano Pignatelli. speriamo che continuino così e non facciano cavolati hai 2.000 metri in testa vantaggio minimo può essere l'allungo importante non dico fondamentale perché manca più di metà gara mancano 2.000 metri Vittorio Patanè è un palio meraviglioso forse insuperabile incredibile vai Vittorio un palio veramente straordinario che sta mantenendo le attese anche negativo purtroppo perché la Pirarella vediamo che è in difficoltà niente qui bisogna stare fino alla fine bisogna aspettare fino alla fine anche se onestamente vedo la croce veramente che sta andando bene ricordiamo la croce con il timoniere espertissimo Corrado Fanciulli per lui questo è il 24esimo palio poi il primo reme Mirko Scimini il secondo reme Massimiliano Terramorce il terzo reme Domenico Ferraro il quarto reme Alessandro Landini Paolo Baffigi ti dico che la fortezza mi piace è forte in allungo sicuramente terrà fine da ultimo questa è una gara che come sappiamo tutti si svolge fino all'ultima remata dai che ci siamo in gara nessuno è nessuno è lontano nessuno è fuori c'è solo la Pirarella vediamo i 2400 metri è un palio che sicuramente fa la differenza a chi sopporta meglio la fatica e dosa le forze fino in fondo vediamo ai 2400 metri dobbiamo scoprire se la croce avrà ulteriormente allungato se avrà amministrato quel vantaggio minimo o se invece gli altri principalmente valle e fortezza si saranno rifatti sotto attendiamo la virata ai 2400 metri cari telespettatori queste sono emozioni incredibili insostituibili ineguagliabili la croce in testa ha guadagnato ha guadagnato prima la croce seconda la fortezza terzo il valle terzo il valle terzo il valle terzo il valle prima croce prima croce ai 2400 metri seconda fortezza terzo valle quarta la Pirarella adesso staccata prima croce seconda fortezza terzo valle quarta Pirarella ai 2400 metri Paolo Baffigi una l'ha vinta perché era quella della Pirarella lui diceva tanto sperava nel risultato della Pirarella ma quella che li che li premeva di più mi sa che sta sfumando per allora Pirarella che ha virata adesso ai 2400 metri ma Pirarella è staccata il baglio era tri poi chiaramente voca solo con i bracci c'è le schiena c'è una schiena inchiodata la croce sembra averne di più ma la fortezza è lì anche il valle il problema di questa Pirarella che quando arriva in fondo c'è pure un bel distacco poca roba guarda come è sofferente la fortezza è vicinissima la croce l'ho visto Claudio è sofferente Claudio Giovani Claudio Giovani guarda che ci manca una barca sentiamo Paolo Bracci Claudio c'ha un'espressione no al diario di abbattimento bella gara la croce e noi si vede qualcosa che non ha funzionato perché dai dai vedo un po' di sofferenza a bordo quando c'è fatica e non va liscio come vanno gli altri guardi bene c'è qualcosa che non fisicamente c'è qualcosa che non ti è andato non sei in forma non sei nella forma giusta probabilmente vedo fatica e purtroppo mi dispiace perché i ragazzi sono allenati bene ci hanno messo tanta serietà e quindi un pauso comunque però quando vedi la fatica vorrebbe dire che c'è qualcosa che ti è mancato allora siamo vicini ai 2800 metri cari telespettatori se vi state mettendo all'ascolto in questo momento non cambiate canale questo è il Palio Marinaro e l'Argentario 77 edizione è il 15 agosto 2018 stiamo assistendo a uno dei pali più belli della storia combattuto combattutissimo ma con la croce che adesso ha messo la testa avanti e non vuole più lasciarla croce che sta guidando la gara davanti alla fortezza al valle quarta la pilarella croce che sta volando verso i 2800 metri la croce vola ai 2800 metri 2800 metri guidata sapientemente da Corrado Fanciulli e poi vediamo il grande la grande sincronia dei avvocatori con il primo reme Mirko Cimini il secondo reme Massimiliano Terra Moccia il terzo reme Domenico Ferraro il quarto reme Alessandro Landini e questa appunto la croce guardiamo con quanto con quanta grinta con quanto ritmo sta guidando i suoi avvocatori l'espertissimo Corrado Fanciulli conosciuto anche come speziale ha preso un vantaggio si sta gestendo si sta gestendo si sta gestendo si sta gestendo però la forza però si sta cercando di non perdere quel vantaggio ce lo gestisce per dar un po' di fiato ai suoi sa che la battaglia è sempre è sempre lì si sta avvicinando si stanno avvicinando all'ultima virata a terra ovvero ai 3200 metri ai 3200 metri Palio equilibratissimo stupendo meraviglioso siamo ai 3200 metri la croce ha il vantaggio ma il Palio non è finito perché la fortezza è lì la fortezza è lì onora la fortezza che non molla un centimetro ma anche al Valle al Valle la prospettiva inganna ma al Valle è nettamente indietro un altro po' ecco la Pirarella ti allargava ti sta allargando un chilometro ma mi sta allargando ogni vasca ne perde vanno le voce in battello ecco questo è il primo piano sulla croce il primo piano stupendo sulla croce con Mirko Scimini Massimiliano Terramoccia Domenico Ferraro Alessandro Landini sono guidati in maniera impeccabile d'antimoniere Corrado Fanciulli 24 pali disputati con quello di oggi ne ha 26 di cui 5 l'avvocatore ma oggi vorrebbe mettere un'altra tacca è lì che sta già immaginando di mettere un'altra tacca intanto i supporters della croce hanno fatto partire un altro fumogeno perché ai 3200 metri è in testa la croce è in testa la croce stanno facendo la gara i due peggiori in assoluto perché non li vuole nessuno prima croce prima croce seconda fortezza prima croce seconda fortezza terza valle che vira in questo istante quarta pilarella quarta pilarella la croce ha un buon margine di vantaggio ma non del tutto rassicurante sulla fortezza Vittorio Patanè abbiamo oltrepassato i 3200 metri manca una sola virata manca una sola virata mancano 800 metri la croce la vedo la vedo molto bene molto sciolta molto sicuro di sé e poi in questi momenti chi va avanti dal punto di vista psicologico sicuramente è avvantaggiato c'ha più motivazione in valle ho l'impressione che a Carlo Costanzo gli dovrebbe fare un'altra volta muro muro pure quest'anno e allora per dire che qualcuno insomma c'è stato qualche problema e questo mi dispiace al di là di tutto come diceva qualche telecolonista davvero importante e famoso cari amici vicini e lontani ovunque voi siate godetevi gli ultimi 800 metri del palio marinario dell'argentario perché la croce sta imprimendo il ritmo per tornare sul trono del palio marinario dell'argentario la croce sembra sembra non fermarsi più malgrado la fortezza non molli malgrado la fortezza non molli ma la croce che manca al successo dal 2011 non deve mollare perché per i vasti condi deve mantenere questa andatura croce che non vince dal 2011 sono trascorsi esattamente 2557 giorni e allora vediamo i supporters della croce che stanno esultando anche sotto la nostra postazione oramai è davvero vicino il successo per la croce croce del capitano Claudio Dubbiosi della presidente Antonella Galatolo e con l'equipaggio che è composto dall'esperto timoniere Corrado Fanciulli dal primo reme Mirko Cimini dal secondo reme Massimiliano Terramoccia dal terzo reme Domenico Ferraro dal quarto reme Alessandro Landini questa è l'ultima virata l'ultima virata per la croce 3600 metri 3600 metri Pignatelli è scatenato Luciano Pignatelli è scatenato ha preso in largo la croce sono gli ultimi 400 metri dolci meravigliosi da carezzare da gustarsi sono i 400 metri più belli della vita i 400 metri indimenticabili non mollano non mollano ma sanno che la gloria è lì dopo 400 metri c'è la gloria sta preparando sta preparando la bandiera Corrado Fanciulli sta preparando la bandiera sono 400 metri sublimi sublimi mamma mia ci sono voluti 2557 giorni ma adesso la croce gode la croce gode perché sta vincendo un palio strepitoso davvero onore alla croce onore alla croce un palio meraviglioso croce superba superlativa immensa abbiamo ancora altri aggettivi sì ne abbiamo ancora altri perché la croce è imprendibile e lui non molla amici degli spettatori non molla Corrado Fanciulli è troppo esperto gliel'ha detto abbiamo vinto ma non molliamo abbiamo vinto ma non molliamo perché dobbiamo arrivare in gloria dobbiamo arrivare correre rischi vediamo la fortezza non ci sta la fortezza non ci sta meravigliosi anche questi ragazzi con Alessio Ferraro il Timoniere e poi Andrea Benedetti Mario Rossi Alessandro Benedetti e Tommaso Picchianti ma la croce vede la gloria è là dove c'è il porto Santo Stefano al Moletto mamma mia la gloria è lì guardate questa immagine porto Santo Stefano e la gloria è il palio guardate Corrado Fanciulli con un mini ombrello bianco rosso magnifica questa immagine magnifica non era una bandiera non era una bandiera è un mini ombrello c'è anche la bandiera della croce c'è anche la bandiera della croce ombrello e bandiera questo palio passerà la storia per l'ombrello e la bandiera del Timoniere Corrado Fanciulli la bandiera e l'ombrello di Corrado Fanciulli vince la croce vince la croce croce campione croce campione croce campione croce campione immensa croce immensa croce una gara strepitosa una gara supplime una gara immensa super super croce i compimenti a Luciano Pignatelli microfono microfono mamma mia meravigliosa croce che splendida gara amici telespettatori una gara incredibile incredibile Luciano Pignatelli avete vinto un palio meraviglioso impeccabili impeccabili guardate la festa della croce guardate che bellissimo però ve l'avevo detto che si vinceva bellissima immagine la croce la croce ha affondato il guzzo come la tradizione ha affondato il guzzo la mia fortezza ha fatto veramente una bella gara fortezza seconda terzo palle quarta pilarella fuori dalle tensioni fuori da cui ti saluta Luciano Pignatelli grazie per essere stato con noi corre in comune a festeggiare è tanta roba nel palio un minuto davvero ti fa camminare muro muro straordinario palio fino ai 1600 metri tre equipaggi alla pari guardate bellissime queste immagini dal drone che meraviglia che meraviglia rifacciamoci gli occhi di tale bellezza di tale festa è un palio straordinario bellissimo ringrazio tutti i tecnici di Arezzo TV per queste immagini davvero suggestive meravigliose analisi analisi a caldo del palio analisi a caldo del palio Carlo Costanzo siete stati competitivi per 1600 metri forse 2000 poi la croce ha dettato un ritmo superiore come abbiamo detto sarei stato un palio a tre fine di 2000 metri era un palio a tre la pilarella te l'avevo detto che era fuori da giochi dall'inizio dai tempi che aveva fatto non è che si prendono i tempi perché ci sono i tempi e dicono la verità valle e croce erano un po' meglio dell'altro la fortezza si è dimostrata grande equipaggio perché era la seconda scusa se ti disturbo ma guarda che delirio di festa sotto il comune vai prosegui Carlo no giustamente poi la fortezza ha fatto un grande palio arrivando secondo arrivando a 8-9 secondi dalla croce il valle è proprio staccato però è stato un palio più di 2000 metri abbastanza equilibrato il valle secondo me ha ceduto un po' troppo dopo il 1600 non capisco perché perché secondo i 2000 il valle ce l'aveva forte quello mi capisco Paolo Baffigi terminante l'entrata è l'uscita dalla virata sì la virata perfetta ma se te è quella ti fa prendere coraggio se esci ancora più con margine di cartaggio se vedi che ti recuperano in virata sei a rincorre te no ma anche in corsia non guadagnavamo no in corsia non guadagnavamo perché avevamo anche in corsia perciò è mancato qualcosa però giustamente valle ha fatto una grande gara ci sta che purtroppo sono più forti ha fatto i su 2000 Paolo Baffigi però anche il post Gabriele Solare ha dimostrato che siete competitivi è certo abbiamo fatto la nostra gara investendo in giovane non ti ho fregato il posto non ti dimentica che sono tutti ragazzi giovanissimi e noi l'abbiamo presi addirittura a 17 anni con la firma del genitore sono venuti a votare la fortezza allora in attesa allora dei festeggiamenti vedo che chiunque adesso si butta in acqua perché l'acqua dell'argentario di Port Santo Stefano sono meravigliose festeggia la croce però Paolo prima Paolo Bracci il bello di questo palio che si vede il bello di questo palio che non fa differenza tra chi è arrivato prima e ultimo c'è una festa c'è una festa in mare il mare si ora però sotto sono solo la croce ma mare sono solidale con tutti gli equipaggi guardate come c'è più gusto essere crociaioli la maglia di quelle crociaiolo che sta festeggiando Paolo Bracci un anno fa avete fatto la grande impresa oggi si può dire quest'anno il palio 2018 è stata una grande delusione per voi della pilarella il palio è così forse la bellezza è anche questo puoi anche essere forte competitivo la fortezza l'anno scorso era la favorita quest'anno noi potevamo essere favoriti avevamo pronostici perché i campioni uscenti qualcosa non ha funzionato invece ha funzionato tutto perfettamente la croce ha fatto un gran bel palio mi complimento anche con la fortezza perché secondo me la fortezza ha fatto un palio non dignitoso ottimo veramente ottimo sono d'accordo è riuscita a stare in gara per tutte e 4.000 metri non solo è arrivata a seconda ma comunque ha tenuto testa fino all'ultimo non certo c'era la possibilità di prevaricare in una sola vasca la croce però gli è stata dignitosamente vicino Vittorio Patanè niente come al solito il palio ci ha regalato e ci regala emozioni io sono contento per la mia fortezza certo arrivare a secondi fa sempre male uno vorrebbe sempre vincere però è un equipaggio giovane che penso che ha dimostrato già di essere all'altezza e con un pochettino più di esperienza sono convinto che potrà fare bene nei prossimi anni quantomeno ha gettato buone basi mi ha sorpreso la croce la croce mi ha sorpreso in positivo nel senso che sapevo che era sicuramente tra le protagoniste però dopo i 2000 metri ha preso un altro passo ha completamente dato una scherzata sotto tutti gli aspetti a questo palio questo striscione della croce un addestatore quattro leoni per una sola gioia Vittoria volete un po' spiegarlo? un addestratore da Carletto Carletto l'addestratore e preparatore di Orbetello i quattro leoni sono i vocatori ci manca il timoniere che ci hanno messi per una sola gioia hanno vinto e giustamente chi vince ha sempre ragione questo è il problema noi come fortezza Vittorio te che sei prestato presidente nei tempi storici il secondo posto era quello che era il posto classico della fortezza noi se fossero stati in questi 77 pali messi i punti come si fa al Gran Premio o qualunque altro sport che il primo piglia 10 punti secondo 9 terzo 7 e mi sa che noi eravamo primi sul mondiale perché i secondi che abbiamo fatto noi ma infatti sono più punti della Pirarella da ultimo sono contento non lo so contarli matematicamente però era palesemente c'è un palmareste di secondi posti ma il palio non era sommagerica sono secondi posti lo so infatti quando il 15 agosto arrivi prima di quell'altro sono secondi posti sono grandi rosicate noi ce li abbiamo presi per tanti anni questo secondo stavo dicendo che è vero guarda secondo me è lungimirante la politica della fortezza ed è giusta così perché hanno già dimostrato di essere un equipaggio importante che può nei prossimi anni ultimamente i cicli che sono stati in questo millennio tenuti testa dalla vittoria della fortezza hanno sempre dato negli intervalli della perdita della fortezza una vittoria a tutti i rioni se vi ricordate si è fermata la fortezza ha vinto un anno il valle un anno la pirarella e un anno la croce poi è tornata a vincere la fortezza e ha ripianato di tre misure tutto quello che ha lasciato perché fatto vincere una volta sola gli altri rioni e tre volte di seguito ha vinto lei certo la capola non è che ti dà certezze è che tra due anni continuiamo a vincere allora abbiamo Antonio Catoni complimenti alla croce perché ha fatto una bella gara complimenti al pubblico perché a Porto Santo Stefano il pubblico è una cosa eccezionale complimenti a tutti voi vi saluto e alla prossima prossimo anno speriamo di vederci qua grazie Antonio Catoni e abbiamo Genova nel cuore e abbiamo nel cuore ovviamente per i fatti di Genova qui intanto stiamo vedendo vedendo delle immagini strepitose meravigliose con la croce che festeggia guardate bellissima l'immagine di Corrado Fanciulli che oltre alla tradizionale classica bandiera ha messo quel mini ombrellino in testa che è una bellissima idea vince sempre e poi bisogna un'annotazione sindaco ha vinto subito il suo rione lo ha detto c'è purtroppo un problema statistico ultimamente quando vince la Piroella l'anno dopo vince la Croce ah si? è un dato statistico ma era intervallata dalla perdita della Porto ricorditi che veniva 11 poi negli anni 90 ha fatto così bellissime bellissime queste immagini meravigliose ecco scusami con le telecamere siamo sotto il comune dove il timoniere Corrado Fanciulli guardate sta festeggiando è speziale allora lo chiamiamo speziale lo chiamiamo speziale guardate 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 vedo l'emozione questa è la dimostrazione è la dimostrazione che nel palio ci si emoziona sempre lui ha disputato 24 pali ma guardate che emozione che gioia perché ogni palio è storia a sé è come se si disputasse per la prima volta vero? no è del 59 59 57 speziale 57 grazie 57 bellissime queste immagini rallentate della nostra bellissime immagini questa è la croce con il timoniere Corrado Fanciulli il primo reme Mirko Cimini il secondo reme Massimiliano Terramoccia il terzo reme Domenico Ferraro il quarto reme Alessandro Landini questa è la croce ecco lo speziale lo speziale sul trono la croce è sul trono il suo timoniere è sul trono più alto vediamo complimentato tutti fanno i complimenti quanto ci ha messo Corrado Fanciulli del suo in questa vittoria secondo voi Paolo Baffici ci ha messo tanto guarda che Corrado è uno che del palio è un cultore ne sa ne sa lui te lo dico io per esperienza diretta lo so quasi perché me l'ha detto lui tutti noi tendenzialmente quando siamo a casa ci rilassiamo con buon film buona musica lui si mette la cassetta del palio e se lo riguarda qualunque esso sia si prende in palio e se lo studia anche fosse quello del 61 vedete lui i suoi in particolare se li guarda cerca di perfezionarsi è cosciente degli errori che ha fatto sicuramente è uno che è perfezionista nella croce io l'anno scorso ero qui eravamo qui tutti proprio noi come vedi si è ripetuto quello che è successo proprio un anno fa l'anno scorso Bracci con la sua vittoria è sparito Luciano è sparito ha vinto Luciano non si vede più Luciano e è naturale giusto che sia così l'anno scorso io e tutti noi avevamo visto una croce sofferente nelle girate era un altro palio se già lo speciale ci fosse stato l'anno scorso a bordo a quella barca perché c'è niente da fare una girata fatta con criterio fatta nei modi giusti aiuta l'equipaggio e fa 60 metri di più in un palio vuol dire tanta roba ora qui c'è una c'è una differenza che so proprio quei 60 metri che ti fa vedere tra che c'è stato tra la fortezza e la croce fosse stato un timoniere dell'altra volta sarebbero giocata all'ultimo all'ultimo minuto sul gavitello intanto la regia è tornata anche un attimo qua nel nostro studio vorrei sentire anche le considerazioni di Carlo Costanzo Paolo Bracci su quanto ha pesato Corrado Fanciulli in questa vittoria l'elemento di maggiore esperienza 24esimo palio 6 vinti 4 da avvocatore scusate non vorrei dire no 7 vinti 5 7 20 l'apporatore non ha mai vinto no il palio era questo Valle tra l'altro Valle croce un pochino sotto la fortezza l'unico che era un pochino perso un po' è stato il Valle che non doveva fare questo tempo ma scendere a meno a meno di 20 secondi perché il Valle in questo tempo qui non l'ha mai fatto all'allenamenti niente non è possibile poi ci sta tutto magari in gara per l'amor di Dio però il Valle in questo tempo è alto per quello che ha fatto gli allenamenti il problema l'abbiamo detto la pirarella come avevo detto all'inizio è arrivata ultima staccatissima come ti avevo detto ma all'appunto magari come tempi valevate la croce forse anche di più però la distanza conta 4.000 metri no valevamo la croce perché i tempi davano Valle e croce la fortezza un pochino staccata però fino a 1600 metri al massimo da 2000 metri siamo stati lì ma dopo non si può perdere 20 secondi nei secondi di 2000 però Carlo ha fatto i 2000 metri l'ha fatto come nelle previsioni sono altri 2000 che è cambiato è quello che noi che sapevamo che dopo andiamo forse anche secondo 2000 non capisco com'è successo non lo so non lo so comunque il paglio si è dimostrato questo un paglio a tre finché ci siamo rimasti intanto fare festa e dopo però il Valle è stato in gara bene e quando è uscito è uscito senza senza preavviso è uscito così 4 è uscito e va bene così però la croce ha militato onore alla croce che ha vinto e va bene così vediamo i ragazzi i campioni della croce stanno festeggiando sotto il comune tra poco saliranno e riceveranno il palio sotto il tripudio dei crociaioli ovvero dei supportes del rione croce questo è un momento straordinario perché praticamente passano attraverso due ali di folla osannanti e questo è davvero un altro momento indimenticabile del palio questo è realmente dedicato soltanto per chi vince per chi vince ecco questa è la virata guarda Valle questa è la prima fuori questa è la prima fuori questi sono i 400 metri la prima fuori la virata è i 400 metri questi sono gli 800 metri il Valle è la prima sì è vero certo però ha puntato troppo su un vai e vieni no e poi il microfono microfono se no non si sentono sul Valle guarda è sempre primo qui siamo agli 800 metri qui siamo agli 800 metri usciamo prima già ci danno la pirarella di là però siamo tutti e tre lì come doveva essere però la pirarella si è addrizzata molto rapidamente la pirarella la croce scusa qui siamo a 1.2 a 1.2 a 1.2 ancora ancora grande equilibrio grandissimo equilibrio ma è sempre primo il Valle sicuramente eccoci qua sì è primo però non lo so come è entrato poi io guarda l'approccio con la girata guarda lo speziale si butta sul cavicello anche il Valle lo fa pensi che ha guadagnato la croce no 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 siamo usciti benissimo siamo usciti benissimo tutte e tre la croce guadagna più non è brutta quella girata quella è buona guarda qui sembra dietro davanti la fortezza è il gioco dei caviterri guarda qui siamo già a 1.6 qui però è grande equilibrio qui eravate tre alla pari praticamente era croce Valle qui ha girato bene la fortezza la fortezza ha fatto una bella girata però da qui cambia il palio il palio cambia qui a 1.6 a 2.000 qui è cambiato il palio si mantiene quella c'è questo vantaggio che poi diventerà quello quello decisivo quello su cui costruisce la vittoria la croce ci sono i 2.000 che l'ha fatto in 12.5 come diceva Carletto la croce ha fatto il subalio la fortezza ha fatto delle belle girate effettivamente non ha perso una girata qui siamo ai 2.400 metri e qui Valle ha già perso parecchio Valle ha già perso una barca ha accusato ha accusato parecchio però qui secondo me già lui è condizionato dalla Pirarella che l'arriva che l'arriva lì da noi infatti guardi l'ultima dopo il Valle passa dalla parte di là della Pirarella però oltre che a perde nella girata perde anche in Vasca perde anche in Vasca non fa delle bellissime girate per vari motivi non è Timoniere che sbaglia a 2.800 2.800 questi siamo ai 2.800 metri 2.800 metri con la croce che oramai ha un buon margine il Valle dà l'idea di aver un po' mollato ma non molla la fortezza il vero margine lo prende ora quando va su quando va su qui siamo ai 3.200 metri entra veramente in vantaggio 3.200 metri 3.200 metri la fortezza più o meno ha mantenuto il distacco potrebbe essere sempre in gara qui la fortezza però va su di là della Pirarella perché ci viene però la Pirarella ti sta dando acqua non ti dico qui ti dico qui ti dà noia per niente la Pirarella quando arriva passiamo di là ora passiamo di là la Pirarella guarda perché ti dà acqua ecco lì ripasta di là guarda deve girare guarda si però sbaglia il Valle perché loro hanno virato ora l'ultimo ha preso largo è rimasto largo ma è chiaro che ti danno gli hanno mandato i riusi da dietro è normale no però se lui rimaneva sulla sua di traiettoria sarebbe lo spostato arriviamo all'ultima virata ultima virata 3.600 metri questa è l'ultima virata ma qui ci entra da solo qui qui hanno capito qui hanno capito di aver vinto Corrado ora appena esce appena esce gli dice abbiamo vinto non ce lo dice mai questo ma ormai l'ha capito lo vedi che è proprio avanti lo vedi è ora per qui qui siamo già a festeggiamenti il suo cavitello vince quasi sempre lì lui sempre all'uno c'ha dei punti di riferimento c'ha delle girate vince sempre lì lui al primo il primo cavitello l'è sempre piaciuto questo è stato un palio davvero meraviglioso incertissimo fino ai 2000 metri poi il valle e poi la croce scusate ha preso quel vantaggio che ha amministrato nei confronti della fortezza e che ha anche aumentato nei confronti del valle lui ha fatto la sua gara 12 mesi ma a 12.5 ha ripartato i secondi di 2000 ha perso pochissimo i secondi di 2000 ha fatto la sua gara sono altri specialmente il valle che ha perso troppi girando l'ora il valle ha girato a 12.6 12.7 un po' prende 20 secondi dalla croce può arrivare a 3-4 secondi ma non a 20 non è concepibile non va bene non va bene lì Corrado ha fatto una gestione della gara non ha cercato di da grandi distacchi si è mantenuto in quel piccolo margine e l'ha gestito per far prende fiata all'equipaggio è chiaro che poi ha dominato sulla fortezza proprio perché l'ha gestita sul filo di mezzo quando hai due barchi di vantaggio poi dopo quando ha aumentato il vantaggio pur avendo quella tattica lì è rimasto sicuro se porti quelle parate irregolari e non ti arrivano più ti ridico che quei due guzzi lì sia quello della croce che quello della fortezza sono quelli che fanno più paura uno gira a destra da solo e uno fa le virate a sinistra dall'altra parte da solo è stata è messa intorno a 24.30 28.30 nel frattempo con le immagini siamo tornati sotto il comune di Monte Argentario dove ogni sostenitore su Portez della Croce è lì pronto a festeggiare abbiamo sentito dalla voce di Amerigo Loffredo chiamare altro crociaiolo altro crociaiolo Amerigo Loffredo sarà sicuramente contento soddisfatto chiamare i propri i vocatori della croce per la festa questo è un momento davvero bello la premiazione a caldo è davvero molto bella poi dal terrazzo del comune davvero c'è un'altra location straordinaria Porto Santo Stefano anche questo di bello lo stadio del Turchese dove si svolge il palio è uno stadio naturale dove davvero sembra costruito apposta ma anche la premiazione sotto il comune ha un fascino meraviglioso certo ma è quello che aspetta la vittoria dopo lo sfogo di un anno di sofferenza vedi il valle siamo più del valle che della croce lì ma tanto poi succederà che vince il valle allora poi se lo ricorderanno quando vince il valle il bello di questo palio il bello di quando ci sono le edizioni come quest'anno che non c'è Coppa d'Oro non c'è quella tensione e quella attenzione nei confronti di uno contro tutti è stato un palio gestito da quattro rioni al meglio delle loro forze però non c'è stata una coalizione tre contro non è stato minimamente sentito la Pirarella era l'unica che doveva fare il bis per puntare la Coppa d'Oro non è che l'abbiamo detto scherzando ma lui lo sapeva che era vero che gli toccava al quarto posto Bracci mi manca mica le parole ragazzi ma uno che cambia il capovoco al primo d'agosto ma dove vuoi andare lo sapeva meglio di me che difficoltà è dicevi migliori ma che migliori ma poi hanno dovuto cambia pure l'assetto perché hanno provato a cambiare pure Murata ma non sono riusciti a tenere niente quell'altro lo metti dietro ma non va bene non si vede l'hanno percepito da loro ora si ambi il secondo e il quarto come ha fatto la fortezza a te pensa che loro sanno pure una cosa io ti dico lui da Pirarella io mi dovrebbe confermare quello che tra di loro si sono detti il Valle quando ha fatto 12 e 2 non l'ho detto prima non lo voglio manco di ma so parole della Pirarella ma lo conferma lui se è vero o non è vero dice che qui la posizione di quel giorno dei cavitelli erano pure leggermente blandi e sembra che sia agevolato nel percorso proprio da questa distanza che era minore rispetto a quello che poi quando hanno provato la croce e la fortezza ma non l'hanno detto tanto perché pur consapevoli loro l'hanno fatto lo stesso giorno hanno fatto il tempo 12 e 30 su quelli stessi cavitelli hanno fatto 12 e 30 quello l'hanno fatto un bar l'hanno fatto 12 e 20 25 e lo stesso giorno ci hanno provato loro comunque erano cavitelli e il distacco era quello e non c'era niente da fare e se l'avessero detto favorivano le emozioni degli altri due rioni perché almeno erano consapevoli che non c'era tutta sta forza nel valle vediamo anche Nazareno con la bandiera ex sindaco lui era crociaiolo con la bandiera tra l'altro ha scritto un bellissimo libro Nazareno Nalocci ex sindaco guarda Nazareno più che da sindaco perché parliamo di palio lui ha avuto un merito perché lui è stato il primo capitano del palio che ora nel nuovo statuto vorremmo tornare fuori a dire questa parola che capitano del palio ci sentiamo di più invece che altre parole lui è riuscito in quell'occasione lì a ridimensionare le riunioni che prima si svolgevano alla Bona quasi sempre finivano con l'abbandono di tre e lui c'era e Bracci lo sapeva lui è riuscito a riprendere fila in quel momento difficile dell'ente palio con un'organizzazione e una caparbietà che è riuscito veramente a mettere la disciplina si è riuscito da quel momento a mettere sul tavolo la democrazia del palio non che come si cercava invece di fare chi aveva la voce più grossa e quello che comandava e gli ha dato un merito per quel periodo lì poi oltre non ci è andato perché non è che ha investito sto ruolo per un lungo tempo ma lui è amato e lui gli piacciono le tradizioni l'avrebbe scritto comunque perché lui gli piace rievocare al passato uno di quelli che effettivamente c'è legato alle tradizioni è legato al paese e ha paura che queste tradizioni non vengano vengano perse e quando l'ha scritto Paolo dica Carlo siccome l'anno scorso i Pilar Erlai dei miei figli hanno vinto il palio mi hanno schiantato la testa tutto l'anno allora mio figlio siccome è uno che è peggio di me non è appena un bavoso di Formula 1 gli mandi qualcosa gli mandi qualcosa via Etere gli dici qualcosa via Etere in attesa di ritrovartelo ora prendessero tutti e tre figlioli prendessero le proprie cose muro muro vanno a casa ma strusciando per un minuto più di babbo più di babbo terzo ecco ascoltiamo il sindaco scusate ascoltiamo il sindaco Franco Borghini in piazzale De Rioni queste immagini sono bellissime meravigliose sono tutti del Valle rivendica rivendica la presenza del Valle anche Carlo Carlo la croce non è che purtroppo nei numeri è un rione molto piccolo molto piccolo tanto il palio delle parole sempre di Carlo e del Valle a meno quello loro sono hanno una coppa d'oro ogni anno gli diamo tre alla volta io caro mio Belbracci ti avevo comunicato il distacco stratosferico che arrivavi dopo la finanza la capitaneria il traghetto e la refla è stato così ecco il palio dipinto da malascotto mi dispiace per i vocatori perché fanno sacrificio rispetto sempre per i vocatori sempre rispetto però purtroppo i tempi erano quelli e si sono stati dimostrati quelli poi sempre rispetto per i vocatori e oggi sono quelli che hanno fatto più fatica il palio più difficile e più duro l'hanno fatto Claudio Dubbiosi prendere un minuto il palio oggi non per niente fanno tutto in casa perché pure l'artista è della croce quindi festeggia pure lei Marascotto della croce che ha dipinto il palio ed è il sindaco Franco Borghini consegna la coppa al capitano del Rione Croce Claudio Dubbiosi questa è la coppa d'oro la coppa d'oro spiegala spiegala allora per la coppa d'oro qualcuno è venuto prima e ci ha detto ricordatevi che la coppa d'oro l'ha messa Ettore Pellegrini che era il Podestà il Podestà siccome sono stati ritrovati i paesani sanno che c'era il libro mastro del palio che era di colore nero famoso libro che in una mostra in comune è sparito però tre o quattro anni fa misteriosamente sono ricomparse due o tre pagine e sono state inviate a Frigo Tortora che all'epoca pure di più di due o tre anni fa che all'epoca era capitano del palio no era delegato del palio era consigliere ma non era l'anno che era delegato mi sa che era delegato comunque da consigliere gli anni gli servizi arriva a casa queste pagine strappate da quel libro o fotocopiate non sono nemmeno sicuro in quelle pagine storiche che so del scusa se ti interrompo questa è la prima azione della croce ricordiamo il timoniere Corrado Fanciulli il primo reme Mirko Cimini il secondo reme Massimiliano Terramoce il terzo reme Domenico Ferraro il quarto reme Alessandro Landini questo è Rione Croce che ha vinto il palio del 15 agosto 2018 il palio del 177 bello abbraccio tra il sindaco Franco Borghini e il timoniere Corrado Fanciulli la croce esulta la croce esulta vediamo anche Gianni Galato il presidente del palio il comandante del palio Claudio Dubiosi il capitano della croce vediamo Alessandra Chiocca delegata dell'ente palio sono momenti di grande festa bellissimi straordinari ovviamente stanotte si guarda grande festa Arione Croce per tutta la notte era Schiavi che era l'ex capitano della croce stavi dicendo stavo dicendo per la Coppa d'Oro all'epoca nel 1938 sono ritrovate le pagine di questo di questo riassunto di svolgimento di gara e diceva che il primo arrivato prendeva in premio una coppa di colore d'oro allora si è scambiato questa storicità questo evento storico come se fosse la prima messa a gara della Coppa d'Oro ma era riferito esclusivamente al colore ma non era la regola della Coppa d'Oro anche Antonella Galatolo Antonella Galatolo la presidente della Croce prosegui con questa ricostruzione storica quindi questa ricostruzione storica ci ha fatto capire che all'epoca era riferito semplicemente al colore ma non ha istituito il premio per com'è perché il premio lo istituì Gasperini Gasperini il convento Gasperini che stava nella torre di Lividonia lui aveva a casa una coppa che è quella la prima Coppa d'Oro del Palio che l'aveva vinta una manifestazione canina lui era andato col suo cane ha partecipato a questo concorso e ha ricevuto un premio questa Coppa d'Oro non è che ci tenesse particolarmente però lo ispirò avendola a casa a metterla a disposizione per il comitato festeggiamenti dicendo che quella Coppa di placata in oro e di rappresentava la Coppa d'Oro la potesse ricevere ogni anno chi vince il Palio ma la poteva tenere definitivamente chi il Palio lo vinceva per tre edizioni di fila e fu lui che aveva questa idea da quel momento la vinse il Valle il Magico Valle il Magico Valle e senti cosa ci cognolo al capovuoco noi abbiamo vinto sei di fila sei di fila sei di fila allora ci avviciniamo alla parte finale dove praticamente ci staccheremo dalla diretta ma i canali televisivi proporranno a ripetizione la parte finale del Palio quindi la gara vera e propria chiedo a Greta Settimani di raggiungerci che la direttrice guarda che c'è guarda che fortezzaiolo che c'è chi è il bimbo è uno spettacolo è suo figlio il microfono chi è il bimbo stupendo è suo figlio di Benedetti il figlio di Andrea Benedetti il figlio di Andrea Benedetti meraviglioso quando vedi un bimbo il primo reme queste sono immagini che rimarranno nella storia quando il bimbo sarà grande ha capito che volevo dire guarda in fasce perché quello è un bimbo in fasce io ti dico è una cosa della mia vita nel Palio quando vedo le foto c'ero e ti dico che fa piacere e anche questa è tradizione che si tramanda io immagino quando quel bambino avrà vent'anni che vedrà queste immagini è vero che noi oggi 15 agosto 2018 stiamo commentando in diretta questo che vediamo premiare a parte lei Patrizia Minutolo il suo marito è De Carolis lo conosce sì certo e lui è uno dei proviberi di quelli che sono stati nominati a inizio anno a dirimere le questioni del Palio è lì presente in qualità di osservatore perché qualora ci dovesse essere un ricorso lui esaminerà il ricorso Angelo Fanciulli come ti sembra soddisfatto? Angelo Fanciulli certo lui si accontenta lui si accontenta manco quando vince però questo secondo posto sa benissimo che se l'è meritato e se lo piglia con chiarezza quindi è stata primata a fortezza adesso il Valle Greta Settimelli direttore di Arezzo TV che bello allora darci un po' le conclusioni le tue considerazioni al termine di questa diretta lunghissima durata ore abbiamo iniziato a trovare 15 in diretta sono per chi è in diretta perché poi ovviamente si vedrà in replica quasi le 20 e 25 allora intanto una decina di minuti e poi veramente dobbiamo salutare perché insomma anche gli amici del satellite ci saluteranno è stata una diretta bella ma anche faticosa io lo dico dal punto di vista tecnico c'è stato un bel temporale nel mezzo non ci siamo fatti mancare nulla e quindi ancora grazie al nostro staff tecnico davvero mi emozionate con queste parole perché pensare che le immagini che voi commentate con così tanto ardore sono realizzate dalla nostra struttura ci fa veramente molto piacere è stato un bel paio io ho visto dall'esterno anche abbastanza equilibrato forse l'unica la pilarella che non è subito entrata in gara ma se no io insomma non sono un tecnico però è stato un bellissimo paio bellissimo paio quindi io ovviamente adesso andrà tutto in replica quindi sia sui canali satellitari che su Arezzo TV tantissime le persone collegate in diretta streaming veramente tante quest'anno e quindi il web forse ha fatto un po' anche la differenza e niente grazie a voi per aver portato con la vostra voce grazie a voi per lo sforzo e anche per aver saputo arginare la difficoltà imprevista di quell'acquazzone che ci ha messo un po' in crisi ci ha costretto a interrompere la diretta ma soltanto per pochi minuti abbiamo cambiato location poi siamo tornati qua tutti impeccabili questo è sinonimo di professionalità ma non lo dico perché noi siamo io sono esterno all'imittente ma aspetta fammi finire è sintomo di professionalità ma anche di volontà di fare le cose c'è la fierezza di esserci la professionalità ma non la voglia non la volontà la fierezza di esserci non sofferisce a difficoltà come quella odiana quindi davvero complimenti a tutti voi perché vuol dire che ognuno ha fatto in pieno la propria parte Paolo ti volevo interrompere a Leli volevo chiedere una cosa tecnica che sicuramente non è una cosa di grandi difficoltà da realizzare io so anni che lo dico stavolta te lo chiedo in diretta da quando c'è lo sparo che inizia il palio se per favore riuscite a mettere di contorno a queste meravigliose immagini un cronometro almeno sappiamo quanto dura quanto siamo alla prima virata ci dobbiamo sempre riguardo intorno se te lo ricordi non è che sia un'innovazione però ti ricordo che noi italiani nelle partite di calcio siamo stati gli ultimi a capire quando era primo secondo tempo chi vinceva quel piccolo primo tempo 20 secondi 1 a 0 a me mi sembra realizzabile anche nel mondo del palio io prendo l'impegno in diretta soprattutto spero vivamente l'anno prossimo di essere ancora qui con voi con la nostra struttura non sarà assolutamente un problema e lo faremo molto molto volentieri grazie ancora a voi a questo bellissimo splendido insomma angolo di Toscana grazie Greta Settimeli direttrice di Arezzo TV Paolo Bracci le conclusioni Carlo Costanzo è al telefono perché siamo in diretta ovviamente i messaggi telefonati arrivano in continuazione ha finito Carlo Costanzo andiamo per ordine Carlo Costanzo Paolo 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 Bracci andiamo al sessantino che dire ho chiuso le parole al di là di tutto è sempre una grande e bella giornata al palio merito a chi ha vinto complimenti a chi ha vinto tutti gli altri tre dal secondo al quarto dovranno ragionare i prossimi 365 giorni su come arrivare prima degli altri e questo è il bello del palio ora da qui in avanti da domani ragioneremo tutti molti recriminando molti facendosi come dire qualche mia colpa però cercando di migliorarlo perché il palio è anche questo migliorarsi e fare cose sempre al meglio possibile abbiamo ancora tre minuti per sentire Carlo Costanzo e Vittorio Patanè allora è una gara fantastica come avevamo detto un palio a tre che poi si è dimostrato a uno all'ultimo di basket perché la croce ha preso il via la pilarella era già staccata si sapeva la fortezza ha fatto meglio del valle che non me l'aspettavo la croce poteva vincere perché era una delle favorite fra noi e loro e poi che ti devo dire ora al valle ci siamo un po' stufati ora ora è il momento ora è il momento di prendere veramente in mano la situazione di fare un super equipaggio e cominciare noi a vincere ecco noi andiamo a Castel del Piano se vinceva la pilarella e ti ho detto che la pilarella arrivava ultima perciò l'altro anno va a Castel del Piano segui quel palio benissimo e noi guardiamo qua te lo ricordo io e ti mancano le parole a te dopo che ha parlato lui ti chiudi dicendo non è in ordine ma in consiglio a chi ha organizzato tutto questo allora Vittorio Patanè è diventato molto più difficile organizzare un palio Vittorio Patanè allora visto che sono le ultime considerazioni intanto ti ringrazio dell'invito ho passato una bellissima giornata ho ritrovato tanti amici ho ritrovato tante persone poi nella festa che maggiormente mi ha sempre affascinato ed emozionato che è quella del palio e con una doppia cosa quella di solito o lo vedevi in televisione e sentivo la tua voce oppure se no lo vedevo direttamente quest'anno ho avuto la possibilità di vederlo direttamente sentendoti quindi sono stato doppiamente fortunato ringrazio anche le persone che sono intervenute che sono anche degli amici complimenti alla Croce ma anche complimenti alla Fortezza al Valle e alla Pirarello grazie Vittorio Patanè Paolo io volevo solo dire una cosa abbiamo fatto l'onore ai vocatori ai rioni è anche doveroso dire che organizzare una manifestazione come questa è diventato molto molto impegnativo l'entepalio l'entepalio ha partecipato con un servizio di sicurezza che hanno visto dispiegato con quelle pettorine questa è una delle incombenze che si è preso in capo anche l'entepalio anche questo non era mai successo un'entepalio di ringraziamento a Paolo Mastracca grazie Paolo grazie a voi grazie a voi anche noi ti ringraziamo grazie a voi e siamo contenti che sei con noi ringraziamo anche il Tivarezzo che hanno lavorato fortemente è stato un piacere essere qua a Ferragosto a Porto Santo Stefano con grandi amici come Luciano Pignatelli che sta festeggiando Paolo Baffici Carlo Costanzo Paolo Bracci grazie Paolo Batticinque amico da sempre Vittorio Patanè grazie un bacio a tutti e viva il palio bel Ferragosto all'Argentario noi ci vediamo il prossimo anno grazie a Rezzo TV grazie a chi si è impegnato ciao sono partiti è partita finalmente ancora questa stessa equilibrio ha un buon vantaggio sta guadagnando sta guadagnando colpo di scena ai 400 metri colpo di scena a Fettone Valle Filiarema con terza croce per entrare nel viso nella leggenda in ciò che sarà incancellabile per sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.